capitolo primo de le meraviglie del duemila questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni di librivox sono di pubblico dominio per maggiori informazioni o per sapere come diventare volontari visitate il sito librivox.org registrato da riccardo fasol le meraviglie del duemila di emilio salgari capitolo primo il fiore della risurrezione il piccolo battello a vapore che fa il servizio postale una volta alla settimana fra nuova york la più popolosa città degli stati uniti d'america settentrionale e la piccola borgata dell'isola nantucket quella mattina era entrato nel piccolo porto con un solo passeggero accadeva spesso durante l'autunno terminata la stagione balneare che rarissime persone approdassero a quell'isola abitata solo da qualche migliaio di famiglie di pescatori che non s'occupavano d'altro che d'affondare le loro reti nei flutti dell'atlantico signor brandok aveva aggredato il pilota quando il battello a vapore s'era ormeggiato al ponte di legno siamo giunti il passeggero che durante la traversata era rimasto sempre seduto a prora senza scambiare una parola con nessuno s'era alzato con una certa aria annoiata che non era sfuggita né al pilota né ai quattro marinai i divertimenti di nuova york non lo hanno guarito dal suo spleen mormorò il timoniere del piccolo battello volgendosi verso i suoi uomini eppure che cosa manca a lui bello giovane e ricco se fossi io al suo posto il passeggero era di fatti un bel giovane tra i venticinque e i ventott'anni di statura alta come sono ordinariamente tutti gli americani questi fratelli gemelli degli inglesi coi lineamenti regolarissimi gli occhi azzurri ed i capelli biondi aveva invece negli sguardi un non so che di triste e di vago che colpiva coloro che lo avvicinavano e nelle sue mosse qualcosa di pesante e di stanco che contrastava vivamente col suo aspetto robusto e florido si sarebbe sospettato che un male misterioso minasse la sua gioventù e la sua salute nonostante la bella tinta rosea della sua pelle quella tinta che indica la ricchezza e la bontà del sangue delle forti razze anglosassoni come abbiamo detto udita la voce del pilota il signor brandok si era alzato quasi a fatica come se si risvegliasse in quel momento da un lungo sonno sbadigliò due o tre volte gettò uno sguardo assonnato sulla riva toccò appena la tesa del suo cappello per rispondere al saluto rispettoso dei marinai e scese lentamente sul pontile di legno invece di dirigersi verso la borgata le cui casette s'allineavano a 200 passi dal porticciolo si mise a camminare lungo la spiaggia con le mani affondate nelle tasche dei pantaloni e gli occhi semichiusi come fosse in preda ad una specie di sonnambulismo giunto all'estremità della borgata si fermò e aprì gli occhi fissandoli su un gruppo di monelli scalzi ad onta dell'aria frizzante che si rincorrevano lungo le dune ridendo e schiamazzando ecco degli esseri felici mormorò con un tono di invidia essi almeno non sanno che cosa sia lo spleen stette qualche istante immobile poi scosse il capo mandò un lungo sospiro e riprese la passeggiata per fermarsi alcuni minuti dopo dinanzi a una bella casetta a due piani tutta bianca con le persiane verniciate e un giardinetto chiuso da una cancellata in legno che cosa farà il dottore mormorò guardando le finestre starà tormentando qualche cavia o qualche povero coniglio il segreto di poter rivivere dopo cent'anni bell'idea io credo che quel buon toby perda inutilmente il suo tempo eppure egli è molto più felice di me tornò a sospirare attraversò lentamente il giardinetto il cui cancello era aperto e salì la scala senza quasi rispondere al saluto di una grassa e rubiconda fantesca che gli aveva gridato dalla cucina buongiorno signor brandok il mio padrone è nel suo studio il giovine era già al secondo piano aprì una porta ed entrò in una stanza piuttosto vasta e ben illuminata da due ampie finestre tutta circondata da scaffali di noce pieni di un numero infinito di storte e di bottiglie variopinte nel mezzo curvo su una tavola vi era un uomo sui cinquantacinque anni di forme quasi erculee con una lunga barba un po' brizzolata e tutto intento ad osservare un coniglio che pareva a prima vista o morto o addormentato udendo aprirsi la porta si levò gli occhiali e si voltò con una certa vivacità esclamando con voce giuliva ah sei tornato amico james ti sei stancato presto di nuova york mi pare che tu non abbia un'aria molto soddisfatta il giovine si lasciò cadere sopra una sedia che si trovava presso la tavola e rispose con un mesto sorriso dunque chiese l'uomo attempato dopo un breve silenzio sono più annoiato di prima ed è un miracolo che sia qui rispose brandok perché avevo già deciso di fare un bel salto dal faro della libertà di sfracellarmi sul molo una brutta sciocchezza mia caro james a 26 anni con un milione di dollari e cento milioni di noia che mi fa sbadigliare da mattina a sera disse il giovine interrompendolo la vita diventa ogni giorno più insopportabile finirò per sopprimermi un viaggio all'altro mondo non mi dispiacerebbe forse la mannoierò meno viaggia in questo mondo amico dove vuoi che vada toby disse brandok ho visitato l'australia l'asia l'africa l'europa e mezza america che cosa vuoi che vada a vedere il dottore si era messo a passeggiare per la stanza con le mani dietro al dorso la testa bassa come se un profondo pensiero lo preoccupasse ad un tratto si fermò dinanzi al coniglio dicendo james ti piacerebbe vedere come camminerà il mondo fra cent'anni il giovane brandok aveva alzato la testa che teneva inclinata su una spalla interrogando il dottore con lo sguardo sì riprese toby io voglio vedere che cosa sarà l'america fra venti lustri chissà quali meraviglie avranno inventato allora gli uomini macchine straordinarie navi colossali palloni dirigibili e mille altre cose strabilianti ormai il genio umano non ha più freno e gli inventori nascono come i funghi hai trovato finalmente il modo di prolungare la vita chiese brandok con tono leggermente ironico di fermarla invece oh ne vuoi una prova possibile che tu abbia fatta una simile scoperta esclamò brandok con stupore so che tu da molti anni ti dedichi a certi esperimenti e sono pienamente riusciti disse il dottore vedi questo coniglio è morto no dormi da 14 anni è impossibile fra poco te lo farò risuscitare con una semplice puntura e un bagno tiepido quale filtro misterioso hai scoperto non ti prendi gioco di me toby a quale scopo chiudiamo le porte perché nessuno ci oda o ci veda e tu assisterai ad una risurrezione meravigliosa fece girare le chiavi chiuse un po le finestre accostò una sedia al tavolino e dopo aver offerto al suo giovine amico un sigaro disse ascoltami ora poi verrà l'esperimento toby dopo essere stato alcuni momenti silenzioso raccolto in se stesso si era alzato per prendere da uno degli scaffali un vaso di vetro contenente una piccola pianta disseccata che pareva unica nel suo genere ne hai mai veduta una simile amico james il giovine brandok guardò il dottore con una certa sorpresa dicendo vorrei sapere che cosa c'entra questa pianticella coi conigli che dormono da tanti anni immagino che non avrai l'intenzione di aumentare le mie noie niente affatto riprese toby imperturbabilmente tu dunque non conosci questo fiore quantunque tu abbia assai viaggiato sai bene che io di botanica non me ne sono mai occupato allora non hai mai udito parlare del fiore della risurrezione no mai disse il giovine ascoltami dunque la storia è interessante e non t'annoierà 50 anni or sono un mio collega il dottor deck viaggiava nell'alto egitto con lo scopo di trovare un'antica miniera di metalli in cui lavoravano un tempo dei sudditi dei faraoni un giorno incontrò un arabo infermo ed il dottore lo curò amorosamente salvandogli la vita il figlio del deserto era povero eppure volle ricompensare il suo salvatore dandogli un tesoro che da solo valeva tutte le pietre preziose del mondo in che cosa consisteva chiese brandok che cominciava ad interessarsi vivamente a quel racconto che assomigliava ad uno di quelli delle mille ed una notte in una piccola pianta disseccata che dall'arabo era stata scoperta in una antichissima tomba nel seno di una sacerdotessa egiziana che per bellezza non aveva avuto uguali il dottor deck ascoltando i pomposi elogi fatti a quel piccolo fiore sepolto chissà quanti secoli prima dell'era cristiana e che portava dei bottoncini arsi dal sole ed ingialliti non aveva potuto trattenersi dal sorridere ed io avrei fatto altrettanto disse brandok ed avresti avuto torto disse toby poiché l'arabo prese la pianta la bagnò con alcune gocce d'acqua e sotto gli sguardi del dottore si compì un prodigio meraviglioso la pianta appena sentì inumidirsi cominciò a fremere poi ad agitarsi i suoi tessuti si raddrizzarono e i suoi bottoni si gonfiarono poi si schiusero il fiore a poco a poco sbocciava dopo venti secoli e più di sonno svolgendo i suoi leggeri petali i quali si distendevano come raggi superbi intorno ad un punto centrale pieni di eleganza e di freschezza strano fenomeno esclamò brandok che pareva avesse dimenticato il suo spleen quel fiore proseguì il dottore assomigliava ad una margherita raccolta in qualche giardino incantato quella risurrezione misteriosa durò parecchi minuti poi il fiore a poco a poco rovesciò la sua corolla dalle tinte iridescenti scoprendo in mezzo ai petali alcuni granelli antichissimi ahimè la preziosa semente che il fiore della risurrezione custodiva con tanta gelosa cura da tanti secoli era irrimediabilmente sterile a quale suolo affidare quei granelli quale sole avrebbe potuto tenerli in vita sorpreso e ammirato il dottore portò seco la meravigliosa pianta e rinnovò in europa centinaia di volte l'esperimento del vecchio arabo e sempre il piccolo fiore del deserto la pianta misteriosa degli antichi faraoni risuscitò nella sua immortale bellezza mercè alcune gocce d'acqua morendo il dottor deck regalò il fiore della risurrezione al discepolo ed amico suo james il quale ripete anche egli con uguale successo la prodigiosa esperienza infine il fiore della pianta egiziana venne offerto ad alessandro humboldt ed il grande naturalista lo risuscitò più volte davanti ai suoi dotti colleghi fra le sue mani la pianta misteriosa non fece che rinascere e morire senza che egli potesse penetrarne i segreti ad ogni operazione ripeteva con la tristezza del genio impotente nulla c'è in natura che somiglia a questa pianta e nessuno ha mai potuto penetrare il mistero di quella pianta che tolta dal sepolcro dopo migliaia di anni risuscitava grazie ad una goccia d'acqua e riapriva la sua corolla eternamente bella come per dire al mondo ecco come ero al tempo dei faraoni chiese brandok sì uno solo io disse toby tu sì io ripetè il dottore dunque adagio questo è un segreto durante un viaggio che feci venticinque anni or sono in egitto potei avere uno di quei fiori e studiare e anche spiegare i misteri della sua risurrezione e da quel fiore mi è sorta l'idea di fermare la vita umana per farla risvegliare dopo un numero più o meno lungo di anni perché se poteva rivivere un umile fiorellino non avrebbe potuto fare altrettanto un organismo così completo come quello dell'uomo ecco la domanda che mi rivolsi e alla cui soluzione impiegai venticinque anni di studi ininterrotti e ci sei riuscito pienamente rispose toby s'era alzato avvicinandosi al tavolino e aveva preso fra le mani il coniglio che pareva morto avendo le gambe e la testa irrigidite ha odore questo animale? fiutalo James credi che sia morto? è freddo e il cuore non batte più eppure la sua vita non è altro che sospesa da quattordici anni è dunque la morte artificiale che hai scoperto una semplice puntura del mio filtro misterioso è bastata per fermare le pulsazioni del cuore di questo animale e per conservarlo per un così lungo tempo è meraviglioso forse meno di quello che sembra disse il dottore sai che cosa sono i fakiri? dei fanatici indiani che eseguono degli esperimenti meravigliosi e che si fanno seppellire talvolta per quaranta e anche cinquanta giorni entro una cassa sigillata con la bocca e le narici turate da uno strato di cera e che poi risuscitano senza aver l'aspetto d'aver sofferto un bagno nell'acqua calda un po' di burro sulla loro lingua per renderla più pieghevole ed eccoli ritornare alla vita ora vedrai prese da uno scaffale una piccola fiala di vetro che conteneva un liquido rosso vi immerse una siringa poi punse replicatamente il coniglio la prima volta in direzione del cuore e la seconda volta alla gola l'animale non aveva dato alcun segno di vita ed aveva conservata la sua rigidezza aspetta james disse il dottore vedendo apparire sulle labbra del giovine un sorriso d'incredulità in un angolo vi era un bacino di metallo sotto cui ardeva una lampadina ad alcol il dottore vimmerse un dito per assicurarsi del calore dell'acqua poi levò la vaschetta deponendola sulla tavola fai fare un bagno al morto chiese brandok cioè all'addormentato corresse il dottore è necessario allentare a questo dormiglione i nervi che da tanti anni non agiscono più se tu riesci a far rivivere questo animale io ti proclamo il più grande scienziato del mondo non esigo tanto rispose toby ridendo immerse il coniglio nel bacino tenendogli la testa fuori dell'acqua poi si mise ad alzare ed abbassare le gambe anteriori come per provocare la respirazione e aspettò guardando l'amico che si era fatto tutto serio pare che tu cominci a credere al buon risultato della strana operazione gli disse il dottore è vero james non ancora rispose il giovine eppure sento che la testa del coniglio comincia a diventar calda effetto del calore dell'acqua e che la carne freme non vedo muoversi le gambe ad un tratto mandò un grido di stupore il coniglio aveva aperti gli occhi e fissava il dottore con le pupille dilatate ti sembra morto ora disse toby con accento beffardo ti guarda esclamò il giovine lo vedo agita le zampe e respira anche miracolo miracolo zitto james non gridar tanto forte è meravigliosa questa risurrezione non dico di no una scoperta che metterà sossopra il mondo niente affatto perché io mi guarderò bene dal divulgarla non siamo che in tre sole persone a conoscerla io tu ed il notaio del borgo quell'eccellente signor max perché la conosci anche il notaio chiese a brandok lo saprai più tardi guarda il risultato per ora aveva levato dalla vaschetta il coniglio e l'aveva messo sul tavolino avvolgendolo in un pezzo di stoffa di lana l'animale aveva gli occhi aperti respirava liberamente raggrinzando il naso però si vedeva che era debolissimo non riuscendo a reggersi sulle zampe né cercava di fuggire doveva essere istupidito non morrà chiese brandok stasera lo vedrei mangiare e correre assieme ai suoi compagni che tengo giù nel mio giardino non è il primo che io faccio risuscitare la settimana scorsa ne ho fatto rivivere un altro dinanzi al notaio ed anche quello dormiva da quattordici anni ora mangia saltella e dorme come gli altri e tutti i suoi organi funzionano perfettamente bene toby esclamò brandok con profonda ammirazione tu sei un grand'uomo tu sei il più grande scienziato del secolo di questo o dell'altro chiese il dottore che domanda è questa mio caro James tu devi aver fame ed il pranzo è pronto l'aria di mare mette appetito e la mia vecchia Maggie mi ha promesso un superbo piatto di pesce lasciamo qui il coniglio e andiamo a riempirci lo stomaco la cuoca sarà già arrabbiata per il ritardo avremo anche il notaio al pudding perché il notaio il dottore invece di rispondere si affacciò alla finestra e vedendo un garzone che stava innaffiando le zolle del giardino gli gridò tom avverti Maggie che siamo pronti per assaggiare le sue triglie e le sue dorate e per le due attacca il pony dobbiamo fare una gita allo scoglio di Rez cinque minuti dopo il dottore e signor Brandock seduti in una elegante saletta da pranzo dinanzi ad una tavola bene imbandita gustavano con molto appetito le grosse ostriche di New Jersey le più deliziose che si trovino sulle coste orientali dell'America settentrionale le dorate e le triglie preparate dalla brava Maggie innaffiando le une e le altre con dell'eccellente vino bianco dei vigneti della Florida il dottore non parlava pareva tutto intento a divorarsi quei deliziosi pesci i migliori forse che possegga l'Atlantico settentrionale Brandock invece cosa assolutamente nuova sembrava che non fosse più tormentato dallo spleen chiacchierava per due tempestando il compagno di domande su quella meravigliosa scoperta che doveva sentir lui portare la rivoluzione nel mondo con tutto ciò non riusciva che a strappare qualche sorriso allo scienziato dunque queste triglie e queste dorate ti hanno reso muto gridò ad un tratto Brandock che cominciava ad arrabbiarsi sono venti minuti che i tuoi denti continuano a masticare che invece la tua lingua rimane immobile no mio caro James io penso rispose il dottore ridendo pare che tu abbia dimenticato la tua scoperta tutt'altro allora parliamone al Padding che cosa c'entra quel pasticcio ti ho detto che verrà ad assaggiarlo anche il notario della borgata quel bravo signor Max ma insomma che cosa c'entra a lui perdenci se c'entra se dopo cent'anni nessuno più si ricordasse di me e mi lasciassero dormire per sempre tanto varrebbe morire Toby esclamò Brandock che cosa hai intenzione di fare vedere come camminerà il mondo fra cent'anni e null'altro come tu vorresti fare un sonno di venti lustri sei pazzo non lo credo rispose il dottore con voce tranquilla Brandock aveva picchiato sulla tavola un pugno così violento da far traballare i bicchieri e rovesciare una bottiglia tu vorresti gridò farmi rinchiudere nel rifugio che mi son fatto preparare sulla cima dello scoglio di Rez per risvegliarmi fra cento anni mio caro si incaricheranno i discendenti del notaio e il futuro sindaco di Nantuchetto o i suoi successori a farmi ritornare in vita lascio ventimila dollari appunto per farmi risuscitare unitamente alla fiala contenente il misterioso liquido che mi dovranno iniettare nei punti indicati nel mio testamento ti ucciderai allora vuol dire che tu non hai alcuna fiducia nella mia grande scoperta si piena fiducia però tu non sei un coniglio e poi cento anni non sono quattordici disse Brandock abbiamo sangue e muscoli al pari delle bestie e un cuore che funziona ugualmente volevo farti la proposta di addormentarti con me ora vi rinunzio tu hai pensato a me sì sperando che con un riposo di cento anni il tuo spleen finirebbe per andarsene se l'altro giorno volevo gettarmi dal faro della libertà vedi in quale conto ormai tengo la mia vita mi vuoi per compagno Toby sono pronto anche se morissi non perderai nulla dunque ti piace la mia idea sì francamente sei eccentrico come un vero inglese e non sono forse un inglese disse brando il dottore salzò andò a prendere su una mensola una polverosa bottiglia che doveva contare un bel numero d'anni e la sturò empiendo i due bicchieri medoc del 1888 disse dopo 24 anni di riposo deve essere diventato eccellente alla nostra risurrezione nel 2003 esclamò alzando il bicchiere lo svuotò di un fiato stette qualche minuto sopra pensiero poi disse quanto possiedi James 5 milioni di lire in cartelle dello Stato sì devi cambiarle in oro amico mio fra cent'anni quelle cartelle potrebbero non avere più valore alcuno mentre invece l'oro rimane sempre oro sia che si trovi in virghi o in pezzi da ventidire io posseggo soltanto 80 mila dollari tuttavia spero che mi basteranno anche fra cento anni per non morire di fame sono già a posto nel piccolo sotterraneo che ho fatto scavare sotto la mia tomba in una cassaforte con la chiave a segreto e sei certo che i nostri corpi si conserveranno meravigliosamente disse il dottore ci conserveremo come fossimo carni gelate geleremo sì chi metterà del ghiaccio nella nostra tomba non ce ne sarà bisogno ho scoperto un certo liquido che abbasserà la temperatura della nostra tomba a 20 gradi sotto lo zero e si manterrà finché non sfonderanno la nostra cupola di cristallo per farci risuscitare staremo benissimo là dentro te lo assicuro ah ecco quel bravo notaio giunge a tempo per assaggiare il padding della mia cuoca e per vuotare un bicchiere di questo delizioso medoc nella stanza vicina aveva udito maggie che gridava è sempre in ritardo signor max cinque minuti ancora e non assaggiava più il mio padding un'altra volta me lo farà bruciare la porta del salotto s'era aperta fragorosamente ed il notaio era entrato con un passo così pesante da far traballare le bottiglie di bicchieri il signor max era un uomo sulla sessantina grasso come una botte e col viso rubicondo nel cui mezzo faceva bella mostra un naso che poteva stare a paragone senza arrossire con quello del guascone sirano di bergerac buon appetito signori gridò con una voce da granatiere come va signor brandock v'è passato lo splin dopo la vostra gita a nuova york comincia a lasciarmi un po' di tregua signor max risposi giovine e spero che fra alcuni giorni se ne starà tranquillo per un buon secolo poi vedremo ah ho capito disse il notaio ridendo toby ha trovato un compagno che mi terrà buona compagnia disse il dottore empiendo un bicchiere assaggiate questo medoc mio caro notaio non se ne trova di simile nemmeno in francia maggie entrava in quel momento portando su un piatto d'argento un bel pasticcio dalla crosta dorata che fumava ancora e che spandeva un profumo delizioso è attaccato e pony chiese il dottore si padrone rispose la cuoca allora sbrighiamoci in pochi minuti fecero sparire il padding vuotarono una tazza di tè poi scesero nel cortile dove li attendeva un carrozzino tirato da un piccolo cavallo bianco che sembrava impaziente di partire andiamo disse il dottore raccogliendo le briglie ed impugnando la frusta fra mezz'ora saremo allo scoglio di Rez era una splendida giornata d'autunno rinfrescata da una brezza vivificante impregnata di salsedine che soffiava dal settentrione l'oceano atlantico era in perfetta calma quantunque il flusso avventasse fra le scogliere che proteggevano le spiagge dalle ondate le quali si infrangevano con mille boati balzando e rimbalzando delle barche pescherecce con le loro belle vele dipinte di giallo e di rosso a strisce e macchie nere che davano loro l'apparenza di gigantesche farfalle spiccavano vivamente sull'azzurro cupo delle acque spingendosi lentamente a largo mentre in alto sturmi di grossi uccelli marini di gabbiani e di fregate volteggiavano capricciosamente uscito dalla cinta il piccolo cavallo aveva preso una via abbastanza larga che costeggiava l'oceano slanciandosi ad un trotto rapidissimo senza che il dottore avesse avuto bisogno di eccitarlo con la frusta brando che era ridiventato taciturno come se lo splin lo avesse ripreso il notaio pure non parlava tutto occupato a fumare la sua pipa che eruttava un fumo denso come la ciminiera ad un battello a vapore il dottore badava che il poni filasse diritto e non mettesse le zampe in qualche crepaccio o s'avvicinasse troppo alla scogliera che in quel luogo cadeva a picco sull'oceano dei ragazzi di quando in quando sbucavano dalle macchie di pini e di abeti che si prolungavano verso l'interno dell'isola e rincorrevano per qualche tratto il carrozzino gridando a squarciagola buona passeggiata dottore il paesaggio variava rapidamente accennando a diventare più selvaggio man mano che si accostavano alla spiaggia orientale dell'isola non si vedevano più casette né abitanti soltanto le macchie dei pini e degli abeti diventavano più numerose e più folte e le scogliere più alte e più ripide le onde dell'oceano atlantico vi si infrangevano con una violenza tale che pareva si sparassero delle cannonate in fondo ai piccoli fiordi scavati dall'eterna azione delle acque era un rombo continuo sempre più fragoroso che impediva ai tre amici di parlare la strada era finita però il pony non cessava di trottare senza manifestare alcuna fatica e faceva traballare maledettamente la carrozzella ad un tratto si fermò dinanzi ad una parete rocciosa dietro la quale si udiva l'oceano muggire furiosamente siamo giunti disse il dottore balzando a terra ecco lo scoglio di Rez e lassù hai preparato la nostra tomba chiese Brandock ed in una posizione bellissima rispose il dottore il muggito delle onde ci canterà la ninna nanna senza tregua fino al giorno della nostra risurrezione se torneremo in vita dubiti ancora James non prenderti nessun pensiero per i miei dubbi ti ho detto che la vita ormai è diventata troppo pesante per me quindi poco mi importerebbe anche se non mi risvegliassi mai più mostrami dunque la nostra ultima dimora non l'ultima come vuoi vieni James legò il poni al tronco d'una betulla poi prese un piccolo sentiero scavato nella viva roccia che si innalzava a zigzag la rupe chiamata impropriamente lo scoglio di Rez era di mole enorme alta un centinaio di metri e formava il capo più alto dell'isola verso oriente la sua fronte massiccia tagliata a picco opponeva un formidabile ostacolo all'irrompere delle onde dell'Atlantico quindi non vi era pericolo che cedesse nemmeno dopo cent'anni giunti sulla cima che era piatta anziché terminare a punta Brandock scorse una muraglia della circonferenza di quattro o cinque metri che era sormontata da una cupola di cristallo munita di un parafulmine altissimo è quella la nostra ultima dimora chiese sì rispose il dottore quando l'hai fatta costruire lo scorso anno lo sanno gli abitanti della borgata no perché ho fatto venire gli operai di vetri da Nuova York e la rispetteranno lo scoglio è mio l'ho acquistato dal comune con contratto regolare ed il notaio all'ordine di far distruggere il sentiero che conduce quassù e di cingere la scogliera con una cancellata di ferro altissima che ho già ordinata disse il signor Max nessuno verrà a disturbarvi entriamo disse il dottore con una chiave a segreto aprì una porticina di ferro tanto bassa che non si poteva entrarvi che carponi ed i tre uomini si introdussero nel piccolo edificio l'interno era tutto coperto da vetri molto spessi incastrati in robuste cerniere di rame e di notevole non aveva che un letto molto largo e basso con coperte piuttosto pesanti ed un piccolo scaffale su cui stavano delle bottiglie e delle siringhe ecco la mia dimora o meglio la nostra disse Toby rivolgendosi all'amico ti rincresce? niente affatto rispose il giovane che guardava l'oceano attraverso la cupola di vetro spero che nessuno verrà a disturbarci prima del giorno che avremo fissato nel nostro testamento che piacere udire il fragore delle onde ecco una bella compagnia ritengo inutile che tu ti provveda di un letto questo è più che sufficiente per tutti e due ed il sotterraneo dove hai depositato i tuoi valori il dottore si curvò levò una piastra di ferro che si trovava ai piedi del letto e mostrò una stretta gradinata scavata nella viva roccia che doveva mettere in qualche cella sotterranea la cassaforte si trova là dentro disse vi rinchiuderò anche i miei valori domani andrò a nuova York a cambiare la mia carta e le mie azioni ferroviarie in oro ne avremo abbastanza il nostro risveglio a quando il nostro sonno fra otto giorni appena avranno chiusa la base della roccia con la cancellata una domanda ancora mio caro dottore se si dimenticassero di risvegliarci sai che io non ho nessun parente io ho una sorella che ha sette figli rispose Toby spero che fra cent'anni esisterà ancora qualche pronipote per venire a riaprirci gli occhi o per impossessarsi del nostro tesoro nel caso che noi fossimo proprio morti e poi vi è il notaio ed ho anche depositato un atto presso il sindaco non temere James qualcuno verrà a raccogliere la nostra eredità i miei successori non si dimenticheranno di voi siatene certi disse il signor Max hai nessun'altra obiezione da fare James? chiese Toby no rispose il giovane sei risoluto a tentare l'esperimento? hai la mia parola allora torniamo a casa mia a fare gli ultimi preparativi uscirono chiusero la porticina scesero lo scoglio e salirono sulla carrozzella senza aggiungere altra parola dobbiamo confessare però che tutti e tre erano visibilmente commossi otto giorni dopo prima del tramonto del sole Brando che il dottore ed il notaio lasciavano inosservati la borgata e si mettevano in cammino per lo scoglio di Rez avevano ormai prese tutte le disposizioni per quella dormita che doveva durare cent'anni e tutte le misure perché in quel lunghissimo tempo nessuno si recasse a disturbarli il signor Brando che aveva già fatto trasportare nottetempo i suoi milioni e li aveva rinchiusi nella cassaforte nascosta nel piccolo sotterraneo aveva venduto tutti i suoi possedimenti lasciando una parte del ricavato al comune dell'isola purché vegliasse sulla tomba il dottore aveva regalato la sua casetta alla sua cuoca e fatto innalzare intorno alla piccola costruzione la cancellata di ferro sulla quale aveva fatto collocare parecchie lastre di metallo con la scritta proprietà privata del dottor Toby Holker quando giunsero sulla cima della rupe il sole stava per tramontare in un oceano di fuoco tutti e tre si erano fermati guardando l'oceano che fiammeggiava sotto i riflessi del tramonto e che si increspava leggermente sotto la brezza della sera in lontananza un grande piroscafo fumava dirigendosi verso la costa americana lungo le scogliere dell'isola alcune barche pescherecce s'avanzavano dolcemente tornando verso il porto della piccola borgata alla base della rupe le onde si infrangevano rompendo il silenzio che regnava sull'immenso oceano i tre uomini tacevano il notaio sembrava profondamente commosso Brandock e Toby un po' preoccupati rimasero così parecchi minuti guardando ora le barche ed ora il sole che pareva si tuffasse in acqua poi ad un tratto il dottore si scosse dicendo non ti penti della parola data James no rispose Brandock con voce calma anche se non dovessimo risvegliarci mai più nemmeno signor Max salutiamoci ed abbracciamoci poiché non ci rivedremo mai più a meno di un miracolo bisognerebbe che campassi centoquarant'anni un'età impossibile disse il notaio sospirando io morrò mentre voi risusciterete un abbraccio amico e lasciamoci il signor Max vivamente commosso con gli occhi umidi si strinse fra le braccia il dottore tenendoselo per qualche momento sul petto addio signor Brandock disse poi con voce rotta progendogli la mano vi auguro di tornare in vita e di ricordarvi di me ve lo promettiamo rispose il giovane addio signor Max noi andiamo a dormire il notaio si allontanò volgendosi più volte per un gesto d'addio poi scomparve per il sentiero che conduceva alla base della rupe dove aveva collocato una grossa cartuccia di dinamite per distruggerlo vieni James disse Toby quando furono soli guarda un'ultima volta l'oceano l'ho guardato abbastanza e poi non lo troveremo certo cambiato se risusciteremo aprirono la porticina ed entrarono nella loro tomba che gli ultimi raggi di sole illuminavano a sufficienza facendo scintillare la cupoletta di vetro Toby prese dalla mensola una bottiglia e due bicchieri e la stappò un buon bicchiere di champagne disse versando lo spumeggiante nettere alla nostra risurrezione James o alla nostra morte che per me sarà lo stesso rispose il giovine forzandosi di sorridere almeno lo spleen non mi tormenterà più vuotarono d'un fiato i bicchieri poi il dottore chiuse in un plico alcuni documenti che collocò entro una cassetta di metallo che cosa fai Toby chiese Brandock qui dentro vi sono le fiale contenenti il misterioso liquido che dovrà ridarci la vita e insieme la ricetta che insegnerà come dovranno servirsene coloro che verranno a risvegliarci hai finito? sì un altro bicchiere sia rispose Brandock vuotarono la bottiglia poi il dottore sturò una fiala ed empì due piccole tazze era un liquore rossastro un po' denso che aveva un profumo speciale bevi disse porgendo una delle tazze a Brandock cos'è? il narcotico che ci addormenterà o meglio che sospenderà la nostra vita e che impedirà alle nostre carni di corrompersi il giovane prese la tazza con mano ferma guardò il liquido in trasparenza poi lo tracannò senza che un muscolo del suo viso avesse trasalito è un po' amaro però non è cattivo disse ah che freddo Toby mi pare di avere un blocco di ghiaccio al posto del cuore non è nulla e poi durerà poco gettati sul letto e copriti mentre Brandock obbediva il dottore beve anch'egli la sua tazza poi s'accostò barcollando ad un vaso di terra che si trovava in un angolo ed afferrato un martello che si trovava lì presso con un colpo vigoroso ne spezzò il coperchio poi raggiunse frettolosamente il compagno una temperatura da Siberia aveva invaso la stanza pareva che da quel vaso misterioso uscisse una corrente d'aria gelata come quella che spira nelle regioni polari il dottore guardò Brandock il giovane non dava più segno di vita pareva che la morte l'avesse colto di colpo fra cento anni ebbe appena il tempo di balbettare il dottore e stramazzò a fianco dell'amico nello stesso momento l'ultimo raggio di sole si spegneva e le prime ombre della notte scendevano sul sepolcreto fine del capitolo primo capitolo secondo de le meraviglie del duemila capitolo una risurrezione miracolosa una mattina degli ultimi giorni di settembre del duemila e tre tre uomini salivano lentamente lo scoglio di Rez aiutandosi l'un l'altro per superare le rocce non essendovi alcuna traccia di sentiero il primo era un uomo piuttosto attempato fra i cinquanta e i sessant'anni eppure ancora assai vigoroso senza barba e senza baffi le braccia e le gambe lunghissime perfino troppo in proporzione del tronco e gli occhi molto dilatati e quasi bianchi gli altri due erano più giovani di qualche dozzina d'anni anch'essi bene sviluppati con muscolature possenti e con gli occhi ugualmente bianchi e smorti in tutti e tre poi si osservava uno sviluppo assolutamente straordinario della testa e specialmente della fronte i loro vestiti erano d'una certa stoffa color caffè chiaro che pareva una seta e consistevano in casacche larghissime e in calzoni corti ed ampi fermati sotto il ginocchio giunti sull'orlo superiore dello scoglio si erano fermati dinanzi ad un'alta cancellata di ferro arrugginito e corroso dai sali marini che racchiudeva una piccola costruzione di forma circolare sormontata da una cupoletta di vetro una lastra di metallo situata in cima ad un palo portava la seguente scritta ancora abbastanza visibile proprietà privata del dottor Toby Holker ci siamo aveva detto l'uomo attempato levandosi da una tasca una chiave vecchissima d'una forma speciale e una carta ingiallita che belle chiavi si usavano cent'anni fa e sperate di farlo risuscitare il vostro antenato signor Holker domandò uno dei due che lo accompagnavano almeno le sue ossa le troveremo ed anche quelle del suo amico rispose il signor Holker ed i milioni giacché voi siete l'unico erede è vero signor notaio potrete aprire? proviamo rispose il signor Holker introdusse la chiave nella toppa e dopo qualche sforzo fece scattare il chiavistello non fabbricavano male a quei tempi i fabbri disse spingendo il cancello non credevo che dopo cent'anni le serrature funzionassero ancora il piccolo recinto era coperto di ginestre e di sterpi e di cumuli di erbe secche si capiva che nessuno da moltissimo tempo era entrato colà vediamo disse Holker aprendosi il passo fra gli sterpi si accostò non senza provare una certa emozione alla piccola costruzione e rizzandosi quanto era lungo appoggiò il viso alla cupoletta di vetro subito un grido gli sfuggì è incredibile sono là ambe due e mi sembrano intatti che il mio antenato sia proprio riuscito a scoprire un filtro così meraviglioso da poter sospendere la vita per cent'anni i suoi due compagni avevano gettato uno sguardo attraverso i vetri e anch'essi non avevano potuto frenare un grido di stupore sono là sono là e pare che dormano disse Holker che era in preda ad una viva emozione signor Holker vi sareste ingannato chiese il notaio non so che dire ora ho una lontana speranza di poter rivedere vivo il mio antenato entriamo signore avete la chiave del sepolcrito sì non entriamo subito però perché il mio antenato ha lasciato scritto che si lasci prima la porta aperta per qualche minuto non riesco a comprenderne il motivo disse il compagno del notaio per non esporci ad un potente raffreddore signor sindaco disse Holker si fa presto a buscarsi una polmonite che vi sia molto freddo lì dentro sembra che il dottor Toby oltre il filtro avesse anche scoperto un certo liquido capace di sprigionare un freddo polare deve trovarsi in quel vaso che scorgete là in quell'angolo aprite signor Holker disse il notaio sono impaziente di assistere alla risurrezione di quei due uomini fecero il giro della piccola costruzione finché scoprirono una porticina di ferro Holker introdusse la chiave nella serratura ed aprì facilmente subito una corrente estremamente fredda investì i tre uomini costringendoli a retrocedere rapidamente vi ho un banco di ghiaccio là dentro esclamò il sindaco che cosa contiene quel vaso per produrre un simile freddo che gli scienziati di cent'anni fa valessero meglio di quelli d'oggi grand'uomo quel mio antenato disse Holker farò una ben meschina figura io vicino a lui attesero alcuni minuti poi quando la corrente fredda diminuì uno alla volta si introdussero nel sepolcreto avanzandosi carponi essendo la porta assai bassa e stretta si trovarono in una stanza circolare con le pareti coperte da lastre di vetro ben connesse da armature di rame nel mezzo vi era un letto abbastanza largo e su di esso avvolti in grosse coperte di feltro si scorgevano due esseri umani coricati l'uno presso l'altro i loro volti erano gialli gli occhi chiusi e le loro braccia che tenevano sotto le coperte parevano irrigidite non si riscontrava su di loro alcun indizio di corruzione delle carni il signor Holker si era accostato rapidamente a loro e aveva sollevato le coperte è incredibile esclamò come si possono essere conservati così questi due uomini dopo cent'anni possibile che siano ancora vivi nessuno lo ammetterebbe i suoi compagni si erano anche essi accostati e guardavano con una specie di terrore quei due uomini chiedendosi ansiosamente se si trovavano dinanzi a due cadaveri o a due addormentati quello che si trovava a destra era un bel giovane di venticinque o trent'anni con i capelli di color biondo rossiccio di statura alta e slanciata l'altro invece dimostrava cinquanta o sessant'anni aveva i capelli brizzolati ed era più basso di statura e di forme più massicce sia l'uno che l'altro erano meravigliosamente conservati solo la pelle del viso come abbiamo detto aveva assunto una tinta giallastra simile a quella delle razze mongoliche qual è il vostro antenato chiese il notaio il più vecchio l'altro è il signor James Brandock agirete subito senza ritardo siete medico è vero come il mio antenato sapete come dovete operare il documento lasciato da Toby Holker parla chiaro non si tratta che di far due iniezioni ed il liquido misterioso deve trovarsi in quella cassetta rispose il signor Holker indicando una scatola di metallo che si trovava in fondo al letto torneranno subito in vita non credo forse dopo che li avremo immersi nell'acqua tiepida dovremo quindi portarli fino alla borgata non è necessario rispose il signor Holker ho dato ordine al mio macchinista di raggiungermi col condor e non tarderà a venire porterò il mio antenato di signor Brandock a casa mia a Nuova York desidero che tutti ignorino per ora la risurrezione di questi due uomini mentre parlava aveva aperto la cassetta di ferro dove si vedevano dei documenti due fiale di cristallo piene di un liquido rossastro e delle siringhe ecco il filtro misterioso disse prendendo le fiale agiremo senza perdere tempo denudò il petto dei due addormentati poi immerse una siringa in una delle due fiale dicendo una iniezione in direzione del cuore e una nel collo vedremo se avranno qualche effetto signor Holker disse il notaio voi che siete dottore vi sembra che siano morti hanno un certo aspetto dei mumie egiziane no perché le loro carni hanno ancora una certa freschezza allora di persone non morte disse il signor Holker sapete che non dispero batte il loro cuore no sono freddi sfido io con la temperatura che regnava qui dentro sono immersi in una specie di catalessi che mi ricorda gli straordinari esperimenti dei fakiri indiani dunque non disperate ma constato solamente che sono meravigliosamente conservati dopo venti lustri aiutatemi signor Sterken che cosa devo fare tenete semplicemente una di queste fiale mentre io inietto il liquido scoperto dal mio antenato che sia invece fatale io eseguisco la sua ultima volontà se muore ammesso che dorma ancora non sarà colpa mia proviamo il signor Holker prese la siringa appoggiò la punta acutissima sul petto del dottore in prossimità del cuore e fece una iniezione abbondante sottocutanea ripeté la medesima operazione sul collo prese la vena giugulare poi attese in preda ad una profonda ansietà tenendo in mano il polso del suo antenato nessuno parlava tutti tenevano gli sguardi fissi sul dottore con la speranza di sorprendere su quel viso giallastro una mossa qualsiasi che potesse essere indizio di un ritorno alla vita era trascorso un minuto quando il signor Holker si lasciò sfuggire un grido di stupore è incredibile che cosa avete chiesero ad una voce il notaio ed il sindaco quest'uomo non è morto batte il suo polso ho sentito una leggera vibrazione che vi siate ingannato domandò il notaio che era diventato pallidissimo no è impossibile il polso batte leggermente sì tuttavia batte non sogno io dopo cent'anni silenzio ascoltiamo se anche il cuore dà qualche segno di vita il signor Holker aveva appoggiato il capo sul largo petto del suo antenato è freddo chiese il sindaco finora sì cattivo segno i morti sono sempre freddi aspettate signor sindaco il filtro ha appena cominciato ad agire e tacete meraviglioso incredibile cos'ha inventato il mio antenato che cosa sono in suo paragone i medici moderni degli asini compreso me batte dunque il cuore chiesero ad una voce il sindaco ed il notaio sì batte non vi ingannate sono un medico eppure la tinta giallastra non scompare ancora disse il notaio dopo dopo il bagno forse sì il cuore batte è un miracolo ritornare in vita dopo cent'anni chi lo crederebbe ed il polso vibra sempre con maggior forza rivolgetevi al signor brandock dottore disse il sindaco in quel momento un fischio sonoro e cheggiò al di fuori il mio condor disse il signor holker giunge in tempo desiderate qualche cosa dal vostro macchinista domandò il notaio che porti una leva per aprire il sotterraneo ed ora occupiamoci del signor brandock tenudò il petto del giovane e ripetè su di lui le iniezioni fatte già al signor toby due minuti dopo udì un lieve fremito nei polsi e constatò per di più che la tinta giallastra tendeva a scomparire e che un lievissimo rossore compariva sulle gote dell'addormentato quale miracolo ripeteva il signor holker domani questi uomini parleranno come noi il notaio era ritornato con un negro di statura imponente un vero ercole con spalle larghissime braccia grosse e muscolose harry disse il signor holker rivolgendosi verso il gigante prendi queste due persone e portale sul condor bada di non stringerle troppo sì padrone sono pronti i materassi e anche la tenda sbrigati ragazzo mio il signor holker spostò il letto e mise le mani su una piastra di ferro di forma circolare munita ad un anello deve essere qui sotto il sotterraneo contenente ai milioni del mio antenato e del signor brandock disse vi saranno ancora chiese il notaio solo noi potevamo sapere che i due addormentati ve li avevano posti e poi noi abbiamo veduto che tutto era in ordine qui dentro quindi nessuno può esservi entrato passò la leva portata dal macchinista nell'anello e alzò non senza fatica la piastra essendo già calate le tenebre accese una lampada elettrica e scorse una scaletta scavata nella viva roccia scese giù seguito dal notaio e dal sindaco e si trovò in una celletta di due metri quadrati contenente due casseforti d'acciaio sono qui dentro i milioni disse li fate portare sul vostro condor chiese il notaio appartengono al mio antenato ed al signor Brandock essendo vivi non ho più alcun diritto su queste ricchezze Harry il negro che era già tornato dopo aver portato via Toby e Brandock scese nel sotterraneo aiutami gli disse Holker basto io signore rispose il gigante i miei muscoli sono solidi e le mie spalle larghe prese la cassa più grossa e la portò via signori disse Holker quando anche la seconda fu levata la vostra missione è finita il signor Brandock ed il mio avo sapranno ricompensarvi presto della vostra gentilezza ce li condurrete un giorno chiese il notaio ve lo prometto siete ormai certo che essi tornino in vita domandò il sindaco io lo spero dopo un buon bagno nell'acqua tiepida fra quattro ore io sarò a Nuova York e domani vi darò mie notizie uscirono dal sepolcreto e dalla cinta chiudendo il cancello e si diressero verso il margine della rupe che si affacciava sull'oceano dove si vedeva vagamente e fra le tenebre una massa nera che agitava sopra di sé delle ali mostruose accendi il fanale Harry disse il signor Holker uno sprazzo di luce vivissima si sprigionò illuminando tutta la cima della rupe e la massa che si agitava presso il margine era una specie di macchina volante fornita di quattro ali gigantesche e di eliche grandissime collocate al di sopra di una piattaforma di metallo lunga e stretta difesa all'intorno da una balaustra nel mezzo collocati su un soffice materasso e riparati da una cortina si trovavano il dottor Toby e Brandock coricati l'uno presso l'altro il negro stava invece all'estremità della piattaforma dietro ad una piccola macchina munita di parecchi tubi arrivederci presto signori disse Holker salendo sulla piattaforma e sedendosi presso i due risuscitati buon viaggio signor Holker risposero il notaio ed il sindaco dateci domani notizie del dottore e del signor Brandock a cento miglia all'ora ragazzo mio disse Holker al negro ho molta fretta le ali e le eliche si misero in movimento e la macchina volante partì con velocità fulminea passando sopra l'isola di Nantucket e tenendo la prora verso il sud ovest il signor Holker esaminava intanto il dottore Toby ed il suo compagno appoggiando spesso la mano sui loro petti e tastando di quando in quando anche i polsi la vitalità tornava lentamente nei due addormentati il loro polso cominciava già a battere assai debolmente ma ancora non respiravano ed il cuore rimaneva muto vedremo dopo il bagno mormorava il signor Holker morti non sono quindi non devo disperare quale sorpresa per loro quando riapriranno gli occhi rivivere dopo cento anni quale meraviglioso filtro ha scoperto il mio antenato e cosa inesplicabile non sono invecchiati il condore intanto continuava la sua corsa fulminea aveva passato l'isola e correva sopra l'oceano mantenendosi ad un'altezza di centocinquanta metri la sua lampada mandava sempre un lungo sprazzo di luce che si rifletteva sulle onde a mezzanotte verso ovest si scorsero a un tratto delle ondate di luce bianca che salivano a grande altezza nuova york padrone disse il negro di già rispose holker hai superato le centomiglia allora mio buon harry sbrighiamoci e bada di non urtare qualcuno si era alzato e guardava verso quelle luci arriveremo presto murmurò venti minuti dopo il condor correva sopra un raggruppamento di case immense di torri e di campanili descrisse alcuni giri in aria proiettando il fascio di luce sui tetti delle case poi calò su una vasta terrazza di metallo situata sulla cima di un palazzo di venti piani siamo giunti padrone disse il negro prendi i due addormentati e portali nella mia camera e silenzio con tutti capitolo terzo capitolo terzo delle meraviglie del 2000 questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol le meraviglie del 2000 di Emilio Salgari capitolo terzo le prime meraviglie del 2000 erano trascorse altre due ore quando il dottor Toby pelprimo aperse finalmente gli occhi dopo cent'anni che li aveva tenuti chiusi dopo una immersione durata un quarto d'ora in una vasca piena di acqua tiepida aveva già cominciato a dare qualche segno di vita e a perdere la tinta giallastra non di meno era stata necessaria una nuova iniezione del filtro misterioso perché il cuore riprendesse finalmente le sue funzioni la rigidità dei muscoli era rapidamente scomparsa ed il colorito roseo era tornato sul suo volto in seguito alla ripresa della circolazione del sangue appena aperti gli occhi il suo sguardo si fissò sul signor Holker che gli stava presso occupato a soffregare il petto di Brandock buongiorno gli disse il pronipote accostandogli si rapidamente Toby era rimasto muto non di meno i suoi occhi parlavano per lui vi era nel suo sguardo dello stupore dell'ansietà forse anche della paura mi udite chiese Holker il dottore fece col capo un segno affermativo poi mosse le labbra a più riprese senza che potesse emettere alcun suono certo la lingua non aveva ancora riacquistata la sua elasticità dopo essere stata per tanti anni immobilizzata come vi sentite male forse Toby fece un gesto negativo poi alzò le mani facendo dei segni assolutamente incomprensibili per il signor Holker ad un tratto le abbassò puntandole verso il signor Brandock che stava coricato in un letto vicino mi chiedete se il vostro compagno è vivo o morto è vero il dottore accennò di sì non temete signor zio se non vi rincresce che vi chiami con questo titolo di parentela poiché appartengo alla vostra famiglia come discendente di vostra sorella non temete anche il vostro compagno sta per tornare alla vita e fra poco riaprirà gli occhi provate molta difficoltà a muovere la lingua vediamo zio sono dottore anch'io al pari di voi gli aprì la bocca e tirò parecchie volte quell'organo che pareva si fosse atrofizzato ripiegandolo poi in tutti i sensi per fargli riacquistare la perduta agilità agisce ora un suono dapprima confuso uscì dalle labbra del dottor Toby poi un grido la vita la vita mercè il vostro filtro zio cent'anni sì dopo cent'anni di sonno rispose Holker non credevate certo di poter tornare vivo sì sì borbottò il dottore in quell'istante una voce fiocca chiese Toby Toby il signor Brandock aveva aperto gli occhi e guardava il suo vecchio amico con uno stupore facile a comprendersi Toby ripeté per la terza volta tentando di rizzarsi sul guanciale non vi muovete signor Brandock disse Holker sono lieto di darvi il buongiorno e di udirvi anche parlare rimanete coricati vi è necessario un buon sonno del vero sonno si avvicinò ad un tavolino su cui stavano parecchie fiale ne prese una e versò il contenuto in due tazze d'argento bevete questo cordiale disse porgendo ad entrambi le tazze vi darà forza ah mi scordavo di dirvi che i vostri milioni sono al sicuro qui in casa mia ricoricatevi fate una buona dormita e questa sera pranzeremo insieme ne sono certo il dottor Toby aveva mormorato grazie mio lontano parente poi aveva quasi subito chiusi nuovamente gli occhi e signor brandok dormiva di già russando sonoramente il signor holker rimase nella stanza parecchi minuti curvandosi ora sull'uno ora sull'altro dei risuscitati e ripetendo con visibile soddisfazione ecco il vero sonno che farà recuperare loro le forze meraviglioso filtro ecco un segreto che se divulgato renderà il mio antenato l'uomo più famoso del mondo lasciamoli riposare credo che ormai siano salvi otto ore dopo il dottor Toby veniva svegliato da un sibilo leggero che pareva venisse dal di sotto del guanciale assai sorpreso s'era alzato a sedere gettando intorno a sé uno sguardo meravigliato nella stanza non vi era nessuno e brandok continuava a russare nell'altro letto chi mi ha fischiato agli orecchi si chiese che io abbia sognato stava per chiamare brandok quando udì una voce che pareva umana sussurrargli agli orecchi dravi avvenimenti sono avvenuti ieri nella città di Cadice gli anarchici della città sottomarina di Bressac impadronitisi della nave Hollendorf sono sbarcati nella notte facendo saltare parecchie case con bombe la popolazione è fuggita e gli anarchici hanno saccheggiata la città si chiamano sotto le armi i volontari di Malaga e di Alicante che verranno trasportati sul luogo dell'invasione con flotte aeree si dice che Bressac sia stata distrutta e che molte famiglie anarchiche siano rimaste annegate il dottore aveva ascoltato con uno stupore facile ad indovinarsi quella voce che annunziava uno spaventevole disastro poi aveva sollevato rapidamente il guanciale poiché la voce si era fatta udire più precisamente dietro la sponda del letto e scorse una specie di tubo sul cui orlo era scritto abbonamento al world una meraviglia del 2000 esclamò i giornali comunicano direttamente le notizie a casa degli abbonati che abbiano soppressa la carta e le macchine per stamparla ai nostri tempi queste comodità non si conoscevano ancora com'è progredito il mondo stava per chiamare l'amico che non si decideva ad aprire gli occhi quando udì uscire dal tubo un altro fischio poi la medesima voce che diceva guardate la scena nel medesimo istante il dottore vide illuminarsi un gran quadro che occupava la parete di fronte al letto e svolgersi una scena orribile ed una verità straordinaria degli uomini erano comparsi in mezzo a delle case e correvano all'impazzata lanciando delle bombe che scoppiavano con lampi vivissimi i muri si sfasciavano i tetti crollavano uomini donne e fanciulli precipitavano nelle vie mentre larghe lingue di fuoco si alzavano sopra quegli ammassi di macerie tingendo tutto il quadro di rosso gli anarchici continuavano intanto la loro opera di distruzione e le scene si succedevano alle scene con vertiginosa rapidità e senza la minima interruzione era una specie di cinematografo d'una perfezione straordinaria veramente stupefacente che riproduceva con meravigliosa esattezza la terribile strage annunciata poco prima dal giornale per dieci minuti quel rovinio continuò poi finì con una fuga disordinata di gente che si rovesciava verso una spiaggia mentre il cielo rifletteva la luce degli incendi straordinario ripeteva il dottore quando la parete tornò bianca che progresso ha fatto il giornalismo in questi cento anni e chissà quante meraviglie dovremo vedere ancora brandoc hai finito il tuo sonno udendo quella chiamata il giovane aprì finalmente gli occhi sbadigliando come un orso che si sveglia dopo il lungo sonno invernale come ti senti amico mio chiese Toby benissimo il tuo spleen per ora non m'accorgo che mi tormenti e dimmi Toby abbiamo sognato o è proprio vero che noi abbiamo dormito un secolo la prova l'abbiamo nelle nostre casseforti che hanno portato qui mentre ci riposavamo chi potrà credere che noi siamo risuscitati il mio parente di certo poiché è venuto lui a toglierci dal sepolcreto e dove ci troviamo noi ancora Nantucket non lo saprei davvero e tu come stai provo un turbamento che non so spiegarmi e mi pare di essere molto debole sfido io dopo un così lungo digiuno disse Brando credendo non senti appetito io mangerei volentieri una bistecca per esempio ad agio mio caro non sappiamo ancora come funzioneranno i nostri organi interni se il cuore ed i polmoni non danno segno d'aver sofferto dopo una così lunga fermata suppongo che anche gli intestini riprenderanno il loro lavoro eppure eppure buon segno nella sala nella sala da pranzo il dottor toby e Brando si cambiarono fecero un po' di toeletta poi lasciarono la stanza inoltrandosi in un corridoio le cui pareti lucidissime avevano degli strani splendori come se sotto la vernice che le copriva vi fosse qualche strato di materia fosforescente ed entrarono in un salotto abbastanza ampio illuminato da due finestre larghe e alte fino al soffitto che permettevano all'aria di entrare liberamente era immobiliato con semplicità non esente da una certa eleganza le sedie la credenziera gli scaffali situati negli angoli e perfino la tavola che occupava il centro erano formati di un metallo bianco e lucentissimo che assomigliava all'alluminio il signor Holker era già seduto a tavola la quale era coperta da una tovaglia colorata che non sembrava di tela avanti i miei cari amici disse andando loro incontro il pranzo è pronto e dove lo mangeremo chiese Brandock che non aveva scorto sulla tavola né piatti né bicchieri né posate né salviette né cibi di alcun genere ah mi scordavo che un secolo fa gli albergatori erano pure indietro di cent'anni disse Holker ridendo hanno progredito anche loro guardate s'accostò ad una parete ed abbassò una lastra di metallo lunga un paio di metri e larga una trentina di centimetri unendola alla tavola in modo da formare un piccolo ponte l'altra estremità appoggiava ad una piccola mensola sopra la quale sta scritto abbonamento all'hotel bar di lì e ora chiese Brandock che guardava con crescente stupore premo questo bottone ed il pranzo lascia le cucine dell'albergo per venire sulla mia tavola dove si trova questo hotel in questa casa anzi è piuttosto lontano sulla riva opposta del Hudson siamo dunque a Nuova York esclamarono ad una voce toby e Brandock dove credevate di essere ancora Nantucket quando ci avete trasportati domandò Brandock al colmo della sorpresa ieri sera alle otto ho lasciato l'isola e a mezzanotte eravate qui in quattro sole ore mentre cent'anni fa se ne impiegavano sedici e con una scialuppa a vapore esclamò il dottore abbiamo camminato con le invenzioni mio caro zio disse Holker ah ecco il pranzo un sibilo acuto era sfuggito da una piccola fessura della mensola poi una porticina si era aperta automaticamente all'estremità della lastra di metallo che si univa alla tavola e una piccola macchina seguita da sei vagoncini di alluminio di forma cilindrica s'avanzò correndo su due incavi che servivano da rotaie il pranzo che manda l'albergo chiesero toby e brandok sì signori e con tutto il necessario come vedete è una cosa molto comoda che mi dispensa dall'avere una cuoca ed una cucina rispose Holker aprì il primo vagoncino che aveva una circonferenza di quaranta centimetri e una lunghezza uguale e lavò dei bicchieri delle posate delle salviette e quattro bottiglie che dovevano contenere del vino o della birra dagli altri quattro estrasse successivamente dei piccoli recipienti contenenti del brodo ancora caldissimo poi dei piatti con pasticci e vivande svariate delle uova dei liquori e così via tutto il necessario insomma per un pranzo abbondante quando ebbe terminato premette un bottone la porticina si aprì ed il minuscolo treno scomparve retrocedendo con la velocità d'un lampo che cosa ne dite signor brandok chiese Holker che ai nostri tempi queste comodità mancavano assolutamente e tornerà il treno certo per riprendere le stoviglie e come arriva qui per mezzo d'un tubo e cammina mosso da una piccola pile elettrica d'una potenza tale però che le imprime una velocità di quasi 100 km all'ora queste vivande non sono state rinchiuse nei loro recipienti che da qualche minuto e infatti vedete che fumano anzi scottano e l'albergatore come viene avvertito dal cliente di ciò che desidera per mezzo del telefono al mattino il mio servo trasmette all'hotel il menù per il pranzo e per la cena e le ore in cui desidero mangiare ed il treno giunge con precisione matematica non tutti potranno permettersi un lusso simile osservò il dottore Toby certo rispose Holker ma quelli che non possono abbonarsi all'hotel se la sbrigano anche più presto a mangiare forse non certo a prepararsi il pranzo il lavoratore non fa più cucina in casa non avendo tempo da perdere otto o dieci pillole ed ecco inghiottito un buon brodo il succo di una mezza libra di bue o di pollo o di una libra di maiale o di un paio d'uova o di una tazza di caffè e così via cent'anni fa si perdeva troppo tempo camminavate ed agivate con la lentezza delle tartarughe oggi invece si gareggia con l'elettricità mangiate signori miei o i cibi si raffredderanno una tazza di buon brodo signor Brandock prima di tutto poi sceglierete quello che più vi piace vi avverto che è un pranzo a base di vegetali ma queste pietanze non sono meno nutrienti e non vi parranno meno saporite poi parleremo finché vorrete capitolo quarto delle meraviglie del 2000 questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol le meraviglie del 2000 di Emilio Salgari capitolo quarto la luce ed il calore futuro il dottor Holker aveva detto la verità il brodo era squisitissimo ma nessuna pietanza era di carne di bue di maiale e di montone solo dei pesci tutti gli altri piatti si componevano di vegetali fra cui molti che erano assolutamente sconosciuti a Toby ed a Brandock in compenso il vino era così eccellente che nell'uno nell'altro mai ne avevano gustato di simile signor Holker disse Brandock che mangiava con un appetito invidiabile come se si fosse svegliato solo da dieci o dodici ore siete vegetariano voi perché mi fate questa domanda chiese il lontano pronipote del dottore ai nostri tempi si parlava molto di vegetarianismo specialmente in Germania ed in Inghilterra si vede che quella cucina ha fatto dei progressi perché non trovate delle bistecche sì e mi stupisce come i moderni americani abbiano rinunciato alle succose bistecche ed ai sanguinanti roast beef sono piatti diventati un po' rari oggi mio caro e pel semplice motivo che i buoi di montoni sono quasi scomparsi oh ve ne stupite molto mio caro signore la popolazione del globo in questi cento anni è enormemente cresciuta e non esistono più praterie per nutrire le grandi mandrie che esistevano ai vostri tempi tutti i terreni disponibili sono ora coltivati intensivamente per chiedere al suolo tutto quello che può dare se così non si fosse fatto a quest'ora la popolazione del globo sarebbe alle prese con la fame i grandi pascoli dell'argentina e i nostri del far west non esistono più ed i buoi e i montoni a poco a poco sono quasi scomparsi non rendendo le praterie in proporzione all'estensione d'altronde non abbiamo più bisogno di carne al giorno d'oggi i nostri chimici in una semplice pillola dal peso di qualche grammo fanno concentrare tutti gli elementi che prima si potevano ricavare da una buona libra di ottimo bue e l'agricoltura come va senza buoi anticaie disse Holker i nostri campagnoli non fanno uso che di macchine mosse dall'elettricità sicchi non vi sono più neanche cavalli a che cosa potrebbero servire ce ne sono ancora alcuni conservati più per curiosità che per altro e gli eserciti non ne fanno più uso chiese il dottor Toby ai nostri tempi tutte le nazioni ne avevano dei reggimenti e che cosa ne facevano chiese Holker con aria ironica se ne servivano nelle guerre eserciti cavalleria chi se ne ricorda ora non vi sono più eserciti chiesero ad una voce Toby e Brandock da sessant'anni sono scomparsi dopo che la guerra ha ucciso la guerra l'ultima battaglia combattuta per mare e per terra fra le nazioni americane ed europee è stata terribile spaventevole ed è costata milioni di vite umane senza vantaggio né per le une né per le altre potenze il massacro è stato tale da decidere le diverse nazioni del mondo ad abolire per sempre le guerre e poi non sarebbero più possibili oggi noi possediamo degli esplosivi capaci di far saltare una città di qualche milione di abitanti delle macchine che sollevano delle montagne possiamo sprigionare con la semplice pressione del dito una scintilla elettrica trasmissibile a centinaia di miglia di distanza e far scoppiare qualsiasi deposito di polvere una guerra al giorno d'oggi segnerebbe la fine dell'umanità la scienza ha vinto ormai su tutto e su tutti eppure quest'oggi appena svegliato mi fu comunicata dal vostro giornale una notizia che smentirebbe quello che avete detto ora mio caro nipote disse toby ah sì la distruzione di cadice da parte degli anarchici bazzecole ormai questi bricconi irrequieti saranno stati completamente distrutti dai pompieri di malaga e di alicante dai pompieri non abbiamo altre truppe al giorno d'oggi e vi assicuro che sanno mantenere l'ordine in tutte le città e sedare qualunque tumulto mettono in batteria alcune pompe e rovesciano sui sediziosi torrenti d'acqua elettrizzata al massimo grado ogni goccia fulmina e l'affare è sbrigato presto un mezzo un po' brutale signor Holker e anche inumano se non si facesse così le nazioni si vedrebbero costrette ad avere delle truppe per mantenere l'ordine e del resto siamo in troppi in questo mondo e se non troviamo il mezzo di invadere qualche pianeta non so come se la caveranno i nostri pronipoti fra altri cent'anni a meno che non tornino come i nostri antenati all'antropofagia la produzione della terra e dei mari non basterebbe a nutrire tutti e questo è il grave problema che turba e preoccupa gli scienziati a se si potesse dar la scalata a Marte che ha invece una popolazione così scarsa e tante terre ancora incolte come lo sapete voi? chiese Toby facendo un gesto di stupore dagli stessi marziani rispose Holker dagli abitanti di quel pianeta esclamò Brandock ah dimenticavo che ai vostri tempi non si era trovato ancora un mezzo per mettersi in relazione con quei bravi marziani scherzate? ve lo dico sul serio mio caro signor Brandock voi comunicate con loro ho anzi un carissimo amico lassù che mi dà spesso sue notizie come avete fatto a mettervi in relazione con i marziani? ve lo dirò più tardi quando avrete visitato la stazione elettrica di Brooklyn eh sono già 40 anni che siamo in relazione con i marziani è incredibile esclamò il dottor Toby quali meravigliose scoperte avete fatto voi in questi cent'anni molte che vi faranno assai stupire zio appena vi sarete completamente rimessi vi proporrò di fare una corsa attraverso il mondo in sette giorni saremo nuovamente a casa il giro del mondo in una settimana è naturale che ciò vi stupisca ai vostri tempi si impiegavano 45 o 50 giorni se non mi inganno e ci sembrava di aver raggiunto la massima velocità delle tartarughe disse Holker ridendo poi faremo anche una corsa al polo nord a visitare quella colonia si va anche al polo ora bah è una semplice passeggiata avete trovato il mezzo di distruggere i ghiacci che lo circondano niente affatto anzi io credo che le calotte di ghiaccio che avvolgono i due confini della terra siano diventate più enormi di quello che erano cent'anni fa eppure noi abbiamo trovato egualmente il mezzo di andare a visitarli e anche a popolarli vi abbiamo relegati là un sibilo acuto che sfuggì da un foro aperto sopra una mensola che si trovava in un angolo della stanza gli interruppe la frase ah ecco la mia corrispondenza che arriva disse Holker alzandosi un'altra meraviglia esclamarono Toby e Brando calzandosi una cosa semplicissima rispose Holker guardate amici miei premette un bottone al di sotto d'un quadro che rappresentava una battaglia navale la figura scomparve innalzandosi entro due scanalature e lasciando un vano d'un mezzo metro quadrato dentro v'era un cilindro di metallo coperto di numeri segnati in nero lungo sessanta o settanta centimetri con una circonferenza di trenta o quaranta il mio numero d'abbonamento postale è il 1987 disse Holker eccolo qui e in un piccolo scompartimento sono state collocate le mie lettere mise un dito sul numero s'aprì uno sportellino e trasse la sua corrispondenza poi fece ridiscendere il quadro e premette un altro bottone ecco il cilindro ripartito disse va a distribuire la corrispondenza agli inquilini della casa com'è giunto qui quel cilindro? chiese Brandock per mezzo d'un tubo comunicante con l'ufficio postale più vicino e rimorchiato da una piccola macchina elettrica e come si ferma? dietro il quadro vi è uno strumento destinato ad interrompere la corrente elettrica appena il cilindro vi passa sopra si ferma e non riparte se io prima non riattivo la corrente premendo quel bottone vi è un cilindro per ogni casa? sì signor Brandock devo avvertirvi che le abitazioni moderne hanno venti o venticinque piani e che contengono dalle cinquecento alle mille famiglie la popolazione ed uno dei nostri antichi sobborghi disse il dottore non ci sono dunque più case piccole il terreno è troppo prezioso oggi di e quel lusso è stato bandito non si può sottrarre spazio all'agricoltura ma comincia a far buio sarebbe tempo di illuminare il mio salotto ai vostri tempi che cosa si accendeva alla sera? gas, petrolio e luce elettrica disse Brandock povera gente disse Holker e come doveva costar cara allora l'illuminazione? certo signor Holker disse Brandock ora invece? abbiamo quasi gratis la luce ed il calore dal soffitto pendeva un'asta di ferro che finiva in una palla composta ad un metallo azzurro il signor Holker l'aprì facendola scorrere sopra l'asta e tosto una luce brillante simile a quella che mandavano un tempo le lampade elettriche si sprigionò inondando il salotto ciò che la produceva era una pallottolina appena visibile che si trovava infissa sotto la sfera e la luce che tramandava espandeva un dolce calore assai superiore a quello del gas che cos'è? chiesero ad una voce Brandock e Toby un semplice pezzetto di radium rispose Holker il radium esclamarono i due risuscitati si conosceva ai vostri tempi l'avevano già scoperto rispose Toby ma non si usava ancora a causa dell'enorme suo costo un grammo non si poteva avere a meno di tre o quattromila lire e poi non s'era potuto trovare ancora il modo di applicarlo come avete fatto ora voi tutti però gli predicevano un grande avvenire quello che non hanno potuto fare i chimici del millenovecento l'hanno fatto quelli del duemila disse Holker quel pezzetto lì non vale che un dollaro e brucia sempre senza mai consumarsi è il fuoco eterno meraviglioso metallo sì meraviglioso perché oltre a darci la luce ci dà anche il calore ha detronizzato il carbon fossile la luce elettrica il gas il petrolio le stufe ed i camini sicché anche le vie sono illuminate con lampade a radium chiese Toby e anche gli stabilimenti le officine e così via e nelle miniere di carbone non si lavora più a che cosa servirebbe il carbone poi cominciavano già ad esaurirsi la forza necessaria per far agire le macchine degli stabilimenti chi ve la dà ora l'elettricità trasportata ormai a distanze enormi le nostre cascate del Niagara per esempio fanno lavorare delle macchine che si trovano a mille miglia di distanza se noi volessimo potremmo dare di quelle forze anche all'europa mandandole attraverso l'atlantico ma anche laggiù hanno costruito delle cascate sui loro fiumi e non hanno più bisogno di noi amico james disse toby ti penti di aver dormito cent'anni per poter vedere le meraviglie del 2000 oh no esclamò vivamente il giovane credevi di vedere il mondo così progredito non mi aspettavo tanto e il tuo spleen non lo provo più tuttavia non senti nulla tu sì un'agitazione strana un'irritazione inesplicabile del sistema nervoso disse toby mi sembra che i muscoli ballino sotto la mia pelle anche a me disse brandok sapete da che cosa deriva chiese holker non saprei indovinarlo rispose toby dall'immensa tensione elettrica che regna ormai in tutte le città del mondo e da cui voi non siete ancora abituati cent'anni fa l'elettricità non aveva ancora raggiunto un grande sviluppo mentre ora l'atmosfera ed il suolo ne sono saturi ma vi abituerete ne son certo e per oggi basta andate a riposare domani mattina faremo una corsa attraverso nuova york sul mio condor è un'automobile chiese brandok sì ma di nuovo genere rispose holker con un sorriso cominceremo così il nostro viaggio attraverso il mondo capitolo quinto a bordo del condor era appena spuntata l'alba quando holker entrò nella stanza del suo antenato ed il signor brandok gridando in piedi miei cari amici il mio condor ci aspetta dinanzi alle finestre del salotto e l'hotel ci ha già mandato il tè non ci volevano che le parole ci aspetta dinanzi alle finestre per far balzare giù dal letto il dottore ed il suo compagno l'automobile davanti alle finestre avevano esclamato infilando i calzoni vi sorprendete a che piano siamo chiese brandok al diciannovesimo si respira meglio in alto ed i rumori della via giungono appena allora che automobile è la vostra per salire a simile altezza lo vedrete sbrigatevi amici perché ho desiderio di condurvi stamane fino alle cascate del Niagara per mostrarvi colossali impianti elettrici che forniscono la forza a quasi tutti gli stabilimenti della federazione prima andremo a vedere la stazione ultrapotente di Brooklyn dovendo dare mie notizie al mio amico marziano quel bravuomo deve essere un po' inquieto quel mio lungo silenzio e saprà con piacere la notizia della vostra risurrezione come esclamò Toby tu lo avevi informato che un tuo antenato dormiva da cento anni sì zio rispose Holker ci facciamo di tratto in tratto delle confidenze perché siamo legati da una profonda amicizia senza esservi mai veduti esclamò Brandock dietro alcune mie indicazioni avrà scarabocchiato il mio ritratto e tu chiese Toby ho il suo come sono dunque gli abitanti di Marte somigliano a noi dalle descrizioni che abbiamo ricevuto da loro non sono affatto simili a noi tuttavia in fatto di civiltà e di scienza sembra che non siano a noi inferiori figuratevi zio che hanno delle teste quattro volte più grosse delle nostre e che quindi con un simile sviluppo di cervello non devono essere più arretrati di noi ed il corpo i marziani da quanto abbiamo potuto comprendere sono anfibi che rassomigliano alle foche con braccia cortissime che terminano con dieci dita e piedi molto grandi e palmati dei veri mostri insomma esclamò Toby che ascoltava con viva curiosità quei particolari non sembra infatti che siano troppo belli rispose Holker ma andiamo a prendere il tè o lo troveremo freddo riparleremo dei marziani e del loro pianeta quando saremo alla stazione ultrapotente di Brooklyn lasciarono la stanza ed entrarono nel salotto la piccola ferrovia con un solo vagoncino stava ferma all'estremità della piastra di metallo non fu però quella che attrasse l'attenzione di Brando che del dottore bensì un'ombra gigantesca che si agitava dinanzi alle due ampie finestre che cos'è chiesero slanciandosi innanzi il mio condor rispose tranquillamente Holker un pallone dirigibile chiese no signori una macchina volante che funziona perfettamente dotata ad una velocità straordinaria tale da poter gareggiare con le rondini ed i colombi viaggiatori ben erano ai vostri tempi qualche pallone dirigibile sempre pericoloso disse Toby e siccome i palloni causavano troppe disgrazie noi da 50 anni abbiamo abbandonato l'idrogeno per le ali prendiamo il tè poi avrete il tempo di osservare il mio condor e di vederlo manovrare strappò quasi per forza il dottore Brandock dalle finestre e trasse dal vagoncino le tazze la salvietta ed il recipiente contenente la profumata bevanda nonché dei biscotti non siate troppo impazienti disse bisogna vedere le cose una alla volta o vi affaticherete troppo il tempo non ci manca bevettero il tè bagnandovi qualche biscotto poi Holker salì sul davanzale che era molto basso e mise i piedi sulla piattaforma della macchina volante su cui erano state collocate quattro comode poltroncine Harry il negro gigante stava dietro alla macchina tenendo le mani su una piccola ruota che faceva agire due immensi timoni di forma triangolare costruiti con una specie di tela lucidissima montati sopra una leggera armatura di metallo Brandock e Toby si erano appena seduti che il condor si innalzò subito obliquamente fino al di sopra delle immense case descrivendo una serie di giri d'una precisione ammirabile quella macchina inventata dagli scienziati del 2000 era davvero stupefacente e quello che è più d'una semplicità straordinaria non si componeva che di una piattaforma di metallo che pareva più leggero dell'alluminio con quattro ali e due eliche collocate le une lateralmente alle altre tutte di tela con stecche d'acciaio e una piccola macchina che le faceva agire il gas come si vede non vi entrava per nulla la meccanica aveva trionfato sui palloni dirigibili del secolo precedente Toby ed il suo compagno guardavano con stupore quel congegno straordinario che si alzava e si abbassava e girava e rigirava come fosse un vero uccello altri consimili ne volavano in gran numero sopra i tetti dei palazzi gareggiando in velocità per la maggior parte montati da signore che ridevano allegramente e da fanciulli schiamazzanti venerano di tutte le dimensioni di grandissimi che portavano perfino venti persone e di piccolissimi appena sufficienti per due ed altri formati da sole due ali somiglianti a quelle dei pipistrelli che reggevano una poltroncina montata da una sola persona e cheppure manovravano con non minore precisione e rapidità degli altri in alto in basso si incrociavano saluti e chiamate poi la flottiglia aerea si disperdeva in tutte le direzioni calando sulle vie sulle piazze sulle immense terrazze delle case o fermandosi dinanzi alle finestre o dai poggioli per imbarcare nuove persone Brandoch e Toby erano diventati muti come se lo stupore avesse paralizzato la loro lingua non dite nulla dunque chiese finalmente Holker avete perduta la favella? io mi domando se sto sognando disse Brandoch è impossibile che tutto ciò sia realtà mio caro Brandoch siamo nel duemila tutto quello che vorrete eppure è stento a persuadermi che il mondo in soli cent'anni sia così progredito trasformare gli uomini in uccelli è incredibile e non vi è pericolo che queste macchine volanti cadano chiese Toby qualche volta succedono degli scontri le ali si spezzano le eliche si lacerano e allora guai a chi cade eppure chi ci bada forse che ai vostri tempi non surtavano le vecchie ferrovie e le navi sono incidenti che non commuovono nessuno che macchine sono quelle che fanno agire le ali macchine elettriche di grande potenza come vi ho detto in questi cent'anni l'elettricità ha fatto dei progressi stupefacenti e quale velocità potete imprimere a queste navi volanti anche centocinquanta chilometri all'ora sicché avete abolito i treni ferroviari chiese Brando oh no mio caro signore non sono più quelli che si usavano ai vostri tempi troppo lenti per noi ma ne abbiamo ancora moltissimi capirete che queste macchine volanti non si possono caricare soverchiamente non servono che per divertirsi o per compiere delle piccole corse di piacere e pei lunghi viaggi attraverso gli oceani anche proseguì Holker noi abbiamo dei veri vascelli aerei che partono regolarmente da tutti i porti dell'Atlantico e del Pacifico e che in 36 ore vi sbarcano in Inghilterra ed in 40 nel Giappone o nella Cina o nell'Australia non vi sono più navi sui mari oh sì ne abbiamo ancora ma non sono più quelle che si usavano nel secolo scorso ne vedrete molte quando attraverseremo l'Atlantico ho pensato anzi di lasciare alle cascate del Niagara il mio condor e di condurvi a Quebec con la ferrovia canadese per imbarcarvi poi di là per l'Europa mio caro nipote disse Toby tu trascuri i tuoi affari suppongo che avrai qualche occupazione sono medico nel grande ospedale di Brooklyn per ora non si ha bisogno di me avendo io due mesi di vacanza anche tu dottore esclamò Toby che farà una ben meschina figura dinanzi all'uomo che ha fatto una così grande scoperta ne sarai l'erede disse Toby in quel momento il condor si abbassò bruscamente su una vasta piazza brulicante di gente che pareva impazzita che cosa accade laggiù chiese Brandock che si era curvato sul parapetto della piattaforma è la piazza della borsa rispose Holker sembra che quegli uomini abbiano il fuoco addosso vanno e vengono quasi correndo e anche la gente che si affolla nelle vie vicine pare che cammini sui tizioni disse Toby eppure non saranno borsisti quelli là camminavano diversamente cent'anni fa chiese Holker con una certa sorpresa erano molto più calmi gli uomini mentre ora vedo che perfino le signore marciano a passo di corsa come se avessero paura di perdere il treno io ho sempre veduto da quando son venuto al mondo correre così frettolosamente ah ora comprendo disse Toby è la grande tensione elettrica che agisce sui loro nervi il mondo è impazzito o quasi Harry disse Holker muovi verso Brooklyn il condor salzò ad un centinaio di metri e si slanciò verso l'est con una velocità di 50 chilometri all'ora vie immense apparivano sotto gli aeronauti se così si potevano chiamare fiancheggiate da palazzi mostruosi di 20, 25 e perfino di 30 piani che dovevano contenere migliaia di famiglie ciascuno la popolazione di un villaggio mille fragori salivano fino agli orecchi dei due risuscitati prodotti chissà da quali macchine gigantesche fischi colpi formidabili detonazioni scoppi e si vedevano lungo le pareti e sulla cima di colonne di ferro roteare con velocità straordinaria delle macchine volanti di dimensioni mai viste che cosa fanno laggiù chiese Brandock sono officine meccaniche rispose Holker chissà quante migliaia di operai lavoreranno là dentro vi ingannate mio caro signore gli operai oggi dì sono quasi scomparsi non vi sono che dei meccanici per dirigere le macchine l'elettricità ha ucciso il lavoratore cosa è avvenuto di quelle masse enormi di lavoratori che esistevano un tempo sono diventati pescatori ed agricoltori il mare e le campagne a poco a poco hanno assorbito gli operai sicché non vi saranno più scioperi è una parola sconosciuta ai nostri tempi si imponevano e come specialmente dopo l'organizzazione fatta dal grande partito socialista che cosa è avvenuto anzi del socialismo si prediceva un grande avvenire a quel partito è scomparso dopo una serie di esperimenti che hanno scontentato tutti e contentato nessuno era una bella utopia che in pratica non poteva dare alcun risultato risolvendosi infine in una specie di schiavitù così siamo tornati all'antico e oggi divi sono poveri e ricchi padroni e dipendenti come era migliaia d'anni prima e come è sempre stato da che il mondo cominciò a popolarsi qualche colonia tedesca e russa sussiste non di meno ancora composta da vecchi socialisti che coltivano in comune alcune plaghe della patagonia e della terra del fuoco ma nessuno si occupa di loro ne hanno alcuna importanza anzi vanno scomparendo poco a poco il ponte di brooklyn esclamò brandock lo riconosco ancora ha dunque resistito fino ad oggi già sono più di centoventi anni che è lì gli ingegneri dei vostri tempi erano buoni costruttori disse holker come è diventato immenso quel sobborgo esclamò il dottore guardando con ammirazione la distesa di palazzi immensi che si estendeva a perdita d'occhio quattro milioni di abitanti disse holker ormai gareggia con nuova york e londra che cosa sarà mai una città di dodici milioni e parigi una metropoli sterminata più grossa ancora harry va dritto alla stazione oltrapotente il condor oltrepassato il ponte aveva affrettato il volo anche di sopra all'antico sobborgo di nuova york si vedevano volteggiare un gran numero di macchine volanti cariche di persone che si dirigevano per lo più verso l'hudson o verso il mare il condor dopo essere passato sopra la città si diresse verso una piccola altura su cui si vedeva ergersi una torre immensa munita sulla cima di un'antenna smisurata che pareva un cannone mostruoso minacciante il cielo la stazione ultrapotente disse holker vedete là a fianco della torre anche un tubo lucente di dimensioni pure enormi si e cos'è chiese toby è il più grande cannocchiale che esista al mondo deve essere immenso è lungo centocinquanta metri signori miei una vera meraviglia che permette di vedere la luna ad un solo metro di distanza sicché voi avete realizzato l'antico sogno dei nostri astronomi anche i vostri scienziati hanno tentato di avvicinare di tanto il nostro satellite sì nipote mio rispose toby e senza riuscirvi sicché ora la luna è ormai conosciuta minutamente conosciamo anche le sue più piccole rocce è popolata è un corpo spento senza aria senza acqua senza vegetazione e senza abitanti già anche i nostri astronomi l'avevano supposta così e Marte a quanta distanza lo vedete col vostro cannocchiale chiese Brandock a soli trecento metri che meraviglie adagio Harry scendi piano il condor aveva superata una vasta cinta che circondava la stazione e scendeva dolcemente descrivendo delle curve allungate alle otto del mattino s'adagiava a trenta metri dall'enorme telescopio capitolo sesto delle meraviglie del duemila questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol le meraviglie del duemila di Emilio Salgari capitolo sesto i marziani un uomo sulla sessantina che aveva una testa ancor più grossa del signor Holker ed il viso completamente rasato era uscito dall'immensa torre che si innalzava nel centro della cinta e si era affrettato ad andare incontro ai visitatori dicendo buongiorno dottore è un po' di tempo che non vi si vede qui buongiorno signor Hebert aveva risposto Holker vi conduco due miei amici giunti ieri dall'Inghilterra e che sono curiosi di visitare marziani siano e benvenuti rispose il signor Hebert stringendo la mano agli ospiti sono a loro disposizione il più grande astronomo d'America disse Holker dopo la presentazione la gloria di aver messa in comunicazione la terra con Marte la dobbiamo a lui credevo che fossero stati gli scienziati europei disse toby so che se ne occupavano molto un tempo l'America li ha preceduti disse Holker sarei curioso di sapere come siete riuscito a dare a quei lontani abitanti notizie della terra dovete aver superate delle difficoltà immense eppure che cosa direste se io vi raccontassi che l'idea di fare dei segnali a noi nacque prima nel cervello dei marziani disse l'astronomo mi pare impossibile esclamò Brandock eppure è precisamente così mio caro signore già da molti lustri anzi fin dal 1900 e anche prima i nostri vecchi astronomi e anche quelli europei specialmente l'italiano schiapparelli avevano notato che su quel pianeta apparivano di quando in quando specialmente dopo il ritiro delle acque che ogni anno invadono quelle terre delle immense linee di fuoco che si estendevano per migliaia di chilometri me ne ricordo disse il dottor toby l'ho già letto su una vecchia collezione di giornali del 1900 che conservo in casa mia si credeva allora che quei fuochi fossero segnali fattici dagli abitanti di Marte in questo secolo i nostri astronomi vedendo che quelle linee di fuoco si ripetevano con maggior frequenza e che descrivevano per lo più una forma rassomigliante ad una gei mostruosa supposero che fossero veramente segnali e decisero di provare a rispondere fu nel 1940 che si fece il primo esperimento nelle immense pianure del far west 200.000 uomini furono disseminati in modo da formare pure una gei e 200.000 fuochi furono accesi durante una notte scurissima 24 ore dopo lo stesso segnale appariva pure su uno degli immensi canali del pianeta marziano si pensò allora per meglio accertare che si rispondeva a noi di ripetere l'esperimento cambiando però la forma del segnale e fu scelta la lettera Z venti notti dopo i marziani rispondevano con una lingua di fuoco della stessa forma il dubbio ormai non poteva più sussistere i marziani chissà da quanto tempo cercavano di mettersi in relazione con noi per un mese furono continuate le prove cambiando sempre lettera e con crescente successo non potevate però comprendervi disse Tobi sarebbe stato necessario che avessero avuto un alfabeto uguale al nostro e poi quel mezzo sarebbe stato molto costoso nacque allora nella mente degli scienziati l'idea di mandare lassù un'onda herziana nella speranza che anche i marziani avessero uno strumento ricevitore a spese dei vari governi americani fu innalzata questa torre d'acciaio che fu spinta fino a 400 metri e piantata sulla cima una stazione ultrapotente di telegrafie senza fidi una invenzione non moderna la telegrafia aerea disse Brandock è vero che si conosceva fin dai primi anni dello scorso secolo e che fu perfezionata dalle scoperte di un bravo scienziato italiano il signor Marconi ma allora non aveva la potenza d'oggi i nostri strumenti perfezionati da molti scienziati hanno raggiunto una tale forza che noi potremmo corrispondere anche col sole se lassù vi fossero degli abitanti e dei ricevitori elettrici per molti mesi lanciammo onde elettriche senza alcun risultato un giorno con nostra grande meraviglia udimmo i segnalatori suonare erano i marziani che finalmente ci rispondevano quel popolo ha fatto anche da parte sua delle meravigliose scoperte esclamò Toby noi abbiamo i nostri motivi per credere che siano molto più avanti di noi da prima i segnali furono confusi e ci riuscì impossibile intenderci a poco a poco però fu combinato un cifrario speciale che i marziani dopo un paio d'anni riuscirono a comprendere ed ora corrispondiamo perfettamente bene e ci comunichiamo le notizie che avvengono sia quaggiù che lassù stupefacente esclamarono ad una voce brando che Toby ve lo avevo detto disse Holker ditemi signor un po' avendo terra e acqua al pari del nostro globo le sue condizioni fisiche sono invece molto differenti i mari di quel pianeta non occupano nemmeno la metà dell'estensione totale di quel globo il calore che riceve dal sole è mediocre essendo la distanza da esso maggiore di quella della terra l'anno è due volte più lungo ossia conta 687 giorni e l'aria è uguale alla nostra è più leggera cosicché l'atmosfera lassù è più pura non si formano nubi non si scatenano tempeste i venti mancano quasi del tutto e le piogge sono sconosciute e l'acqua è analoga a quella della terra e ciò si sapeva anche prima somigliando le nevi accumulate ai due poli di Marte alle nostre però l'acqua non dà luogo a evaporazione sensibile quindi niente piogge allora mancherà la vegetazione su Marte niente affatto mio caro signore vi sono piantagioni e foreste splendide che nulla hanno da invidiare al nostro globo e chi le annaffia se non piove chiese Brandoc la natura ha provveduto egualmente disse l'astronomo non circolando l'acqua con un sistema di nubi di piogge e di sorgenti come da noi vi hanno riparato le nevi condensate nelle regioni polari ogni sei mesi verso l'epoca dell'equinozio si fondono e producono delle inondazioni sopra immense estensioni di centinaia di migliaia di chilometri le acque regolate da una serie di canali costruiti da quegli abitanti scorrono e si inoltrano attraverso i continenti fertilizzando le terre e bagnando le pianure cessata la fusione le acque si ritirano fuggendo per gli stessi canali e lasciando nuovamente allo scoperto le terre i grandi canali dunque che gli scienziati dello scorso secolo avevano già segnalato sono opera dei marziani disse Tobi sì rispose l'astronomo sono lavori imponenti colossali avendo taluni una larghezza di cento e più chilometri e noi andavamo orgogliosi delle opere degli antichi egiziani signor Hibert disse Holker conduceteci sulla torre devo mandare un saluto al mio amico Onyx è il tuo marziano chiese Tobi che cosa fa quell'uomo o meglio quell'anfibio chiese Brandock è un mercante di pesci che si duole sempre di non potermi fare assaggiare le gigantesche anguille che i suoi pescatori prendono nel canale d'Egg dunque lassù vi sono padroni e lavoratori come sul nostro globo anche dei re dei capi che governano le diverse tribù disperse sui continenti tutto il mondo è paese pare di sì disse Holker ridendo venite signori disse l'astronomo la macchina è pronta a portarci lassù fino alla piattaforma girarono attorno alla colossale torre guardandola con profonda ammirazione che meschina figura avrebbe fatto la torre Eiffel costruita venticinque lustri prima a Parigi che pure in quella lontana epoca aveva meravigliato il mondo intero per la sua altezza questa era un tubo mostruoso di 400 metri d'altezza con un diametro di 150 alla base costruito parte in acciaio e parte in vetro munito all'esterno d'una cornice che saliva a spirale larga tanto da permettere il passaggio ad un vagoncino contenente otto persone era di forma rotonda come quella dei fari è certo d'una resistenza tale da sfidare i più poderosi cicloni dell'Atlantico Toby Brandock l'astronomo e Holker presero posto nel vagoncino il quale cominciò a salire con velocità vertiginosa girando intorno alla torre mentre i vetri che pareva si agitassero meccanicamente davano ai viaggiatori l'illusione di salire intorno ad un colossale tubo di cristallo due minuti dopo il vagoncino si fermava automaticamente sulla piattaforma della torre dinanzi all'immensa antenna d'acciaio che doveva sostenere gli apparecchi della telegrafia aerea rassomiglia questa stazione più in grande a quella che il signor Marconi cent'anni fa aveva piantata al capo Breton e mormorò Toby agli orecchi di Brandock ti ricordi che l'avevamo visitata insieme sì ma quale potenza sono riusciti a dare ora alle onde elettriche rispose il giovine ah quante meraviglie quante toby mi riprende il fremito dei muscoli è l'elettricità che non soffrano di questa agitazione gli uomini di oggi essi sono nati e cresciuti in mezzo alla grande tensione elettrica mentre noi siamo persone di un'altra epoca ciò mi preoccupa amico James non te lo nascondo perché non so se potremo farci l'abitudine che cosa temi nulla per ora tuttavia provi lo spleen finora no rispose Brandock come sarebbe possibile annoiarsi con tante meraviglie da vedere questa è una seconda esistenza per noi meglio così mentre si scambiavano queste parole il direttore aveva lanciato già parecchie onde elettriche agli abitanti di marte ci vollero ben quindici minuti prima che la suoneria elettrica annunciasse la prima risposta che era un saluto dell'amico di Holker si vede che quel brav'uomo si trovava alla stazione telegrafica disse il nipote di toby certo aspettava miei notizie signor hibert riuscirete un giorno a dare la scalata a marte io credo che ormai non vi sia più nulla d'impossibile rispose con grande serietà l'astronomo da due anni gli scienziati dei due mondi si occupano di questa grande questione per dare uno sfogo alla crescente popolazione della terra abbiamo oggi degli esplosivi mille volte più formidabili della polvere della dinamite che si usava anticamente anticamente esclamò Brandock quasi scandalizzato per modo di dire disse l'astronomo può darsi che un giorno si riesca a lanciare fra i marziani qualche bomba mostruosa piena di abitanti terrestri non si sa cosa ci riserva l'avvenire scendiamo e venite a vedere il mio telescopio che è il più grande che sia stato finora costruito risalirono sul vagoncino ed in mezzo minuto si trovarono alla base della torre lì vicino si ergeva il mostruoso cannocchiale consisteva in un enorme tubo di lamiera d'acciaio lungo centocinquanta metri con un diametro di cinque pesante ottantamila chilogrammi è fissato su due enormi pilastri di pietra un cannone colossale esclamò Brandock come fate a muovere questo mostro non ve n'è bisogno rispose l'astronomo anzi è fisso allora non potete osservare che è una sola porzione del cielo osservò Toby vi ingannate caro signore guardate attentamente lassù e vedrete dinanzi all'obiettivo nel prolungamento dell'asse uno specchio che è immobile ed è destinato a rinviare le immagini degli astri nell'asse del telescopio quello specchio è mosso da un movimento d'orologeria regolato in modo da procedere in senso contrario al moto della terra cosicché il lastro che si vuole osservare resta costantemente nel campo del cannocchiale come se il nostro pianeta fosse completamente immobile che meravigliose invenzioni mormorò il dottore che cosa sono in confronto quelle di cui si vantavano tanto gli scienziati francesi nel secolo scorso disse Brandock volete parlare del grande telescopio di Parigi sì per molti anni fu ritenuto una meraviglia disse l'astronomo quello però non avvicinava la luna che ha soli 128 chilometri ed era già molto per quei tempi non poteva avvicinarla di più essendo la luna distante da noi 384.000 chilometri ora noi l'avviciniamo ad un metro amici disse Holker partiamo faremo colazione troppo tardi le cascate sono un po' lontane andate a visitare quelle del Niagara chiese l'astronomo sì rispose Holker strinsero la mano allo scienziato salirono sul condor e pochi istanti dopo sfilavano sopra Brooklyn dirigendosi verso il nord-est capitolo settimo delle meraviglie del duemila questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol le meraviglie del duemila di Emilio Salgari capitolo settimo le cascate del Niagara i palazzoni enormi come a Nuova York contenenti centinaia di famiglie si succedevano senza interruzione e anche nelle vie dell'antico soborgo della capitale dello Stato regnava un'animazione straordinaria febbrile i bruclinesi parevano pure impazziti e correvano piuttosto che camminare come se avessero addosso il diavolo e l'argento vivo nelle vene la tensione elettrica produceva i medesimi effetti anche sugli abitanti del soborgo quello che colpiva sempre i risuscitati era la mancanza assoluta dei cavalli e delle carrozze perfino le automobili erano quasi scomparse non vedendosene che qualcuna il condor stava attraversando una vasta piazza quando l'attenzione di Brandock fu attirata dal passaggio di quattro mostruosi animali montati ognuno da un uomo o bella esclamò degli elefanti dove? chiese Holker laggiù guardateli saranno poi proprio degli elefanti in carne ed ossa chiese il pronipote del dottore guardandoli un po' ironicamente sospetto che voi v'ingagnate signor Brandock non sono cieco signor Holker e nemmeno io disse Toby sono dei veri elefanti sono degli spazzini di acciaio signori miei disse Holker ridendo qualche nuova invenzione esclamarono Toby e Brandock è non meno utile delle altre disse Holker è anche molto economica perché così il comune può fare a meno d'un esercito di spazzini d'altronde quel mestiere era indegno degli uomini quegli animali sono spazzini esclamò Brandock che stentava a credere alle parole di Holker e come funzionano bene essi eseguono la pulizia delle vie e delle piazze per mezzo della proboscide che è composta di un centinaio di tubi d'acciaio rientranti l'uno nell'altro in modo da dare ad essa un'agilità straordinaria nella testa invece vi è un potente apparato aspirante mentre il motore che è elettrico si nasconde nei fianchi dell'animale quando il conduttore che come vedete si trova a cavalcioni del collo come i cornach indiani scorge delle immondizie sulla via preme una leva collocata a portata della sua mano la quale dirige i movimenti della tromba e dell'apparato aspirante la proboscide allora s'allunga verso l'oggetto da raccogliere e l'apparato si mette in azione ne segue quindi un'aspirazione violenta a cui nulla resiste di modo che pietre cenci pezzi di carta torsoli immondizi ed ogni sorta vanno ad inabissarsi nel corpo dell'elefante spazzino non resta poi che andare a scaricare la raccolta come vedete la cosa è semplicissima stupefacente invece disse Brandock che progresso meccanico Harry accresci la velocità disse Holker Brooklyn spariva rapidamente fra le nebbie dell'orizzonte ed il condor volava sopra bellissime campagne coltivate con grande cura in mezzo alle quali si vedevano correre delle strane macchine agricole di proporzioni gigantesche gli alberi erano rari le piante basse invece infinite a che cosa infatti sarebbe dovuto servire legname dal momento che gli abitanti del globo avevano il radium per scaldarsi negli inverni e non costruivano che col ferro e con l'acciaio si vedeva che tutto avevano sacrificato per non correre il pericolo di trovarsi ben presto alle prese con la fame dato l'immenso e rapido aumento della popolazione alle nove del mattino il condor dopo essere passato in vista di Patterson diventata anche quella una città immensa entrava nello stato della Pennsylvania alla velocità di 112 km all'ora signor Holker disse Brandock c'è una cosa che non riesco a spiegarmi quale ai nostri tempi questi territori erano coperti da linee ferroviarie mentre ora non riesco a scorgerne una eppure in questo momento passiamo sopra una delle più importanti linee è quella che unisce Patterson a Quebec io non la vedo perché al giorno d'oggi le ferrovie non scorrono più sopra il suolo bensì sotto diversamente l'aria sfuggirebbe guardate là non scorgete una casa sormontata da un albero che non è altro che un segnalatore e trasmettitore elettrico della telegrafia aerea la scorgo è una stazione e la ferrovia vi passa sotto mi avete parlato d'aria cosa c'entra con le ferrovie lo saprete quando prenderemo il treno che ci porterà a Quebec ah ecco l'omnimus che va a Scranton un'enorme macchina aerea fornita di sei pai ad ali immense e di eliche smisurate con una piattaforma di venti metri di lunghezza carica di persone s'avanzava con velocità vertiginosa tenendosi a cento metri dal suolo magnifico esclamò il dottore chi sono contadini che portano i loro prodotti a Scranton come sono bruni si direbbero indiani disse Brandoc a proposito che cosa è avvenuto dei pelli rosse che erano ancora assai numerosi cent'anni fa sono stati completamente assorbiti dalla nostra razza e si sono del tutto fusi con noi non esistono ormai che poche centinaia di famiglie confinate nell'alto yukon e presso il circolo polare era la sorte che loro spettava disse il dottore e dei negri che erano numerosissimi anche qui sono diventati invece spaventosamente numerosi rispose Holker hanno buon sangue gli africani e non si lasciano assorbire e così pure gli uomini di razza gialla c'è ancora la Cina la Cina sì ma non l'impero rispose Holker ridendo è stato smembrato dalle grandi potenze europee ed ha tempo per impedire una spaventevole invasione la razza cinese in questi cento anni è raddoppiata e senza il pronto intervento dei bianchi spinta dalla fame non avrebbe tardato a rovesciarsi sull'Europa e sull'India hanno tuttavia invaso buona parte del globo non come conquistatori ma come emigranti e si trovano oggi di colonie cinesi perfino nel centro dell'Africa e dell'Australia e di malesi è un'altra razza che non esiste più ormai al mondo non ci sono più che bianchi gialli e negri che tentano di sopraffarsi e finora sono i secondi che hanno maggiore probabilità di vittoria essendo spaventevolmente prolifici noi corriamo il grave pericolo di venire a nostra volta assaliti dalle altre due razze dunque il mondo minaccia di divenire tutto giallo disse toby purtroppo zio rispose holker ai vostri tempi a quanto ascendeva la popolazione del globo a circa mille cinquecento milioni e l'elemento mongolo vi figurava con circa seicento milioni la popolazione attuale è invece di due miliardi e duecento milioni ed i gialli da seicento milioni sono saliti ad un miliardo e cento milioni che aumento esclamò il dottore ed i bianchi quanti sono dunque raggiungono appena i seicento milioni un aumento non troppo sensibile e lo dobbiamo alle razze nordiche e le razze latine la sola Italia è cresciuta e rapidamente perché ha i suoi cinquanta milioni mentre la Spagna e soprattutto la Francia sono rimaste quasi stazionarie se non vi fosse l'Italia la razza latina a quest'ora sarebbe stata assorbita dagli anglosassoni e dagli slavi eccola in fondo Ulmina stiamo rientrando nello stato di Nuova York e fra due ore saremo alle cascate il condor che procedeva sempre con la velocità di centodieci chilometri rientrava infatti nello stato di Nuova York passando in vista di Ulmina città cento anni prima di modeste proporzioni ed ora diventata vastissima modificò un po' la direzione e s'avviò verso Baffalo passando sopra campagne sempre coltivate con grande accuratezza alle undici il condor si librava in vista del Niagara quell'ampio fiume che mette in comunicazione due dei più grandi laghi dell'America settentrionale l'Ontario e l'Erie l'immensa cascata non si scorgeva ancora si udiva invece il rombo dell'enorme massa d'acqua da qualche minuto una viva eccitazione si era impadronita di Toby e Brandock i loro muscoli sussultavano le loro membra tremavano e lisciandosi i capelli facevano sprigionare delle scintille elettriche quanta elettricità regna qui disse Toby l'aria ne è satura provi un certo malessere james si rispose il giovane non saprei resistere a lungo a questa tensione che mi fa scattare e tu nipote io non provo assolutamente nulla rispose Holker noi ci siamo ormai abituati non so se noi ci riusciremo disse Toby che pareva assai preoccupato noi siamo persone d'un altro secolo io spero di sì rispose Holker ah ecco le cascate il condor dopo aver superato una collina che impediva la visuale con una rapida volata era giunto sopra le famose cascate librandosi fra una immensa nuvola d'acqua polverizzata in mezzo a cui spiccava un superbo arcobaleno l'immensa massa d'acqua si rovesciava nel fiume sottostante con un fragore assordante mettendo in moto un numero infinito di ruote gigantesche costruite tutte in acciaio destinate a trasmettere la forza a tutte le macchine elettriche della federazione americana lo spettacolo era spaventevole e nel medesimo tempo sublime in quei cent'anni delle notevoli modificazioni erano avvenute nella cascata le rocce che dapprima la dividevano erano scomparse e l'acqua si precipitava ormai senza intoppi facendo girare vertiginosamente le ruote un numero infinito di grossi fili di acciaio destinati a portare a grandi distanze e suddividere la forza della cascata si diramavano in tutte le direzioni ecco la grande officina elettrica degli stati uniti disse Holker che mette in moto senza un chilogrammo di carbon fossile migliaia e migliaia di macchine quest'acqua ha fatto abbandonare tutte le miniere di combustibile quale forza enorme deve produrre esclamò il dottore se l'Europa ne volesse potremmo cedergliene una buona parte rispose Holker e quale modificazione ha subito la cascata disse Brandock e si modificherà ancora rispose Holker i nostri scienziati hanno già accertato che per giungere al punto attuale ha dovuto cambiare quattro volte nel primo periodo che sarebbe durato diciassettemila anni la quantità d'acqua era di un terzo minore del volume attuale e con una caduta di soli sessanta metri ed una larghezza di tre chilometri nel secondo il fiume fu diviso in tre cascate di centoventotto metri e durò diecimila anni ora siamo nel quarto andiamo a far colazione e poi prenderemo il treno che ci condurrà a Quebec non faremo che una volata sola il condor descrisse due o tre giri al di sopra della muggente cascata entrando e uscendo dalla nube di pulviscolo poi si diresse verso Baffalo per arrivare al treno dopo mezz'ora si librava sopra la città fra un gran numero di battelli volanti che si dirigevano per la maggior parte verso le cascate carichi di forestieri giunti forse dall'Europa il macchinista dopo aver ricevuto dal suo padrone un ordine fece scendere la macchina in una vasta piazza che era circondata da palazzoni di diciotto o venti piani costruiti per la maggior parte in lastre metalliche e che non mancavano all'esterno almeno d'una certa eleganza andiamo a fare colazione al bar del Niagara disse Holker vi farete così un concetto degli alberghi moderni sbarcarono ed attraversarono la piazza che era quasi deserta essendo mezzogiorno ossia l'ora del pasto ed entrarono in una sala vastissima arredata con un certo lusso il cui soffitto era sostenuto da una ventina di colonne di metallo con viva sorpresa di Brandock e di Toby in quel preteso ristorante non vi erano né tavole né sedie e nemmeno un cameriere questo è un bar chiese Brandock dove si mangia benissimo e a buoni prezzi anche rispose Holker qui potrete trovare forse qualche bistecca di maiale sapientemente rosolata con contorno di rape e a chi devo ordinarla se non vedo nemmeno il padrone del bar o un cameriere chissà dove sarà il padrone del ristorante ma la sua presenza non è necessaria e nemmeno un cameriere per farne che Brandock era rimasto a bocca aperta guardando Toby che non sembrava meno sorpreso di lui voi dimenticate signori che siamo nel 2000 disse Holker vi mostrerò ora come i ristoranti d'oggi siano migliori di quelli d'un tempo e come il servizio sia inappuntabilmente pronto signor Brandock prendete una tazza di brodi innanzitutto vi farà bene vada per brodo Holker diede uno sguardo all'intorno poi condusse i suoi compagni verso una di quelle colonne attorno alle quali ad un metro dal suolo si vedevano quattro mensole di metallo ed introdusse in alcuni buchi delle monete servizio automatico brodo aveva letto con sorpresa di Brandock su una piccola piastra situata sopra la mensola ah ora comprendo esclamò Toby non era trascorso mezzo minuto che tre porticine s'aprirono e sopra la mensola comparvero come per incanto tre tazze di brodo fumante assieme ad una salvietta e ad un cucchiaio di metallo bianco signor Brandock disse Holker ai vostri tempi servizio era così pronto oh no in fede mia esclamò il giovine a quale punto è giunta la meccanica e come arrivano qui queste tazze con una piccola ferrovia elettrica simile a quella che già avete veduta ecco soppressi quei noiosi camerieri e anche il pessimo uso delle mance e dobbiamo mangiare in piedi è più spiccio e poi gli uomini oggi hanno troppa fretta volete altri piatti qui vi sono venti colonne che rappresentano il menù della giornata basterà che introduciate una moneta da venticinque centesimi e avrete tutto quello che vorrete compresi i dolci vino birra liquori caffè e tè quante straordinarie invenzioni quante meraviglie esclamò toby e quanta praticità e quanta comodità soprattutto aggiunse il buon Brandock amici miei disse ad un tratto se cambiassimo un po l'itinerario del nostro viaggio avete fretta di visitare l'europa nessuna risposero ad una voce Brandock e toby volete che andiamo al polo nord ridiscenderemo in europa per lo spitzbergen se Brandock e toby a quella inaspettata proposta non caddero per lo stupore fu un vero miracolo andare al polo nord avevano esclamato da quebec in cinque ore potremmo raggiungere la galleria americana a mezzanotte ci riposeremo fra i ghiacci dell'oceano artico in un letto non meno comodo di quello su cui avete dormito la notte scorsa in casa mia sei divenuto pazzo nipotino mio vuoi burlarti di noi gridò toby non ne ho alcuna voglia zio mio comprendo che la proposta vi possa stupire tuttavia vi prometto che la manterrò che cosa hanno fatto dunque gli uomini del duemila delle cose meravigliose ve lo dissi già terminiamo la nostra colazione rimandiamo il condor a nuova york e poi prenderemo la ferrovia canadese fine del capitolo settimo capitolo ottavo delle meraviglie del duemila questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol le meraviglie del duemila di Emilio Salgari capitolo ottavo le ferrovie del duemila dopo aver fatto un'abbondante colazione innaffiata da parecchi bicchieri di generoso vino spagnolo ed italiano i signor Holker e i suoi compagni congedarono Harry e si diressero verso un enorme fabbricato sormontato da una torre d'acciaio dalla cui cima si diramavano parecchi grossi fili di metallo ecco la stazione ferroviaria disse Holker scusate signor Holker disse Brandock nel momento di entrare voi ci promettete di condurci al polo nord sì avete trovato il modo di avvicinare il sole per caso perché mi fate questa domanda fa ancora freddo come ai vostri tempi e forse più ve lo dissi già l'anno passato la stazione polare ha segnato cinquantacinque gradi sotto zero e ci condurrete con queste vesti non ve ne date pensiero rispose Holker alla stazione di Quebec troveremo i bagagli contenenti l'occorrente per sfidare i freddi più intensi aspettate un momento che vada a far lanciare un telegramma aereo ad uno di quei negozianti che conosco mentre si recava all'ufficio telegrafico Toby e Brandock erano entrati in un'ampia sala alla cui estremità si scorgeva uno scalone dove sono questi treni io non li vedo e non odo quei mille fragori che ai nostri tempi si ripercuotevano sotto le immense tettoie disse Brandock da qualche parte vedremo sbucare quello che ci deve portare a Quebec sai Toby che io a forza di cadere di stupore in stupore finirò per diventare pazzo non ti senti bene? mi trovavo meglio cent'anni fa col mio spleen provo sempre una eccitazione strana è la tensione elettrica amici miei disse in quel momento Holker il treno sta per giungere abbiamo appena il tempo di discendere la scala i biglietti chiese Toby sono già nel mio portafoglio ho preso uno scompartimento per noi così potremo discorrere tranquillamente senza che vi siano testimoni all'estremità della scala si udì una voce poderosa gridare pronti il treno è giunto una ventina di persone che pareva avessero il diavolo addosso si erano precipitate giù dalla gradinata Holker e i suoi amici le avevano seguite una galleria fornita di una decina di porte che in quel momento erano aperte e attraverso le quali si vedevano uscire sprazzi di luce intensa si allungava per una quarantina di metri Holker spinse i suoi compagni verso una di quelle porte dicendo presto salite i due risuscitati si trovarono in un piccolo scompartimento con quattro comode poltroncine che si potevano trasformare in letti tutte di raso rosso e illuminato da una lampadina contenente un pezzetto di radium la ferrovia chiese Brandock le porte di ferro si erano chiuse con fracasso per qualche istante si udirono delle voci gridare e poi più nulla anche le porte dello scompartimento si chiusero da sé sorgendo da terra non ci muoviamo chiese dopo qualche istante Brandock siamo già in viaggio rispose Holker ridendo io non provo nessuna scossa né odo alcun rumore di macchine eppure il treno corre con una velocità fantastica quanto percorrevano allora i vostri treni 120 chilometri al massimo e questo procede con la velocità di 300 quale macchina lo spinge nessuna macchina viene aspirato e spinto contemporaneamente spiegati meglio nipote mio disse Tobi noi siamo troppo vecchi per capire a volo le invenzioni moderne noi viaggiamo in un tubo d'acciaio della circonferenza di 5 metri i cui carrozzoni che sono ordinariamente in numero di 20 combaciano perfettamente con le pareti di metallo questi vagoncini hanno una forma cilindrica la cui circonferenza è esattamente precisa a quella interna del tubo e possono contenere 24 passeggeri fra le due stazioni principali vi sono delle pompe mosse da macchine poderose che iniettano nel tubo correnti d'aria in quella di partenza le pompe sono prementi in quella d'arrivo invece delle pompe aspiranti i cilindri che costituiscono i carrozzoni e che sono pure di acciaio vengono in tal guisa spinti ed aspirati in poche parole sono treni ad aria compressa stupefacente esclamò toby che cosa non avete inventato voi uomini del osservo una cosa disse brandok datemi una spiegazione dite pure i cilindri con lo sfregamento non s'infiammano mi pare che noi dovremmo cuocere qui dentro mentre la temperatura si conserva relativamente fresca niente affatto prima perché viene adoperato un metallo che è lentissimo a riscaldarsi il tantalio che se non erro ai vostri tempi valeva cinquantamila lire al chilogrammo e la chimica d'oggi può dare ad un prezzo uguale a quello dell'argento poi perché il cilindro di testa e quello di coda sono formati da due immensi serbatoi i quali proiettano incessantemente getti d'acqua impedendo il riscaldamento e l'aria pei viaggiatori viene fornita da cilindri d'acciaio che sono serbatoi d'aria compressa provate difficoltà a respirare no rispose brandok vi è un tubo solo per ogni linea chiese toby no zio ve ne sono quattro uno pei treni diretti che non si fermano che nelle grandi stazioni come questo uno per le stazioni intermedie e due pei treni merci appena uno giunge l'altro di ritorno parte ogni due ore abbiamo treni che vanno ed altri che giungono così gli scontri sono impossibili disse brandok non possono accadere non essendovi che uno o al più due treni nel tubo che seguono la medesima via quando si pensa come si viaggiava una volta c'è da impazzire che cosa direbbero francesco primo re di francia e carlo quinto se potessero tornare al mondo e pretendevano di avere i più rapidi corrieri del mondo quei re disse holker avevano delle lumache forse e che cosa direbbero il capitano paulain burocchio chameran e soprattutto marivaux chi erano costoro chiese brandok i più rapidi corrieri dell'europa medievale che fecero in quell'epoca stupire tutti per la loro velocità paulain aveva impiegato venti giorni per recarsi da costantinopoli a fontainebleau per portare un messaggio a francesco primo burocchio ne aveva impiegati quattro per portare al re di polonia la notizia della morte di carlo nono e marivaux quattro giorni per percorrere la distanza che corre fra parigi e marsiglia e quei nostri bravi antenati affermavano che con simili corrieri le distanze ormai erano scomparse si contentavano di poco i nostri vecchi disse holker un sibilo acuto che proveniva dall'alto fece alzare la testa a brandok ed a toby era uscito da un piccolo tubo che si ripiegava in basso vicino alla lampada a radium ci avverte che siamo giunti chiese brandok no è una comunicazione del yum a cui è abbonata questa linea ferroviaria per tenere i viaggiatori al corrente delle notizie più importanti anche viaggiando in qual modo mediante un filo che si svolge su un rocchetto a misura che il treno procede ascoltiamo una voce metallica si fece subito udire grave disastro sul missuri prodotto da una piena improvvisa omaha è quasi interamente distrutta e sessantamila persone si sono annegate il governo del nebrasca ha mandato ingegneri con ventimila uomini viveri e scialuppe Europa gli anarchici della città sottomarina che hanno saccheggiato Cadice sono stati completamente distrutti dai pompieri di Malaga il governo spagnolo indennizzerà gli abitanti Asia il governo dell'India si trova in gravi imbarazzi causa la carestia gli indiani muoiono di fame a milioni brandok tutto ciò non è prodigioso chiese Toby continuiamo a sognare rispose il giovine ormai io sono convinto di essermi risvegliato non più sulla terra bensì in un altro mondo e quasi lo penso anch'io rispose Toby eppure esistono altre meraviglie ben più grandiose disse Holker una lieve scossa ed un fragore di porte che pareva saprissero lo interruppero quasi nel medesimo istante si udì una voce gridare Montreal di già nel Canada esclamò Brandok sono le due disse Holker osservando il suo cronometro quando giungeremo a Quebec alle tre e qualche minuto e al polo nord fra due giorni e noi supereremo in così breve tempo una così enorme distanza scivoleremo con una velocità di duecento miglia all'ora altro che la foga dagli uregani scivoleremo è la parola e come lo saprete quando avremo raggiunto i confini del continente americano e ci inoltreremo sull'oceano polare Brandok Toby sogna ancora sempre e sogno anch'io cinque minuti dopo il treno riprendeva la sua corsa infernale e alle tre pomeridiane si fermava alla stazione di Quebec la capitale del Canada appena usciti dallo scompartimento un uomo che gridava signor Jacob Holker entrò nella galleria portando due enormi valigie sono io rispose il nipote di Toby muovendogli incontro siete ai servigi del signor Vass sì signore le valigie devono contenere gli indumenti per una gita al polo allora siete proprio quello che cercavo abbiamo ricevuto il vostro telegramma due ore or sono da Buffalo Holker pagò senza mercanteggiare l'importo poi condusse i suoi amici al ristorante della stazione anche quello automatico e offrì da bere abbiamo dieci minuti di tempo per prendere il treno per il polo nord disse approfittiamone per scaldarci lo stomaco con un po' di cupper brandy infatti dieci minuti dopo i tre amici prendevano posto in uno scompartimento del treno del Labrador diretti al capo Wolstenholm sullo stretto di Hudson e partivano con una velocità di duecentosettanta chilometri all'ora quando giungeremo sulle coste dell'oceano artico chiese Brandock alle cinque di domani mattina rispose Holker troveremo qualche albergo lassù ed anche un buon letto fra i ghiacci il capo Wolstenholm è una stazione estiva molto frequentata durante i mesi di giugno luglio ed anche d'agosto al pari di quella dello Spitzbergen dello Spitzbergen esclamò Toby perché vi stupite zio perché ai nostri tempi quella grande isola dell'oceano artico non era frequentata che da orsi bianchi e da cacciatori di foche e di balene oggi è diventato un po' come la Svizzera rispose Holker fra quelle montagne nevose si trovano alberghi che nulla hanno da invidiare a quelli di Nuova York vedrete che meraviglie passeremo di là sì nel ritorno perché la galleria polare sbocca appunto in quell'isola che cosa mai ci narri vedrete vedrete siamo nel 2000 miei cari amici e non già nei lontani tempi del millenovecento ed esqui mesi ve ne sono ancora nelle regioni polari chiese brandok alcune famiglie soltanto le altre tribù sono invece quasi tutte scomparse e per quale motivo in seguito alla totale distruzione delle balene e delle foche che costituivano la loro alimentazione sono stati uccisi dalla fame sì signor brandok eppure mi avete detto che vi è una numerosa colonia polare è vero ed è costituita da anarchici colà confinati perché non turbino la pace del mondo e come vivono quelli i pesci abbondano ancora al di là del circolo polare e poi i governi americani ed europei li provvedono di viveri a patto che non lasciano i ghiacci sicché è loro proibito di tornare in Europa ed in America e anche in Asia ed il mondo è tornato tranquillo dopo la loro espulsione abbastanza rispose Holker e nella colonia polare regna la calma costretti a pescare e a cacciare incessantemente non hanno più tempo di occuparsi delle loro pericolose teorie così regna la calma ed un certo accordo erano diventati numerosi in questi cento anni chiese toby sì e anche molto pericolosi ora non son più da temersi essendo relegati con le loro famiglie al polo nord e nelle città sottomarine o non inquieteranno più l'umanità eppure il dispaccio di quel tal giornale smentisce ciò che voi avete affermato osservò brandok quello è stato un puro caso e poi avete saputo come sono stati trattati dai pompieri spagnoli pochi getti d'acqua elettrizzata a correnti altissime e tutto è finito diamine il mondo ha il diritto di vivere e di lavorare tranquillamente senza essere disturbato chi secca gli altri si manda nel regno delle tenebre e vi assicuro che nessuno piange una specie di giustizia turca disse brando credendo chiamatela come volete tutti la provano e la proveranno anche in avvenire mentre così passavano il tempo il treno correva entro il tubo d'acciaio con velocità spaventevole attraversando i geli di territori del labrador essendo come abbiamo detto autunno assai inoltrato la neve doveva aver coperto già da qualche mese quelle terre di uno strato considerevole e dal di fuori il freddo doveva essere intensissimo eppure i viaggiatori non se ne accorgevano affatto d'altronde bastava la lampada radium per spandere negli scompartimenti un dolce calore che si poteva aumentare a volontà alle otto della sera il treno si fermava alla stazione di mississinni innalzata sulle rive del lago omonimo appena aperte le porte d'acciaio le portiere dei carrozzoni degli uomini si presentarono ai viaggiatori portando delle tazze fumanti di brodo dei pesci bolliti e fritti dei paddings liquori e tè avrei preferito cenare al ristorante della stazione disse brandok stiamo meglio qui disse holker fuori fa un freddo cane quanti gradi chiese al cameriere che aveva portato la cena 15 sotto zero signore rispose l'interrogato l'inverno si annunzia rigidissimo quest'anno ed il lago è già gelato da tre settimane e l'oceano? tutto lo stretto è percorso da massi enormi di ghiaccio funziona ancora il battello tramvai? fino alla spiaggia di Baffin quali notizie della galleria? è più salda che mai non si è prodotta nessuna screpolatura nemmeno quest'anno buon viaggio signori il treno riparte depose le vivande sulle mensole che si trovavano vicino alle poltroncine poi scese rapidamente un momento dopo le portiere si chiusero le porte d'acciaio anche ed il treno aspirato da una parte e spinto dall'altra riprese la corsa ceniamo facciamo la nostra toaletta polare e poi cerchiamo di fare una dormita fino alle cinque di domani mattina non verremo più disturbati e poi cambiamo treno? chiese Toby sì per prendere il battello tramvai rispose Holker che cos'è? lo vedrete domani mattina zio una bella e comoda invenzione anche quella ceniamo fine del capitolo ottavo capitolo nono delle meraviglie del duemila questa registrazione libri vox è di pubblico dominio registrato da riccardo fasol le meraviglie del duemila di emilio salgari capitolo nono il battello tramvai alle cinque del mattino i tre amici che dopo aver indossati i pesanti vestiti dei viaggiatori polari si erano addormentati venivano svegliati dalle grida degli impiegati ferroviari della stazione di Wolstenholm Holker per il primo aveva aperto gli occhi dicendo ai suoi amici siamo sulle rive dell'oceano artico ed il battello tramvai ci aspetta per attraversare lo stretto d'Hudson non abbiamo tempo da perdere presero i loro bagagli lasciarono il caldo scompartimento e uscirono dalla galleria d'acciaio per entrare nella stazione una buona tazza di tè con un bicchierino di whisky prima di tutto disse Holker entrando in una sala che serviva da ristorante e che era splendidamente illuminata da una grossa lampada a radium deve fare molto freddo fuori riscaldatisi lo stomaco lasciarono la stazione seguiti da altri otto o dieci viaggiatori per la maggior parte inglesi e tedeschi che si recavano al polo era ancora notte però numerose lampade a radium illuminavano le vie del piccolo villaggio costruito sulle rive dell'oceano polare ed il freddo era intensissimo la neve copriva ogni cosa e doveva avere uno spessore considerevole chi abita questo paese da lupi chiese Brandock mentre si infagottava in un ampio mantello di pelle d'orso nero vi sono qui tre o quattro dozzine di pescatori canadesi rispose Holker tutti i tentativi fatti per colonizzare queste vaste terre sono riusciti vani è un vero peccato perché qui lo spazio non mancherebbe per far sorgere delle città gigantesche e piantare cavoli e seminare grano disse Brandock ridendo eppure qualche cosa nasce e matura qui nonostante il freddo ed in qual modo avete potuto ottenere questi miracoli proiettando sulle piante e sul terreno un continuo oggetto di luce a radium rispose Holker le patate vi crescono assai bene e anche i funghi nelle cantine delle case raccogliere dei funghi presso il circolo polare artico questa è grossa che cosa direbbero Franklin e Ross se tornassero in vita in quel momento un fischio acuto risuonò a breve distanza ed un potente fascio di luce fu proiettato sulla piccola schiera che era guidata da un impiegato ferroviario che cosa c'è? chiese Toby è il battello tramvai che ci chiama rispose Holker è un piroscafo o d'un carrozzone che viaggia sulla terra l'uno e l'altro zio disse Holker un'altra invenzione diabolica ma praticissima affrettarono il passo e dopo qualche minuto si trovarono sulla spiaggia dell'oceano artico all'estremità di un ponte di legno illuminato da parecchie lampade vi era un grosso battello sormontato da un solo albero sulla cui cima brillava una grossa palla di radium che lanciava in tutte le direzioni dei fasci di luce brillantissima leggermente azzurrina parecchi uomini coperti da vestiti villosi che li facevano rassomigliare a dorsi polari stavano allineati lungo le murate tenendo in mano delle lunghe aste con la punta d'acciaio dei soldati polari chiese Brandock dei marinai rispose Holker perché hanno quelle lance? per allontanare i ghiacci che s'accostano al battello ve ne saranno molti a largo e dove ci porterà questo battello? fin sulla terra di Baffin oltre il lago di Netteling mio caro nipote disse Toby ai nostri tempi quel lago si trovava nel cuore dell'isola è così zio questo battello non potrà quindi spingersi fin là a meno che non abbia delle ruote che lo conducano e se così fosse? se questo meraviglioso battello potesse ad un tempo navigare e correre anche sulla terra come una semplice automobile amico James che cosa dici di questa nuova invenzione? chiese Toby che finirò per non stupirmi più di nulla anche se dovessi trovare dei mari tramutati in campi fertili rispose Brandock giunti all'estremità del ponte salirono sul piroscafo cortesemente salutati dal capitano e dai suoi due ufficiali era una bella nave dai fianchi piuttosto rotondi per meglio sfuggire alle strette dei ghiacci lunga una trentina di metri con in mezzo una galleria formata da vetri di grande spessore per difendere i viaggiatori dai morsi del vento polare senza impedire loro di vedere ciò che succedeva all'esterno e bene illuminata Brandock Holker e Toby presero posto a prora sotto la galleria seguiti subito dagli altri passeggeri la porta fu chiusa la macchina lanciò un fischio acuto ed il battello si mise in moto a velocità moderata mentre i suoi uomini che si trovavano fuori della galleria salivano sulle murate immergendo nell'acqua le loro aste dalla punta ferrata lo stretto di Hudson che separa il territorio del Labrador dalla grande isola di Baffin era tutto ingombro di ghiacci si vedevano delle montagne galleggianti andare alla deriva spinte dal vento polare e anche molti banchi popolati da una grande quantità di uccelli marini sotto i fasci di luce della potente lampada radium che brillava sulla cima dell'albero quei ghiacci scintillavano come enormi diamanti e producevano un effetto sorprendente e meraviglioso il battello abilmente guidato si teneva a distanza da quei pericolosi ostacoli ora rallentava poi quando trovava uno spazio libero o un canale aumentava considerevolmente la velocità talora investiva poderosamente i banchi di ghiaccio col suo tagliamare e li stritolava adoperando certi bracci d'acciaio forniti di denti come quelli delle seghe che agivano ai due lati della prora e che in pochi istanti sgretolavano i massi una vera nave da ghiaccio disse Brandock che guardava con viva curiosità quante belle invenzioni e quando la vedrete salire sulla riva e correre sui campi di ghiaccio della terra di Baffin come una immensa vettura disse Holker è incredibile e nessuno ai nostri tempi avrebbe mai osato sperare di trasformare una nave in un tramvai disse Toby e che esce dall'acqua e che prosegue la sua corsa senza cambiare apparentemente nulla senza interrompersi nemmeno un istante che diventa vettura dopo essere stata battello e che torna di nuovo battello dopo essere vettura con un'agilità e rapidità unica aggiunse Holker sì è una vera nave meravigliosa io vorrei sapere come avviene questa trasformazione disse Toby in una maniera semplicissima rispose Holker il battello non ha che una sola macchina messa in moto dall'elettricità capace però di servire a diversi fini è producente una forza applicabile in parecchi modi per un'azione sempre diversa avviene così che la nave avvicinandosi alla riva riceve dalla motrice tutta la forza che si accumula su due ruote collocate a prora e nascoste entro due nicchie aperte nella carena appena l'acqua comincia a mancare quelle ruote mediante un meccanismo speciale si abbassano e si mettono in funzione mentre le eliche vengono fermate a poppa vi sono pure altre due ruote le quali agiscono perché trascinate dall'impulso di quelle anteriori ecco la nave trasformata senza bisogno di manovre faticose in un enorme tramvai sale la riva e si mette in marcia per terra e prosegue fino a che trova o qualche canale o qualche lago o qualche braccio di mare allora le ruote entrano nelle loro nicchie le eliche si rimettono in funzione ed ecco il tramvai tornato a battello non è ingegnoso tutto ciò ve ne sono molte di queste navi sì specialmente in Europa dove esistono spiagge basse come in Germania in Danimarca in Irlanda in Italia e così via e questi battelli conservano la loro velocità anche in terra chiese Brandock la medesima rispose Holker e la loro forza locomotrice è di 160 metri al minuto e sempre nuove invenzioni le une più meravigliose e più sorprendenti delle altre ah Toby cos'hai James sai che fra questi ghiacci non provo più quella strana agitazione che mi faceva sussultare i muscoli nemmeno io rispose il dottore e ciò dipende dall'essere lontani dalle grandi città qui l'elettricità non può farsi sentire come laggiù o come sopra le cascate del Niagara se noi non potremo resistere alle tensioni elettriche che si faranno sentire fortemente anche nelle grandi città europee ci rifugeremo al polo e diventeremo anche noi anarchici disse il dottore ridendo il battello tramvai continuava intanto a lottare vigorosamente contro i ghiacci per raggiungere le sponde meridionali della terra di Baffin che si discernevano già vagamente fra le brume dell'orizzonte delle montagne enormi dei cosiddetti icebergs apparivano di quando in quando capeggiando pericolosamente ed ondolandosi fra le onde e minacciando di rovesciarsi addosso alla piccola nave questa con una rapida manovra le evitava gettandosi in mezzo ai banchi che sormontava con slanci impetuosi e che spezzava col proprio peso nessuna nave si scorgeva su quel mare da quando le balene erano scomparse e le foche pure quelle acque erano diventate deserte abbondavano invece sempre gli uccelli marini anzi si mostravano così familiari che calavano in buon numero sulla galleria del battello senza inquietarsi per la presenza dei marinai verso le dieci del mattino dopo un'abbondante colazione offerta dal capitano ai passeggeri e che era già compresa nel prezzo del biglietto il narval tale era il nome del battello giungeva dinanzi alle spiagge meridionali della terra di Baffin e precisamente all'imboccatura di un canale che era formato da due immense rupi alla cui estremità si vedeva la terra scendere dolcemente la nave con pochi colpi di sperone si aprì il passo fra i ghiacci che avevano già otturata l'entrata del passaggio poi s'avanzò lentamente finché l'acqua venne a mancare le quattro ruote avevano lasciate le loro nicchie abbassandosi in attesa di mettersi in funzione ecco che diventa tramvai disse Holker la nave lascia il mare per la terra il narval si era bruscamente inclinato e le ruote anteriori si erano messe in movimento mentre la poppa era ancora in acqua la prora saliva la riva senza scosse e senza fatica ben presto l'intera nave si trovò in terra e partì con una velocità di trentacinque o quaranta chilometri all'ora come fosse un vero tramvai elettrico percorrendo una via segnalata da altissimi pali una pianura immensa quasi liscia coperta da un alto strato di ghiaccio e di neve gelata si estendeva a perdita d'occhio dinanzi ai viaggiatori polari quella terra quantunque spazzata dai venti e dagli uragani polari non era del tutto disabitata di quando in quando a lunghi intervalli il narval passava dinanzi a piccoli raggruppamenti di case di ghiaccio di forma semi-ovale abitate dalle ultime famiglie di esquimesi sfuggite miracolosamente alla morte per fame dopo la distruzione delle ultime balene e delle ultime foche da parte degli avidi pescatori americani vedendo il battello avanzarsi si affrettavano a uscire dalle loro casupole per chiedere qualche biscotto o qualche scatola di carne o di brodo concentrato erano i medesimi tipi di cent'anni prima un tronco tozzo su due gambe pure tozze una testa grossa con gli zigomi sporgenti faccia larga capelli neri naso schiacciato una certa somiglianza insomma con le loro buone amiche ormai scomparse le foche disgraziatamente per loro non si nutrivano più con le carni delle loro foche come un secolo prima non si vestivano più con le loro calde pellicce non illuminavano più le loro casupole con il loro grasso avevano anche essi un pezzo di radium ed invece di avere delle fiocine con la punta di osso portavano a tracolla dei buoni fucili elettrici coi quali si procuravano il cibo giornaliero massacrando gli uccelli marini sempre numerosi in grazia della cattiva qualità delle loro carni eccessivamente oleose per i palati americani ed europei erano molto sparuti però quei poveri diavoli quantunque si sapesse anche cent'anni prima di che specie di appetito erano dotati quegli abitanti dei ghiacci eterni essi infatti non facevano smorfie dinanzi ad un pesce avariato o a dei volatili in piena decomposizione e a degli intestini d'orso bianco e perfino dinanzi a degli escrementi o agli avanzi non ancora digeriti che ritiravano dal ventre delle renne uccise avevano anche perduta la loro proverbiale gaiezza in seguito alla mancanza di scorpacciate di lardo di balena si capiva che proprio la distruzione di quei giganteschi mammiferi aveva modificato profondamente il loro temperamento un tempo così gaio ecco una razza destinata a scomparire al pari dei pelli rosse disse brandok che era già uscito parecchie volte dalla galleria per gettare a quei disgraziati parecchie ceste di biscotti acquistate dal dispensiere del narval quanti anni durerà ancora pochi lustri di certo rispose holker non sono uomini da poter prendere parte alla grande lotta per l'esistenza scomparse le foche e le balene di che cosa potrebbero vivere se i viaggiatori che vanno al polo non li aiutassero a quest'ora sarebbero completamente spariti eppure vi è una colonia polare lassù mi avete detto quelli sono uomini che appartengono alla nostra razza rispose holker ecco l'egoismo della razza bianca in coscienza non posso darvi torto noi sempre noi soli a dominare il mondo è la lotta per la vita signor brandok o meglio la lotta di razza come volete rispose holker comincia a far buio come sono brevi le giornate in questa stagione sulle terre polari ecco che il sole tramonta e non sono che le tre pomeridiane quando prenderemo il treno polare chiese toby con evidente impazienza domani sera allora possiamo cenare e coricarci vi saranno delle cabine in questo battello ebbene riscaldate con un comodo letto la società polare ferroviaria non lesina mica in fatto di comodità venite amici per intanto andiamo in sala da pranzo lasciarono la galleria e scesero in uno splendido salone illuminato da quattro grosse lampade a radium che mantenevano un calore piacevolissimo si assisero ad una tavola dove si vedevano oltre a dei piatti d'argento delle coppe di cristallo piene di fiori ottimamente conservati raccolti probabilmente nelle serre di Quebec la composizione della cena era veramente polare salmone filetti di narvalo fegato di caribù coscia di renna con crescione pasticcio di fegato di morsa gelato e liquori a discrezione con tè e caffè a scelta almeno qui abbiamo della selvaggina disse Brandock un piatto di gran lusso al giorno d'oggi è vero signor Holker? dite è rarissimo anche nelle grandi città vive qui ancora qualche gruppo di renne e si trovano anche dei caribù e qualche morsa fra pochi anni vedrete che quegli animali e quegli anfibi saranno completamente scomparsi cenarono con molto appetito e verso le cinque mentre un folto nebbione al di fuori scendeva sulle pianure di ghiaccio si fecero condurre nelle loro cabine dove trovarono dei soffici letti che non erano inferiori a quelli della casa del signor Holker fine del capitolo nono capitolo decimo delle meraviglie del duemila questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol Le meraviglie del duemila di Emilio Salgari capitolo decimo la galleria polare dormivano da parecchie ore quando furono bruscamente svegliati da un urto piuttosto violento che si ripercosse in tutto lo scafo del battello tramvai e dalle grida dell'equipaggio essendo le lampade a radium rimaste accese Brandock, Holker e Toby si trovarono riuniti quasi nello stesso tempo nella sala dove avevano cenato e dove già si erano raccolti gli altri viaggiatori signor Holker disse Brandock vedendolo scambiare alcune frasi con uno degli ufficiali che era sceso nella sala che cosa è avvenuto nulla di grave rassicuratevi rispose il nuovo aiorchese con voce tranquilla il battello ha urtato contro un enorme masso di ghiaccio che la nebbia impediva di vedere e che sbarrava la via sicché non potrà più avanzare fino a che non si sarà tolto l'ingombro non sarà che un ritardo di un paio d'ore saliamo sulla galleria ed andiamo a vedere un masso enorme che doveva essersi staccato da qualche ghiacciaio avendo il narval raggiunto un gruppo di collinette piuttosto ripide era rotolato fino sulla via segnalata dai pali ed aveva fermata bruscamente la corsa l'intero equipaggio munito di lampade e di picconi si era già messo al lavoro per sgretolarlo aiutato da una ventina di esquimesi accorsi subito da un villaggio vicino se quel blocco piombava nel momento in cui passava il battello eravamo fritti disse Brandock lo schiacciava come una nocciola sono casi piuttosto rari non essendovi che poche collinette in quest'isola rispose holker non ho mai udito raccontare che uno di questi battelli sia stato schiacciato dove siamo ora a duecento miglia dalla stazione del lago signori disse in quel momento il capitano che era risalito a bordo ne avremo per tre ore se volete approfittarne per visitare il villaggio esquimese dei naztò che si trova qui presso non vi mancherà il tempo una visita agli abitanti del polo è sempre interessante per un turista metto a vostra disposizione un marinaio con due lampade approfittiamone pure disse Brandock io non sono mai stato nelle regioni polari la proposta fu subito approvata anche dagli altri viaggiatori e qualche minuto dopo il drappello lasciava la nave preceduto da un marinaio che illuminava la via con due lampade a radium il freddo era intensissimo al di fuori un nebbione pesante fittissimo che la luce delle lampade appena appena riusciva a diradare calava sulle pianure di ghiaccio e un forte vento soffiava dal polo signor Holker siete stato altre volte qui chiese Brandock mi sono recato al polo già due volte conoscete dunque gli esquimesi benissimo quali progressi hanno fatto in questi cento anni nessuno sono rimasti tali e quali come li avevano trovati gli esploratori del secolo scorso sono esseri incapaci di civilizzarsi e perciò finiranno anche essi con lo scomparire vi ho già detto che il loro numero è immensamente scemato dopo la distruzione delle balene delle foche e delle morse vivono ancora nelle capanne di ghiaccio chiese Toby sì zio e l'unico miglioramento che abbiano introdotto è quello di aver soppresse l'antica e fumosa lampada ad olio con quella a radium che le illumina e li riscalda meglio eccoci giunti volete che visitiamo una capanna turatevi il naso e fatevi coraggio erano giunti dinanzi al villaggio il quale si componeva ad una mezza dozzina di abitazioni di forme semisferiche composte di massi di ghiaccio sovrapposti con un certo ordine aventi sul davanti una piccola galleria che immetteva alla porta d'entrata internamente erano tutte illuminate sicché scintillavano fra la nebbia come se fossero colossali diamanti essendo il ghiaccio mantenuto sempre sgombro dalla neve che vi si accumulava sopra Holker stava per introdursi in una di quelle gallerie così basse e strette che non si poteva avanzare che strisciando quando un esquimese che li aveva seguiti lo fermò dicendo aga aga mantuk che cosa vuol dire chiese Brandock ho capito disse Holker è una tomba questa dove sta morendo tranquillamente qualcuno della tribù non disturbiamo la sua agonia come là dentro vi è uno che muore esclamò Brandock sì e solo la galleria deve essere già stata otturata quindi è sepolto vivo non durerà molto rispose Holker se la malattia non lo uccide presto si incaricherà la fame di mandarlo nel paradiso degli esquimesi spiegati meglio nipote mio disse Toby perché lo hanno sepolto vivo perché è stato giudicato inguaribile qui quando un uomo o una donna vengono colpiti da qualche malattia si cerca di curarli dapprima con degli incantesimi urlando e correndo intorno alla capanna e mettendo accanto all'infermo una pietra di due o tre chilogrammi secondo la gravità della malattia e che ogni mattina viene pesata dalla donna più vecchia della tribù o dall'angecock che ha una specie di stregone se la pietra non diminuisce di peso significa che il malato è spacciato gli costruiscono a poca distanza una nuova capanna di ghiaccio vi stendono delle pelli vi portano una brocca d'acqua ed una lampada il malato viene portato nella sua tomba e si corica sul suo letto fratelli sorelle mogli figli e parenti vanno a portargli il loro ultimo saluto non fermandosi più del necessario perché se la morte sorprendesse il malato i visitatori sarebbero costretti a spogliarsi dei loro abiti e gettarli via perdita non disprezzabile in questi climi poi chiudono la galleria con massi di ghiaccio e lasciano che il malato si spenga da sé e si lasciano rinchiudere senza protestare anzi sono loro che pregano i parenti di portarli nella capanna da cui non usciranno mai più più volte dei viaggiatori che si recavano alle colonie polari presi dall'orrore di quel che accadeva in quelle capanne funebri avevano forzata l'entrata per portar via il morente e avevano ricevuto questo rimprovero chi viene a turbare la mia agonia non si può dunque morire in pace e così fanno ancora disse Toby lo vedete che sia morto l'uomo che si trova in quella capanna potrebbe essere ancora vivo lasciamolo in pace per non attirarci addosso l'ira dei suoi parenti e rispettiamo la sua volontà passarono in un'altra capanna più vasta e meglio illuminata e dopo essersi introdotti nell'angusto corridoio si trovarono nell'interno vi erano due donne coperte di vecchie pellicce sbrindellate ed una mezza dozzina di fanciulli seminudi poiché vi regnava un caldo soffocante una delle donne stava masticando un paio di grossi stivali di pelle di morsa che il gelo aveva indurito e che essa cercava di rammollire coi suoi possenti molari l'altra era occupata a preparare il pasto un odore nauseante regnava in quella piccola abitazione dove alcune volpi e dei pesci imputridivano affinché le loro carni risultassero più squisite ai palati e squimesi ne ho a sufficienza disse brandok che si sentiva soffocare questi bravi abitanti del polo non hanno fatto un passo avanti da un secolo a oggi gettarono ai ragazzi alcune manciate di biscotti e tornarono frettolosamente all'aperto dove il marinaio del narval li aspettava assieme agli altri viaggiatori che dimostravano d'averne perfin troppo di quella visita un quarto d'ora dopo rientravano nella galleria della nave ben lieti di trovarsi al riparo dal freddo e dal nebbione l'enorme blocco di ghiaccio non era stato ancora completamente sgretolato però poco ci mancava una cartuccia carica di esplosivo potentissimo fece saltare quello che rimaneva sicché verso le otto del mattino il narval si rimetteva in marcia con una velocità notevole essendo la pianura quasi liscia durante la giornata la corsa continuò senza notevoli incidenti e verso le cinque brandok segnalava un gran fascio di luce che forava la nebbia è la stazione di netteling disse holker fra pochi minuti noi saliremo sul tramvai elettrico che ci condurrà il polo nord non era trascorso un quarto d'ora che il narval entrava sotto una immensa tettoia illuminata da un gran numero di lampade e dove si muovevano parecchie persone che si potevano facilmente scambiare per bestie polari lì presso si innalzava un alto fabbricato di legno da cui uscivano dei cupi fragori come se delle macchine poderose fossero in funzione in lontananza invece si scorgeva una lunga fila di lampade che proiettavano una luce un po' diversa da quelle a radium era uno strano sfolgorio come se i ghiacci scintillassero che cosa c'è laggiù chiesero brandok e toby la grande galleria che conduce il polo rispose una delle più grandi meraviglie del nostro secolo voi avete costruita una galleria che conduce al polo esclamò il dottore come volevate arrivarci con delle navi forse voi sapete che anche ai vostri tempi hanno fatto cattivo a prova la grandiosa idea di giungere al polo per mezzo di una galleria la dobbiamo ad un ingegnere nostro compatriotta essa si diparte dalla riva settentrionale di questo lago si spinge attraverso la terra di baffin passa lo stretto di lancaster che come sapete non sgela mai nemmeno in estate quindi sull'isola di devon poi su quella di lincoln dellesmere fino a grant e giunge al polo sotto l'ottantottesimo grado di longitudine di che cosa è fatta quella galleria chiese brandok il cui stupore non aveva più limite con materiale trovato sul luogo e che non è costato nemmeno un dollaro rispose Holker di ghiaccio disse Toby precisamente un materiale a buon mercato cementato con un miscuglio di sale per dare ai blocchi maggior coesione la galleria è larga 11 piedi alta 8 con le pareti che hanno uno spessore di 2 metri costruite con blocchi di ghiaccio di 2 piedi di lunghezza e mezzo di larghezza nella forma somiglia ad un arco perfetto ed è illuminata a luce elettrica perché le pareti non si fondano come sarebbe potuto accadere con quella radium quanto hanno impiegato a costruirla chiese Toby non più di 7 mesi lavorando appena 400 operai non credo che il suo costo abbia superato i 200 mila dollari e non si scioglie è impossibile attraversando una regione dove il termometro anche in giugno e in luglio non segna mai più di 3 o 4 gradi sotto zero infatti in 14 anni che funziona nessuna arcata è mai crollata e chi ci condurrà al polo un carrozzone elettrico di dimensioni straordinarie che scivola su rotaie qui alla stazione vi sono macchine e dinamo poderose e anche al polo ve ne sono d'ugual potenza e finisce al polo la galleria chiese Brandock oh signore i russi e gli inglesi poi ne hanno costruita un'altra che parte dalla colonia polare e sbocca a nord dello spitzbergen quella di quando in quando frana al suo sbocco non essendovi in quelle isole un freddo sempre intenso le riparazioni però sono facili Brandock disse Toby cosa ne dici che sogno sempre rispose il giovine scendiamo ed andiamo a prendere il nostro posto sul tramvai elettrico disse Holker faremo colazione là dentro all'estremità della tettoia era avanzato un carrozzone enorme lungo più di 20 metri su due e mezzo di larghezza tutto chiuso da vetri che pareva avessero uno spessore notevolissimo e difeso al di sopra da una specie di gabbia d'acciaio destinata certamente a ripararlo dalla caduta di qualche masso che poteva staccarsi dalla volta della galleria tre lampade a radium di grande potenza lo illuminavano o meglio lo inondavano di luce l'interno era diviso in cinque scompartimenti salotto per pranzare gabinetto di toaletta stanza da letto sala da gioco e da lettura ed una piccola cucina grossi tappeti di feltro erano stesi sul suolo e pesanti pellicce coprivano le brande che servivano dal letto come si sta bene qui esclamò Brandock sbarazzandosi della pelliccia ed entrando nel salotto da pranzo dove già si trovavano i viaggiatori tedeschi ed inglesi che li avevano accompagnati sul narval che dolce tepore non si direbbe che fuori il termometro segna ventidue gradi sotto zero e come sono eleganti questi scompartimenti disse toby che li aveva già percorsi quando giungeremo al polo signor holker chiese Brandock non prima delle nove di domani mattina col sole voi parlate del sole in questa stagione è tramontato da dodici giorni e al polo ora regna una notte perfetta anche in pieno mezzodì è vero mi dimenticavo che siamo in autunno inoltrato a tavola signori miei ed imitiamo i nostri compagni di viaggio si misero ad uno dei sei tavolini che occupavano il salotto e si fecero servire un pranzo abbondante e anche succulento fornito dal cuoco del tramvai polare pranzo composto per la maggior parte da pesci eccellenti cucinati in diverse maniere che innaffiarono con dello squisito vino bianco secco di California il carrozzone intanto era già partito con una velocità di 150 km all'ora inoltrandosi sotto la galleria polare quel tunnel formato tutto di blocchi di ghiaccio cementato con mistura di sale era veramente meraviglioso ogni 500 passi una lampada elettrica da 3 o 400 candele lo illuminava facendo scintillare meravigliosamente le pareti e ad ogni 20 km vi era uno sbocco laterale attraverso cui si scorgevano delle casette di legno abitate dai sorveglianti della linea splendida splendida ripeteva Brandock che si era seduto presso il manovratore fumando un buon sigaro Havana questa è certamente l'idea più grandiosa concepita dagli uomini del 2000 lo credo anch'io signor Brandock rispose Holker che lo aveva raggiunto mentre Toby giocava una partita a whist con due inglesi e non vi sarà pericolo che una volta o l'altra succeda una catastrofe supponiamo che in qualche luogo il ghiaccio ceda o si sgretoli per effetto delle pressioni o che un pezzo di galleria si rompa come potrebbe questo carrozzone lanciato a tale velocità a evitare un disastro in modo semplicissimo fermandosi disse Holker ridendo di colpo non è possibile mancherebbe il tempo ma il manovratore lo potrebbe fermare molto prima se sulla linea vi fosse una interruzione che potesse causare un disastro in qual modo abbiamo dinanzi a noi una macchina pilota che ci precede di cinque chilometri e che corre con ugual velocità del nostro carrozzone Brandock lo guardò come se non avesse compreso mio caro signore proseguì Holker i costruttori di questa linea avevano previsto che dei gravi pericoli avrebbero potuto minacciare i viaggiatori appunto a causa delle pressioni e dei ghiacci i quali galleggiano in molti luoghi sull'oceano perciò hanno subito cercato di evitarli una cosa che mi sembrerebbe difficile per gli uomini del 1900 forse sì non per quelli del 2000 disse Holker che cosa hanno pensato di fare far precedere i carrozzoni da un vagoncino che ha la funzione di pilota vuoto sì signor Brandock ed unito al carrozzone da un filo elettrico supponete ora che quel vagoncino paragonabile per i suoi armamenti di fili elettrici ai tentacoli che servono ai pesci ciechi per avanzarsi nelle grandi profondità o nelle caverne sottomarine vada a urtare contro un ostacolo qualunque o precipiti in qualche spaccatura apertasi nei banchi di ghiaccio sostenenti la galleria immediatamente l'urto viene trasmesso al manovratore del nostro carrozzone il quale messo in allarme dalla suoneria s'affretta a fermarsi ecco dunque evitato qualsiasi pericolo si avvertono tosto gli uomini incaricati di riparare la galleria questi si trasportano sul luogo dove il crollo o la frana sono avvenuti e riparano il guasto potete quindi viaggiare tranquillamente signor Brandock senza temere alcun disastro è ingegnoso il mezzo disse il giovine è sicuro soprattutto rispose Holker signor Brandock andiamo a coricarci il tempo passerà più in fretta e quando riapriremo gli occhi noi saremo fra gli anarchici della colonia polare fine del capitolo decimo capitolo undicesimo delle meraviglie del 2000 questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol le meraviglie del 2000 di Emilio Salgari capitolo undicesimo la colonia polare una scossa piuttosto brusca seguita da un tintinnio di campanelli elettrici e da un vociare piuttosto acuto svegliò l'indomani mattina i viaggiatori facendoli scendere precipitosamente dalle loro comode brande il carrozzone dopo una corsa velocissima durata tutta la notte era giunto alla stazione ferroviaria del polo nord e s'era fermato sotto una lunghissima tettoia di legno chiusa alle estremità da gigantesche portiere a vetro e illuminata da un gran numero di lampade elettriche parecchie persone assai barbute avvolte in pelli d'orso bianco si erano raccolte intorno al tramvai parlando diverse lingue spagnolo russo inglese tedesco e perfino italiano quasi tutti fumavano enormi pipe di porcellana gettando in aria delle vere nuvole di fumo siamo al polo amici miei disse holker prendendo i bagagli e chi sono questi uomini che ci guardano di traverso chiese toby anarchici pericolosi provenienti da tutti i paesi del mondo e condannati a finir qui la loro vita che triste esistenza devono condurre fra queste nevi meno di quello che credete zio rispose holker ogni capo di famiglia ha una capanna di legno fornitagli dal suo governo e ben riscaldata con lampade a radium trascorrono la loro vita cacciando e pescando e non fanno cattivi affari trafficando in pellicce e poi di quando in quando ricevono viveri e tabacco non sono proibiti che i liquori e non si ribellano mai i governi mantengono qui due dozzine di pompieri per tenerli a freno e l'acqua è sempre mantenuta pronta dentro le pompe vi ho detto già come fulmina quell'acqua e quale spavento incute a tutti e sono molti qui gli anarchici un migliaio e quasi tutti hanno con loro una compagna ed i figli che nascono sono mandati in Europa ed in America a studiare e ad educarsi per farne dei cittadini operosi andiamo all'albergo del genio polare è l'unico che ci sia e non ci troveremo male uscirono uscirono dalla tettoia e si trovarono dinanzi a parecchie slitte tirate da cani e squimesi guidati da uomini che parevano orsi marini salirono su una slitta e partirono di corsa attraverso le vie del villaggio polare che erano coperte da uno strato immenso di neve quelle strade erano ampie illuminate da lampade elettriche essendo già da giorni incominciata la lunga notte polare e fiancheggiate da casette di legno ad un solo piano semisepolte dalla neve enormi montagne di ghiaccio si elevavano intorno alla borgata e rifrangevano la luce delle lampade con effetto meraviglioso pareva che quelle case si trovassero incastrate fra diamanti giganteschi quantunque il freddo fosse così intenso da rendere perfino la respirazione dolorosa parecchi abitanti passeggiavano per le vie chiacchierando animatamente come se si trovassero su un boulevard di parigi o un ring strasse di berlino o di vienna la slitta che era tirata da una dozzina di cani dal pelo lunghissimo che assomigliavano ad un tempo alla volpe e al lupo attraversò sempre correndo parecchie vie sollevando attorno ai viaggiatori un fitto nevischio che quasi subito si condensava ricadendo al suolo sotto forma di sottili aghi di ghiaccio e si fermò finalmente davanti a una casa più vasta delle altre però ad un solo piano anch'essa riparata sul dinanzi da una galleria a vetri con parecchie porte onde impedire la dispersione del calore valbergo del genio polare disse Holker è tenuto anche questo da un anarchico chiese Toby da un terribile nichilista russo che trent'anni addietro lanciò tre bombe contro Alessio III imperatore di Russia che non ci faccia saltare in aria per provare qualche nuovo esplosivo chiese Brandok rogodoff è diventato un vero agnellino e credo che non nutra più odio nemmeno contro l'imperatore da quando quel potente ha rinunciato all'autocrazia è cambiata la Russia oggi ha una camera e un senato come gli altri stati dunque non più deportati in Siberia disse Toby la Siberia è diventata un paese civile quanto gli stati uniti la Francia l'Inghilterra e non ha più un deportato entrarono nell'albergo che era bene riscaldato dalle lampade a radium e arredato con una certa eleganza con sedie imbottite tavolini coperti di tovaglie di carta di seta e stoviglie di lusso vi erano dentro alcuni abitanti della colonia e anche qualche esquimese occupati a tracannare dei boccali di birra prima sgelata non senza fatica erano tipi veramente poco rassicuranti con delle barbe incolte che davano loro un aspetto brigantesco non di meno salutarono cortesemente i nuovi arrivati in diverse lingue i tre amici sedettero ad un tavolino e fecero portare della zuppa di pennicam del fegato di tricheco del narvalo arrostito e frutti gelati e così duri che quasi non riuscivano a mangiarli anche al polo non si sta male disse Brandock sorseggiando una tazza di caffè ben caldo chi ce l'avrebbe detto che cent'anni più tardi si sarebbe potuto divorare una colazione al novantesimo parallelo ditemi un po' signor Holker voi che siete stato qui altre volte che cosa hanno trovato di sorprendente al polo null'altro che ghiaccio ed una montagna altissima che sembra un vulcano spento e su quella s'incrociano tutti i meridiani del nostro globo e vi si nasconde uno dei due cardini della terra rispose holker scherzando e dal polo sud hanno pure aperta una galleria chiese toby con curiosità non ancora però i nostri scienziati stanno studiando assiduamente su ciò che meglio converrà fare anche in quell'estremo lembo del mondo c'è una grave questione che è più importante di una galleria polare e che preoccupa molto e quale chiesero toby e brandok che si mostravano sempre più curiosi cercano il modo di equilibrare il nostro pianeta per liberare i nostri discendenti da uno spaventoso cataclisma da un altro diluvio universale insomma disse Holker non si scioglierà certo in questo secolo quell'arduo problema tuttavia nel secolo venturo qualche cosa si farà comprenderete che si tratta di salvare cinque continenti e centinaia di milioni di vite umane spiegati meglio disse toby non ti capisco che cosa vogliono tentare gli scienziati del 2000 salvare il mondo ve l'ho detto chi lo minaccia i ghiacci del polo sud in qual modo squilibrando il nostro globo al polo sud si è constatato che i ghiacci da un secolo a quest'oggi hanno fatto dei progressi spaventevoli raggiungendo un'incredibile altezza di 37 chilometri non essendovi laggiù mai piogge né avvenendo squagliamenti considerevoli la neve che cade si muta in ghiaccio compatto il quale esercita una pressione enorme nonostante le perdite cui va soggetta la calotta gelata per la dislocazione di quegli immensi massi che staccandosi dai suoi margini estremi vanno a perdersi nell'oceano atlantico e nel pacifico inoltre le acque dei mari circostanti restando sotto il punto di congelamento come hanno constatato i nostri ultimi navigatori contribuiscono ad aumentare il volume della sterminata massa glaciale risultata dalle incessanti nevicate capisco disse Toby da migliaia e migliaia d'anni dunque la calotta glaciale del polo sud che non è altro che una immane montagna di ghiaccio non ha fatto altro che aumentare occupando oggi di una superficie di otto milioni di miglia quadrate pari cioè a quella di tutta l'america settentrionale quel peso immenso che cosa produrrà uno spostamento del nostro pianeta simile a quello già avvenuto venticinque mila anni fa prodotto dalla massa della calotta di ghiaccio del polo artico che rovesciò sul nostro globo quel tremendo diluvio di cui parlano gli antichi e di cui ormai abbiamo prove lampanti con lo sconquasso antartico le terre settentrionali verranno indubbiamente sommerse per lasciar sorgere invece quelle meridionali che ora si trovano sott'acqua e i vostri scienziati ritengono che quella catastrofe avverrà chiese Toby nessuno più ne dubita rispose Holker il movimento delle acque del polo sud è strettamente connesso con l'aumento graduale della calotta di ghiaccio australe e la conseguenza di ciò sarà che tre quinti delle acque del globo si troveranno spostate dal primitivo loro centro di gravità e pronte a rovesciarsi verso il nord quindi è facile comprendere quanto sia precaria la situazione degli abitanti dell'emisfero settentrionale anzi quanto sia pericolosa tutta la nostra salvezza risiede nella coesione degli 80 milioni di chilometri cubi di ghiaccio che gravitano sul polo australe il franamento di quell'enorme massa di ghiaccio avrebbe per effetto lo spostamento della forza di gravità il ghiaccio sarebbe istantaneamente trasferito sulla parte settentrionale del nostro globo e i frammenti della calotta antartica con tutte le acque trattenute ora intorno ad essa si rovescierebbero con impeto irresistibile verso il polo nord attraverso l'oceano atlantico e pacifico che momento sarà quello disse Brandock fortunatamente noi non saremo più vivi allora a meno che l'amico Toby non trovi il mezzo di riaddormentarci per secoli una seconda prova ci sarebbe fatale rispose il dottore signor Holker chiese Brandock gli scienziati moderni approssimativamente hanno calcolato quando potrebbe accadere quella tremenda catastrofe positivamente no è certo però che la massa della calotta glaciale non potrà essere ragionevolmente prolungata al di là di un certo punto potrà accadere fra mill'anni come potrebbe accadere fra dieci se dovesse avvenire sarebbe certo un disastro spaventevole disse Toby immaginatevi zio la immensa voragine lasciata aperta dallo spostamento d'una massa di oltre cento milioni di metri cubi scendendo dal polo australe la valanga dei massi giganteschi scaverà un immenso solco negli oceani le cui acque si troveranno lanciate con impeto irresistibile sulle sponde dell'America meridionale dell'Africa e dell'Australia dopo aver sepolto sotto massi enormi di ghiaccio quei continenti il diluvio attraverserà l'equatore si lancerà sull'America del nord sull'Europa e sull'Asia distruggendo dappertutto la vita e l'opera dell'uomo dove un tempo si innalzavano superbi edifici e città e si estendevano campi sarà la desolazione più lugubre il più spaventoso deserto e i vostri scienziati pensano di evitare una simile catastrofe chiese Brandock studiano il progetto da moltissimi anni rispose Holker sarà il più grande successo della scienza del 2000 si tratterebbe di alleggerire del troppo peso il polo australe disse toby e per di più trasportarlo al polo boreale rispose Holker diavolo disse Brandock ecco un'impresa che mi pare difficile altri e mi sembra che la cosa possa essere più facile propongono di rimorchiare parte della immensa calotta gelata fino sotto l'equatore e lasciarla sciogliere che razze di macchine ci vorrebbero eppure vedrete se camperemo molto che i nostri scienziati riusciranno a mantenere in equilibrio il nostro pianeta e a salvare l'umanità dopo tutto quello che ho veduto finora non ne dubito nemmeno io disse toby che progressi ha fatto la scienza in questi cent'anni c'è da perdere la testa fine del capitolo undicesimo capitolo dodicesimo delle meraviglie del duemila questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol le meraviglie del duemila di Emilio Salgari capitolo dodicesimo verso l'Europa per tre giorni Holker e i suoi due amici si trattennero nella colonia polare facendo delle escursioni nei dintorni sulla slitta dell'albergo visitando parecchie case degli anarchici e qualche capanna esquimese nonostante il freddo eccessivo che regnava all'aperto e la profonda oscurità addensata sugli sterminati banchi di ghiaccio della regione polare dovettero constatare ne furono molto lieti che quegli uomini un giorno così pericolosi erano diventati assolutamente pacifici e mansueti come agnellini era l'influenza del freddo o l'isolamento che aveva operato quel prodigio su quei cervelli esaltati probabilmente l'una e l'altra cosa insieme certo non ci trovavano più gusto a parlare di bombe di incendi e di stragi con un freddo di 45 gradi sotto zero preferivano fumare la pipa accanto ad una lampada a radium godendosi il calore che essa mandava come si vede i governi d'Europa ed America avevano avuto un'eccellente idea a mandarli in quel clima perché si raffreddassero la mattina del quarto giorno mentre Holker Brando che Toby stavano prendendo una bollente tazza di tè furono finalmente avvertiti che durante la notte era giunto il tramvai elettrico dallo Spitzbergen e che si preparava a far ritorno in Europa partiamo amici disse Holker d'inverno il polo è poco piacevole e ritengo che ne abbiate abbastanza del nostro soggiorno fra i ghiacci eterni amerei di più trovarmi in un clima meno rigido rispose Brando io non ho nelle mie vene il sangue ardente degli anarchici e nemmeno io disse Toby quando giungeremo allo Spitzbergen chiese Brando fra 60 ore essendo la galleria europea più lunga di quella americana e poi dove andremo? ci imbarcheremo sul battello volante che fa il servizio fra le isole e l'Inghilterra desidero mostrarvi un'altra meraviglia quale? i grandiosi mulini del Gulf Stream che cosa saranno? dei mulini vi ho detto per macinare granaglie oh no poi andremo a visitare una delle città sottomarine inglesi dove si trovano relegati i più pericolosi banditi del Regno Unito ecco la slitta andiamo amici saldarono il conto presero i loro bagagli e salirono sulla slitta dell'albergo che era tirata da sei vigorosi cani di Terranova più robusti e più obbedienti di quelli di razza esquimese un quarto d'ora dopo si fermavano sotto la tettoia della stazione europea che si trovava nell'altro lato della città un carrozzone simile a quello della linea americana aspettava i viaggiatori anche quello era diviso in scompartimenti e addobbato con lusso ed eleganza vi salirono e qualche minuto dopo il tramvai preceduto dalla macchina pilota partita già cinque minuti prima si cacciava sotto la galleria europea fatta costruire a spese delle nazioni settentrionali del continente Russia Svezia Norvegia ed Inghilterra nelle dimensioni e nella forma non era diversa da quella americana era solamente un po' meno illuminata non disponendo le nazioni europee settentrionali di una forza elettrica pari a quella nordamericana perché non hanno le cascate del Niagara 50 ore dopo i tre viaggiatori che avevano veduto a poco a poco diradarsi le tenebre di miglio in miglio che si allontanavano dal polo giungevano felicemente sulle coste settentrionali della maggior isola del gruppo dello Spitzbergen avevano costeggiato per un lungo tratto la Groenlandia settentrionale poi avevano attraversato una parte dell'oceano coperto da immensi banchi di ghiaccio giungendo alla stazione russa la galleria terminava là però la linea continuava fino al porto della ricerca con molta sorpresa di Toby e Brandock videro ergersi sulle rive nevose di quella baia cent'anni prima appena frequentata da rari balenieri e da cacciatori di foche dei palazzi imponenti che erano alberghi destinati ad accogliere nella stagione estiva i ricchi europei il freddo ora aveva messo in fuga albergatori ed ospiti vi si trovavano invece due o tre dozzine di pescatori di merluzzi ed alcuni guardiani incaricati della sorveglianza degli alberghi Holker si informò se il vascello volante inglese era giunto ed ebbe una risposta negativa ventiquattro ore prima un violento ciclone si era scatenato sull'Atlantico settentrionale e probabilmente aveva costretto il vascello aereo a rifugiarsi in qualche porto della Norvegia era anzi probabile che non potesse arrivare nemmeno il giorno dopo essendo il cielo assai nebbioso ed il vento violentissimo noi già non abbiamo fretta disse brandok qui fa meno freddo che al polo gli è che non vi è alcun albergo aperto in questa stagione rispose Holker saremo costretti a rimanere nelle sale della stazione o a chiedere asilo a qualche famiglia di pescatori per noi poco importa disse toby non fu difficile accordarsi con una famiglia mediante un modesto compenso la casetta era pulitissima essendo i suoi proprietari norvegesi ben riscaldata e anche ben provvista di viveri ci troveremo bene anche qui disse brandok e avremo carne a tutti i pasti disse Holker ciò che al giorno d'oggi non si può trovare dappertutto sui continenti carne d'orso chiese toby sono più di cinquant'anni che gli orsi sono scomparsi rispose Holker anche nelle regioni polari ormai la selvaggina è diventata rarissima qui invece si allevano ancora molte renne che vengono poi esportate in russia e anche in norvegia nonostante i lunghi inverni e le forti nevicate quegli animali riescono a trovare ancora di che nutrirsi cercando i licheni sepolti sotto il ghiaccio e in estate è popolata questa grande isola chiese toby è una stazione di primordine mio caro signore non vi giungono mai meno di cinque o sei mila persone ai nostri tempi le montagne bastavano quelle servono ai modesti borghesi farà buoni affari in quella stagione la linea polare i viaggiatori accorrono al polo a migliaia e questi pescatori che cosa fanno qui aspettano il passaggio dei grandi branchi di merluzzi sapete che quegli eccellenti pesci non frequentano più le coste di Terranova hanno sentito anche loro il bisogno di qualche novità sembra rispose Holker da 60 e più anni non si mostrano più sulle coste canadesi ora frequentano questi paraggi dove si lasciano prendere in numero sterminato si pescano ancora con le lenze anticaglie quelle oggi delle gigantesche navi munite di motori d'una potenza straordinaria vengono qui e gettano delle reti di cinque o sei miglia di lunghezza che vengono poi rapidamente rimorchiate a terra bastano pochi giorni per terminare la stagione della pesca mentre i vostri tempi durava quattro mesi tutto ad elettricità esclamò Brandock quanti cambiamenti in questi cent'anni si fa tutto in grande se così non si facesse come potrebbe nutrirsi l'umanità la pesca oggi è quadruplicata e ringraziamo la provvidenza che abbia popolato tanto gli oceani si erano seduti dinanzi ad una tavola ben apparecchiata dalla moglie e dalle figlie del pescatore vi fumava un enorme pezzo di renna arrostito che fu dichiarata squisita divorarono poscia un'abbondante zuppa di pesce vuotarono alcune tazze di latte di renna poi essendosi il vento un po' calmato fecero una escursione nei dintorni della baia con la speranza di veder giungere il vascello aereo che doveva condurli in Europa non fu che alle prime ore dell'indomani che furono avvertiti dal loro ospite che il vascello aereo era comparso all'orizzonte sorseggiarono una tazza di tè e indossati i grossi mantelli di pelle d'orso si precipitarono verso la baia per godersi lo spettacolo dell'arrivo il vascello volante era ormai visibile e solcava lo spazio maestosamente tenendosi a 150 metri dai banchi di ghiaccio che si stendevano sull'oceano somigliava agli omnibus volanti che già brando che Toby avevano veduto a Nuova York però più in grande avendo la piattaforma più larga dieci ali quattro eliche mostruose e doppi timoni sopra si estendeva una galleria a vetri riservata ai viaggiatori e sormontata da un albero con un'antenna probabilmente qualche apparecchio elettrico per la trasmissione dei telegrammi aerei il vascello che si avanzava con grande velocità fu ben presto sopra la baia descrisse nonostante il forte vento una curva assai allungata ed andò a posarsi dolcemente entro un recinto costruito su una collinetta che sorgeva a qualche centinaio di metri dalla stazione estiva andiamo a raggiungerlo subito disse Brando che li aveva seguiti assieme al pescatore che portava le valigie il centauro non si ferma più di un quarto d'ora appena il tempo sufficiente per consegnare la posta e sbarcare dei viveri e del tabacco per i pescatori e per i guardiani salirono la collina entrarono nel recinto e si imbarcarono dopo aver fatto acquisto del biglietto a bordo del vascello aereo non vi erano che sette uomini il comandante due macchinisti due timonieri uno steward ed un medico l'interno della galleria era diviso in quattro scompartimenti uno riservato alle macchine e all'equipaggio uno a camera da letto suddivisa in piccole cabine di leggera lamiera d'alluminio o d'un metallo consimile il terzo a sala da pranzo il quarto a biblioteca e sala da conversazione con un organo elettrico per divertire i viaggiatori bellissimo aveva esclamato Brando osservando i ricchi mobili che arredavano le sale meraviglioso è quello che conta tanto più sicuro delle navi che sulcano gli oceani disse Holker quando giungeremo a Londra chiese Toby fra 46 ore disse il comandante della nave dobbiamo spingerci prima fin sulle coste dell'irlanda per depurre nella città sottomarina un pericoloso galeotto che ci è stato consegnato dalle autorità norvegesi di Bergen e che è suddito inglese ecco una buona occasione per visitare quella città disse Holker e anche i grandi mulini del Gulf Stream non supponevo di essere tanto fortunato avete più nulla da imbarcare chiese il capitano null'altro signore rispose Brandock allora partiamo senza indugio sta per scoppiare un nuovo ciclone non amo fermarmi qui o dovermi rifugiare ancora nei fjords della Norvegia a causa degli uregani sono già in ritardo di due giorni il centauro ad un comando del capitano aveva rimesso in movimento le due poderose macchine e si era innalzato di duecento metri salutando la popolazione della stazione con dei sibili acutissimi girò due volte sulla baia poi prese lo slancio dirigendosi verso sud ovest con rapidità fantastica dinanzi alla baia si estendevano degli immensi banchi di ghiaccio solcati da canali più o meno larghi e che mandavano in alto un bagliore intenso quasi accecante dovuto alla rifrazione di tutta quella massa trasparente in lontananza invece appariva la tinta azzurro cupa del mare che indicava le acque libere dell'oceano atlantico Brando, Octobie e Holker ben coperti dai loro mantelli di pelo si erano seduti fuori della galleria sulle panchine di prora per godersi meglio quello spettacolo il vascello volante nonostante la sua mole si comportava meravigliosamente bene gareggiando coi lesti gabbiani e coi grossi albatros che lo seguivano o lo precedevano manteneva una linea rigorosamente diritta orientata sulla bussola senza abbassarsi nemmeno d'un metro non era un pallone era un vero vascello che obbediva alle mosse dei due timoni che funzionavano come le code dei volatili una scoperta stupefacente ripeteva Brando che respirava a pieni polmoni l'aria gelata eppur vivificante dell'oceano chi avrebbe detto che l'uomo sarebbe riuscito a dividere con gli uccelli l'impero dello spazio che cosa sono i famosi condori in confronto a questi vascelli volanti questi vascelli superano in velocità gli uccelli chiese Toby le lasciano indietro senza fatica rispose Holker anche le fregate sono gli unici volatili che li superano potendo quelli percorrere centosessanta chilometri all'ora e gli albatros chiese Brandock quantunque abbiano un'ampiezza d'ali che in media va dai quattro metri ai quattro e mezzo non possono lottare con le fregate che velocità sviluppano queste navi volanti centocinquanta chilometri all'ora rispose Holker e dire che noi ai nostri tempi andavamo superbi delle nostre torpediniere che riuscivano a percorrere ventiquattro venticinque miglia all'ora disse Toby che progressi che progressi ditemi signor Holker disse Brandock le navi moderne che velocità raggiungono le cinquanta e anche le sessanta miglia all'ora rispose l'interrogato che macchine hanno mosse dall'elettricità e la forma è quella d'un tempo giudicatene voi ecco laggiù appunto una nave che forse viene dall'isola degli orsi vi sembra che rassomigli ad una di quelle che percorrevano gli oceani ai vostri tempi Brandock e Toby si erano vivamente alzati guardando nella direzione indicata dal loro amico e videro delinearsi sull'orizzonte una specie di fuso lunghissimo che correva sulle onde con estrema rapidità senza alcuna traccia di fumo quella nave è il Tangarov disse il capitano del vascello aereo viene dal Mar Bianco e si reca in Islanda una bella nave ve lo dico io che cammina come uno squalo non ha paura dei ghiacci la sua prora non rassomiglia affatto alle navi che solcavano i mari ai nostri tempi disse Brandock quando il capitano si fu allontanato le hanno modificati i costruttori del 2000 in gran parte per ottenere una maggiore velocità e meno rollio e beccheggio disse Holker hanno dato allo scafo una forma di sigaro molto affilato a prora e la coperta è quasi scomparsa non essendovi che il posto per una torre destinata ai timonieri come vedete le navi moderne sono quasi tutte sommerse e chiuse sopra coperta in modo che durante le tempeste le onde possono spazzarle senza produrre il minimo inconveniente sapete sapete cosa mi ricordano nella forma queste nuove navi i battagli sottomarini che si incominciavano ad usare ai nostri tempi è vero confermò Toby e come procedono ancora ad elica sì e a ruote sotto la carena entro appositi incavi ne hanno otto dieci e perfino dodici che talvolta aiutano potentemente le eliche poppiere disse Holker con questo doppio sistema che ricorda un po' i nostri antichi piroscafi rotanti i nostri ingegneri navali hanno potuto imprimere alle nostre navi cinquanta e perfino sessanta miglia all'ora e voi mi avete detto che non rollano e non beccheggiano il mal di mare è ora quasi sconosciuto sui piroscafi moderni e anche le più formidabili ondate non riescono nemmeno a scuoterli e perché chiese Toby perché i loro fianchi sono spalmati d'una vernice grassa che distendendosi lentamente sull'acqua produce il medesimo effetto dell'olio usato dai balinieri nelle tempeste che cosa hanno inventato questi uomini del duemila esclamò Brandock molte cose infatti e utilissime rispose Holker sorridendo e di navi a vela ce ne sono ancora chiese Toby da settant'anni non se ne vede più una guardate che bella nave e ditemi se non vale meglio di quelle che navigavano cent'anni fa fine del capitolo dodicesimo capitolo tredicesimo delle meraviglie del duemila questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol le meraviglie del duemila di Emilio Salgari capitolo tredicesimo navi volanti e marittime il Tangaroff in quel momento incrociava il battello volante passando via Babordo era un fuso enorme tutto in acciaio lungo più di centocinquanta metri con la prora acutissima e largo al centro una quindicina di metri era tutto coperto con un gran numero di finestre al posto della coperta difese da vetri che dovevano avere un grande spessore nel mezzo si ergeva una torre pure in metallo alta a quattro metri sulla cui piattaforma stavano seduti presso la ruota due timonieri dietro si innalzava un albero per la telegrafia aerea filava velocemente quasi senza produrre alcun rumore lasciandosi dietro una scia candidissima che pareva oleosa più che una nave sembrava un balenottero lanciato a tutta velocità nel momento in cui passavano sotto il centauro l'apparato elettrico di questo fece udire un lungo tintinnio e registrò un dispaccio lanciato dai timonieri del tangarof era un cordiale buon viaggio che inviavano ai naviganti dell'aria unitamente alla notizia che i ghiacci avevano ormai interrotta la navigazione nel mar bianco bella splendida esclamò brandok che seguiva con lo sguardo il velocissimo piroscopo quando potrà giungere in islanda domani sera rispose holker malgrado i ghiacci se ne ridono dei ghiacci le nostre navi li assalgono a colpi di sperone e li disgregano per quanto spessore abbiano sono veri arieti di una potenza inaudita nipote mio disse toby che cos'è avvenuto dei battelli sottomarini che ai nostri tempi facevano tanto parlare dopo che le guerre sono state rese impossibili sono scomparsi o quasi ve ne sono ancora alcuni che servono per le esplorazioni sottomarine e per il ricupero delle ricchezze perdute in fondo ai mari e del canale di panama chiese brandok è compiuto mio caro signore già da ottantacinque anni quella grande impresa è stata condotta a termine sì dai nostri connazionali ed altre ancora ne sono state ultimate per accorciare i viaggi alle navi l'istmo di corinto che univa la morea alla grecia è stato pure tagliato quello della penisola di malacca pure ed ora si sta compiendo un'altra grande opera quale? il grande deserto del sahara sta per divenire un mare accessibile anche alle più grandi navi ci lavorano da cinque anni e fra cinque o sei mesi anche quell'opera sarà compiuta che cosa vi rimane ora da fare? chiese brandok mantenere il mondo in equilibrio ve lo dissi già rispose holker e speriamo che vi riescano i nostri scienziati la campana ci chiama a colazione quest'aria marina mi ha messo addosso un appetito da lupo imitatemi amici vi troverete meglio dopo mentre passavano nel salotto da pranzo il vascello volante continuava la sua corsa verso sud ovest divorando lo spazio con una rapidità di centoventi chilometri all'ora l'oceano era sempre coperto da vasti banchi di ghiaccio e anche icebergs i quali proiettavano dei riflessi accecanti qua e là si scorgevano dei canali entro i quali mostravasi ancora qualche rarissima foca una delle poche sfuggite alle feroci distruzioni dei pescatori norvegesi e russi i tre amici stavano per terminare il pasto semplicesima assai abbondante quando udirono la suoneria dell'apparato elettrico tintinnare e poco dopo videro comparire il capitano con la fronte abbuiata avete ricevuto qualche cattivo dispaccio comandante chiese Holker mi telegrafano dalla stazione scozzese di capo York che una bufera terribile è imperversa da due giorni intorno alle isole britanniche rispose il capitano s'annuncia ben cattivo l'inverno quest'anno sarete costretto a rifugiarvi nuovamente sulle coste norvegesi non voglio perdere altro tempo sfiderò il ciclone resisterà la vostra nave chiese Brandok non vi inquietate signori il mio centauro è costruito con acciaio di prima qualità non erano trascorse tre ore che già la bufera annunciata dalla stazione scozzese si faceva sentire anche nei paraggi percorsi dal vascello volante il cielo si era oscurato e dei soffi impetuosi delle vere raffiche marine giungevano dal mezzodì investendo poderosamente le ali e le eliche del centauro l'oceano si rompeva in ondate che diventavano rapidamente altissime le quali disgregavano con mille fragori i banchi di ghiaccio scendenti dall'isola Gin Mayen il comandante aveva dato ordine ai suoi macchinisti di aumentare la velocità sperando di sottrarsi agli assalti imminenti del ciclone e dando la possibilità ai temonieri di dirigersi verso ovest per evitare il centro della bufera tuttavia il centauro subiva dei sussulti improvvisi e si trovava talvolta impotente a resistere alle raffiche già più d'una volta era stato trascinato per qualche tratto verso il settentrione nonostante gli sforzi delle ali e delle immense eliche cadremo in mare chiese brandok che si era collocato dietro i vetri dello scompartimento prodiero anche se ciò avvenisse poco danno ne avremmo rispose ulker non andremo sott'acqua niente affatto mio caro signore i nostri ingegneri avevano pensato anche a simili disgrazie e vi hanno posto rimedio in quel modo non avete osservato che la parte inferiore della piattaforma è quasi sferica come quella delle scialuppe e delle navi e che ha anche una chiglia nell'interno vi sono delle casse d'aria le quali impediranno al centauro di sommergersi sicché queste navi volanti si possono all'occorrenza trasformare in scialuppe esclamò Toby con stupore è perfettamente navigabili zio rispose ulker perché la poppa nasconde entro un incavo un'elica di metallo che funziona con la stessa macchina che mette in moto le ali come vedete nessun pericolo ci minaccia e anche calando noi potremmo giungere ugualmente in inghilterra c'è da impazzire disse brandok questi uomini moderni hanno pensato a tutto la bufera intanto aumentava di miglio in miglio che il centauro guadagnava il vento si era scatenato con un fragoroso accompagnamento di urli di fischi e di muggiti balzando ora dal sud dal nord ed ora dall'est all'ovest come se Eolo fosse completamente impazzito lo spettacolo che offriva l'oceano da quell'altezza era spaventevole e nello stesso tempo meraviglioso montagne d'acqua nere come fossero d'inchiostro e con le creste invece candidissime e quasi fosforescenti si rovesciavano in tutte le direzioni accavallandosi e rimbalzando a grande altezza si formavano abissi profondi che subito si riempivano per riaprirsi più oltre e dai quali uscivano dei muggiti formidabili prodotti dall'irrompere tumultuoso delle acque tutto il giorno il centauro lottò vigorosamente ora innalzandosi ed ora abbassandosi e respinto sovente fuori dalla sua rotta e quando cadde la sera si trovò avvolto in una nebbia così fitta che le lampade a radium non riuscivano a romperla ecco un altro pericolo e forse maggiore disse Brandock perché? chiese Holker se il centauro si incontrasse con qualche altro vascello aereo procedente in senso inverso chi riuscirebbe a salvarsi da una collisione fra due macchine spinte con la velocità di centocinquanta chilometri all'ora non temete disse Holker ciò può avvenire in una città dove le macchine volanti sono numerosissime in mare no e perché no? ogni macchina volante è fornita ad un eofono che bestia è questo eofono? un semplice eppure preziosissimo apparecchio formato da due imbuti ricevitori del suono separati fra di loro da un diaframma centrale questi due imbuti vengono applicati agli orecchi del timoniere e quando questi apparecchi si trovano nella direzione delle onde sonore emesse da un corpo qualunque producono un rumore nella medesima intensità e sono così sensibili da registrare le vibrazioni più impercettibili supponete ora che un vascello volante si accosti a noi il rumore che produce spostando la massa d'aria e anche le vibrazioni delle ali si trasmettono subito agli imbuti del nostro timoniere che cosa si fa allora? si lancia un telegramma che viene raccolto e trasmesso sul vascello dall'apparecchio elettrico entrambi i vascelli volanti si fermano ed eviano ed ecco tolto ogni pericolo di investimento che cosa ne dite ora signor Brandock? il giovine scosse il capo senza rispondere anche durante l'intera notte l'uragano non cessò un momento di infuriare il vento che soffiava ad oriente aveva respinto il centauro assai lontano dalla sua rotta trascinandolo in mezzo all'oceano atlantico a mezzo di quando il capitano approfittando d'un raggio di sole fece il punto s'accorse davvero oltrepassata la Scozia di qualche centinaio di miglia per il momento dobbiamo rinunciare alla speranza di approdare in Inghilterra disse ad Holker che lo interrogava il vento ci trascina come se il mio centauro fosse diventato un veliero e non sarebbe prudente cercare di resistergli e dove andremo a finire noi vi spaventa una corsa in mezzo all'atlantico no purché il vento non ci faccia tornare in America noi desideriamo visitare le grandi capitali degli stati europei quando il ciclone si calmerà riprenderemo la corsa verso l'Inghilterra a Liverpool prenderete o il treno o il vascello che va a Londra non è questione che di qualche giorno di ritardo questo ventaccio finirà per cambiare il capitano si ingannava l'uragano imperversò con furia estrema per due giorni ancora mettendo più volte in serio pericolo il centauro le cui ali a poco a poco si sfasciavano la mattina del terzo giorno quando già il vento cominciava finalmente a scemare di violenza il capitano avvertì i viaggiatori di rifugiarsi nella galleria per non venire trascinati via dalle onde scendiamo in mare chiese Holker sì signore rispose il comandante il centauro non si sostiene in aria che con grandi sforzi e piuttosto di cadere improvvisamente preferisco scendere l'oceano è sconvolto osservò Brandock l'armatura della galleria è di una solidità a tutta prova ed i vetri hanno uno spessore di 5 centimetri le onde non riusciranno mai a sfondarla diventiamo marinai dopo essere stati volatili noi già non soffriamo il mal di mare entrarono nella galleria assieme all'equipaggio e al comandante potendosi maneggiare i due timoni anche dall'interno ed il centauro calò lentamente in mezzo ai flutti Brandock Toby e anche Holker per un momento temettero di finire in fondo all'Atlantico appena il vascello volante si posò sulle acque subì una serie di sussulti e di beccheggi così spaventevoli da temere che si rovesciasse per non raddrizzarsi mai più appena però le due eliche d'acciaio uscirono dalle loro nicchie e si misero in moto il centauro riprese la sua stabilità e si mise in marcia come un piroscofo qualunque salendo e scendendo i cavalloni i cassoni d'aria che riempivano la sua carena lo tenevano meravigliosamente a galla meglio di una botte vuota ma che soprassalti di quando in quando e che ondate doveva sopportare la galleria i marosi vi si precipitavano sopra con furia incredibile facendo tremare le armature guai se i vetri avessero ceduto nessuna delle persone rinchiuse sarebbe uscita più viva perbacco mormorava brandok che si teneva aggrappato ad uno dei sostegni della galleria per poter meglio resistere a quelle scosse ecco una emozione che fa venire la pelle d'oca signor Holker non finiremo per caso il nostro viaggio con un capitombolo negli abissi dell'Atlantico non abbiate paura questi vascelli sono meravigliosamente costruiti e possono resistere anche in mare alle più violente ondate non vedete come sono tranquilli i macchinisti e i timonieri da questo potete capire se si ritengono perfettamente sicuri e dove ci troviamo noi chiese Toby a non meno di 4 o 500 miglia dalle coste della Spagna rispose il capitano che lo aveva udito della Spagna avete detto dell'Inghilterra volevate dire no signore il vento dopo averci allontanato dalle coste inglesi ci ha trascinati verso il sud in direzione delle isole canarie e torneremo in Europa così chiese Brandoc il mio povero centauro non può ormai più riprendere il volo guardate come i cavalloni frantumano le ali e le eliche ma non ve ne date pensiero noi camminiamo con una velocità di 40 miglia allora perché le macchine non si sono guastate fra due giorni al più giungeremo a Lisbona o da Cadice ed in quei porti navi e vascelli volanti diretti in Inghilterra ne troverete quanti vorrete sicché disse Brandoc noi saremo costretti a tagliare la corrente del Gulf Stream per tornare in Europa certo rispose il capitano avremo occasione di vedere quei famosi mulini cerco anzi di dirigermi verso l'isola numero 7 per vedere se là posso sbarazzarmi del galeotto che si trova chiuso nell'ultima cabina e che voi non avete ancora veduto quell'isola si trova a 25 miglia dalla città sottomarina portoghese d'Escario potrei risparmiare una gita inutile fin là no signor capitano disse Holker i miei amici non hanno ancora veduto uno di quei rifugi dei peggiori bricconi del mondo siamo pronti a pagare doppio biglietto se ci condurrete ad Escario sia rispose il comandante dopo una breve esitazione chissà che non trovi là alcuni meccanici per rimettere a posto il mio centauro capitolo XIV le meraviglie del duemila i mulini del gulf stream diciotto ore dopo il centauro che non aveva cessato d'avanzare entrava nella corrente del gulf stream centoventi miglia a settentrione dell'isola di Madera e quello che più importava vi arrivava con un tempo splendidissimo essendosi il ciclone di leguato fino dal giorno innanzi come si sa il gulf stream è un fiume gigantesco che scorre attraverso l'oceano atlantico senza confondere le sue acque con quelle del mare che lo stringono da tutte le parti in nessun'altra parte del nostro globo esiste una corrente così meravigliosa essa ha un corso più rapido dell'Amazzoni e più impetuoso del Mississippi e la portata di questi due fiumi giudicati più grandi del mondo non rappresentano nemmeno la millesima parte del volume delle acque che quella corrente giornalmente conduce questo fiume del mare come giustamente lo chiamano i naviganti trae la sua origine dall'immenso raggruppamento di scoglie e di scogliere che costituisce l'arcipelago delle isole Bahama nel mar delle Antille percorre tutto il golfo del Messico si slancia attraverso l'oceano atlantico sale al nord prima si piega quindi verso oriente tocca le coste dell'Europa conservando intatte le acque calde che trascina con sé per un tragitto di migliaia e migliaia di leghe ora voi vedrete un'altra delle più meravigliose invenzioni dei nostri scienziati disse Holker appena il centauro si trovò fra le acque del Gulf Stream vedrete quale profitto gli uomini del 2000 hanno saputo trarre da questa grande corrente che ai vostri tempi era stata così trascurata pare impossibile come i vostri signori scienziati non si siano mai occupati della forza immensa che racchiudono queste acque che cosa ne avete fatto voi di questo fiume del mare chiese Toby tu mi hai parlato di mulini è vero zio rispose Holker a che cosa possono servire zio disse Holker come voi sapete tutte le nostre macchine funzionano ad elettricità quindi noi avevamo bisogno di una forza enorme per le nostre gigantesche dinamo l'America del nord aveva le sue famose cascate quella del sud i suoi fiumi numerosi l'Europa pochi corsi d'acqua con misere cascate assolutamente insufficenti che cosa hanno dunque pensato i suoi scienziati sono ricorsi all'oceano atlantico e hanno fissato i loro sguardi sul Gulf Stream ed infatti quali forze immense si potevano trarre da quel fiume del mare hanno fatto costruire delle enormi isole galleggianti in lamiera d'acciaio fornite di ruote colossali simili a quelle dei vostri antichi mulini e le hanno rimorchiate fino al Gulf Stream ancorandole solidamente oggi dì ve ne sono più di 200 scaglionate presso le coste europee e quasi altrettante nel golfo del Messico incaricate di somministrare senza quasi nessuna spesa la forza necessaria agli stabilimenti dell'America centrale e anche delle coste settentrionali della Guyana del Venezuela della Columbia e del Brasile e come viene trasmessa quella forza mediante fidi aerei no zio con gomene sottomarine simili a quelle che voi usavate anticamente per la telegrafia transatlantica quale rapidità sviluppa la corrente del Gulf Stream chiese Brandock dai 5 agli 8 chilometri all'ora rispose Holker ne possono resistere quelle isole agli uragani sono solidamente ancorate e poi anche se gli ormeggi si rompessero gli uomini incaricati della sorveglianza dei mulini non correrebbero alcun pericolo essendo quelle isole o meglio quei vasti galleggianti insommergibili ed ognuna di esse quanta forza può fornire un milione di cavalli che cosa non hanno utilizzato questi uomini esclamò Toby perfino la corrente del Gulf Stream a cui non davamo altra importanza che quella di diffondere un benefico calore sulle spiagge dell'Irlanda e della Scozia che uomini che uomini signor Holker disse Brandock in questi cento anni la corrente del Gulf Stream ha subito qualche deviazione perché mi fate questa domanda perché ai nostri tempi si temeva che l'apertura del canale di Panama potesse produrre uno spostamento nella corrente a causa della spinta delle acque del Pacifico nessuna signor mio rispose Holker chi potrebbe far deviare una corrente così grande e le coste inglesi continuano a risentire i benefici effetti dovuti al calore della corrente se così non fosse l'Irlanda la Scozia e anche l'Inghilterra sarebbero state tramutate in terre quasi polari giacendo sotto la medesima latitudine della Siberia l'isola numero si udì in quell'istante gridare al di fuori ecco il mulino più mostruoso che appartiene all'Inghilterra disse Holker erano usciti frettolosamente dalla galleria ciò che potevano fare senza correre alcun pericolo essendo ormai le onde calmissime a tre o quattro miglia verso il settentrione si scorgeva un'alta antenna che si rizzava sopra una torre di forme tozze colorata in rosso l'antenna per la telegrafia aerea disse Holker ne sono forniti tutti i mulini chiese Brandock sì e ciò per precauzione se una tempesta sposta l'isola galleggiante e questa viene trascinata via si avverte la stazione più vicina con un dispaccio ed i più potenti rimorchiatori disponibili accorrono per ricondurla a posto il centauro che procedeva velocissimo aiutato anche dalla corrente del Gulf Stream che aveva in favore e che in quel luogo percorreva tre miglia e mezzo all'ora in breve si trovò nelle acque del mulino numero 7 come Holker aveva già detto era un enorme galleggiante in lamiera d'acciaio di forma circolare con una circonferenza di quattrocento metri fornito nel centro di quattro immense ruote che la corrente faceva girare con notevole velocità fra le ruote si innalzavano quattro abitazioni pure in ferro ad un solo piano munite di parafulmini destinate una come magazzino dei viveri le altre ai guardiani quattro gradinate mettevano sul mare fornite ognuna ad una gru sostenente una scialuppa i guardiani una dozzina di persone vedendo avvicinarsi il mutilato vascello volante si erano affrettati a chiedere premurosamente se avevano bisogno di soccorsi quando ebbero ricevuta una risposta negativa invitarono i viaggiatori a salire sull'isola a visitare le loro abitazioni ed il macchinario destinato a trasmettere in Inghilterra la forza prodotta dalle gigantesche ruote la minuscola isola era tenuta con pulizia scrupolosa vi erano piccoli viali fiancheggiati da casse di ferro piene di terra entro cui maturavano cavoli zucche carote ed altri vegetali mangiabili o dove finivano di seccare appesi a delle funi grossi pesci pescati nella corrente come vi trovate chiese Brando caduno dei guardiani che serviva loro di guida benissimo signore non vi annoiate in questo isolamento per niente signore vi è sempre da fare qualcosa qui e poi ci dedichiamo alla pesca e anche alla caccia venendo qui numerosi uccelli marini che ci offrono degli arrosti eccellenti ogni mese poi il governo inglese manda qui una nave per provvederci di viveri e di quanto posso occorrerci per di più ogni anno abbiamo un mese di permesso che trascorriamo in patria che cosa possiamo desiderare di meglio e delle tempeste oh ce ne ridiamo signore e non turbano affatto i nostri sonni i tre amici rimasero qualche ora sull'isolotto galleggiante e vuotarono alcune bottiglie coi guardiani poi verso le quattro del pomeriggio il centauro riprendeva la corsa verso le coste dell'Europa per sbarcare il galeotto nella città sottomarina di Escario fine del capitolo quattordicesimo capitolo quindicesimo delle meraviglie del 2000 questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol le meraviglie del 2000 di Emilio Salgari capitolo quindicesimo la città sottomarina continuando l'oceano a mantenersi calmo dopo l'ultima sfuriata del ciclone il centauro avanzava senza alcuna difficoltà come un vero piroscofo galleggiando magnificamente non poteva competere certo coi veri transatlantici dotati ormai di una velocità straordinaria non di meno nulla aveva da perdere in confronto a quelli d'un secolo prima che anzi avrebbe potuto vincere facilmente nella corsa brando che Tobi si divertivano immensamente a quel viaggio marittimo passeggiavano per delle ore intere sulla cima della galleria dove si trovava un piccolo ponte di metallo che andava da prora a poppa respirando a pieni polmoni la salubre brezza marittima fumavano dei sigari eccellenti che regalava loro il capitano e facevano soprattutto onore ai pasti essendo ambe due dotati di un appetito invidiabile e si trovavano tanto meglio perché non provavano più quegli strani turbamenti e quei sussulti nervosi che li avevano non poco inquietati quando passavano sopra le grandi città americane e sopra le turbine gigantesche delle cascate del Niagara Holker non li lasciava un minuto discutendo animatamente sui futuri e straordinari progetti che stavano studiando gli scienziati del 2000 e dando loro spiegazioni su mille cose che ancora non avevano potuto vedere causa la rapidità del loro viaggio signor Holker disse un pomeriggio Brandock mentre stavano prendendo il caffè sul ponte della galleria come troveremo noi l'Europa come quella di un secolo fa o sono avvenuti dei mutamenti politici nei diversi stati sì molti mutamenti e ciò per mantenere la pace fra i diversi popoli eliminando così per sempre le guerre rispose il nipote di Toby che cosa è avvenuto della grande Inghilterra è ora una piccola Inghilterra sempre ricca ed industriosissima perché dite piccola perché ormai ha perduto tutte le sue colonie staccatesi a poco a poco dalla madrepatria il Canada è uno stato indipendente l'Australia pure l'Africa meridionale non ha più nulla di comune con l'Inghilterra perfino l'India forma uno stato a parte sicché quel grande impero coloniale chiese Toby si è interamente sfasciato rispose Holker senza guerre tutte quelle colonie si erano unite in una lega per dichiararsi indipendenti il medesimo giorno e all'Inghilterra non è rimasto altro da fare che rassegnarsi per non averle tutte addosso già fin dai nostri tempi l'impero cominciava a sgretolarsi disse Brandok e la Russia ha perso la Siberia diventata anch'essa indipendente con un re appartenente alla famiglia russa l'Austria ha perduto i suoi arciducati tedeschi e l'Ungheria ha riconquistato la sua indipendenza occupa ora la Turchia europea e gli arciducati sono stati assorbiti dalla Germania mentre l'Istria ed il Trentino sono stati restituiti all'Italia assieme alle antiche colonie veneziane della Dalmazia sicché l'Italia è oggi di la più potente delle nazioni latine avendo riavuto anche Malta Nizza e la Corsica e la Turchia è stata respinta definitivamente nell'Asia minore e nell'Arabia e non ha conservato in Europa che Costantinopoli città che era ambita da troppe nazioni e che poteva diventare una causa pericolosa di discordia permanente ah dimenticavo di dirvi che è sorto un nuovo stato quale? quello di Polonia formato dalle province polacche della Russia dell'Austria e della Germania l'Europa 50 anni fa si agitava pericolosamente minacciando una guerra spaventosa i monarchi ed i capi delle repubbliche pensarono quindi a regolare meglio la carta europea mediante un grande congresso che fu tenuto all'AIA sede dell'arbitrato mondiale fu convenuto di restituire a tutti gli stati le province che loro appartenevano per diritti geografici e storici e di crearne anche uno nuovo la Polonia che minacciava di produrre la guerra fra la Russia l'Austria e la Germania così la pace fu assicurata mercele intervento poderoso delle confederazioni americane e delle antiche colonie inglesi che ridussero a dovere le nazioni recalcitranti ora una pace assoluta regna da dieci lustri nel vecchio continente europeo e chi regola le questioni che potrebbero insorgere? La corte arbitrale dell'AIA che è stata ormai riconosciuta da tutte le nazioni del mondo d'altronde come vi dissi al giorno d'oggi una guerra sarebbe impossibile e condurrebbe al più completo sterminio le nazioni belligeranti oh esclamò in quel momento Toby che si era levato salza la luna laggiù come sembra mostruosa io non l'ho mai veduta apparire così grossa che anche quel satellite si sia modificato Holker si era alzato anche lui le tenebre erano incominciate a calare e verso oriente si vedeva scintillare a fior d'acqua un mezzo disco di forme gigantesche che proiettava intorno a sé una luce intensa leggermente azzurrognola la scambiate per la luna esclamò Holker vi ingannate zio che cosa può essere la cupola della città sottomarina d'Escario io vorrei sapere perché voi avete fondate delle città sottomarine che devono essere costate somme enormi semplicemente per sbarazzare la società dagli esseri pericolosi che ne turbano la pace ogni stato ne possiede una il più lontano possibile dalle coste e vi manda la feccia della società i ladri impenitenti gli anarchici più pericolosi gli omicidi più sanguinari con un gran numero di guardiani nemmeno uno mio caro zio allora si massacreranno tutt'altro al minimo disordine che nasce sanno che la città viene affondata senza misericordia questa minaccia ha prodotto degli effetti insperati la paura doma quelle belve le quali finiscono per ammansirsi e chi li governa questo è un affare che riguarda loro si eleggono dei capi e pare che finora regni un accordo mirabile in quei penitenziari e poi vi è un'altra cosa che concorre a renderli docili quale l'incessante lotta con la fame i governi non passano viveri a quei condannati passano delle reti delle macchine per eseguire varie produzioni come stoffe stivali vasellami e così via che poi vendono alle navi che approdano comperando in cambio le materie prime necessarie a quelle industrie tabacco viveri eccetera qualche volta soffriranno la fame disse brandok l'oceano fornisce loro cibo più che sufficiente i pesci attratti dalla luce che mandano le lampade che illuminano quelle città accorrono in masse enormi gli abitanti ne salano anzi in grande quantità e li mandano in Europa e anche in America e l'acqua hanno macchine che ne forniscono loro quanta ne desiderano facendo evaporare quella del mare sicché oggi i galeotti non costano più nulla alla società disse toby costano la sola forza necessaria per far agire le loro macchine energia che viene fornita per lo più dai mulini del Gulf Stream devono essere costate somme enormi quelle città disse brandok non dico di no ma quale vantaggio non ne ritraggono ora gli stati e la società i milioni che prima si spendevano nel mantenimento di tanti birbanti rimangono ora nelle casse dei governi devo aggiungere poi che lo spauracchio di essere mandati nelle città sottomarine ha fatto diminuire immensamente il numero dei delitti non correremo alcun pericolo entrando o meglio scendendo ad escario chiese toby nessuno non dubitate quelli sanno che qualunque cattiva azione usata ad uno straniero segnerebbe la sommersione della loro città una misura un po' inumana se vogliamo che li tiene a freno però e come eccoci giunti il capitano deve aver avvertito gli abitanti del nostro arrivo sento il nostro apparecchio elettrico funzionare il centauro si era fermato dinanzi ad una immensa cupola che doveva avere almeno quattrocento metri di circonferenza formata da armature d'acciaio di uno spessore straordinario e di lastre di vetro di forma rotonda incastrate solidamente e molto grosse un graticolato di ferro copriva tutta la cupola per meglio preservarla dall'urto delle onde e una galleria vi correva all'intorno piena di reti messe ad asciugare sulla cima dove pareva si aprisse un foro erano comparsi due uomini piuttosto attempati che indossavano delle vesti di panno grossolano e che calzavano alti stivali da mare il capitano del centauro accostò con precauzione la nave ad una delle quattro scale di ferro che conducevano sulla cima della scintillante cupola invitando i viaggiatori a seguirlo qui sono conosciuto disse non avete da temere precedette i tre amici e salutò uno dei due uomini con un cortese familiare buonasera papà ciao come va la vita qui benissimo capitano rispose l'interrogato levandosi cortesemente il cappello dinanzi ai tre viaggiatori sono sempre tranquilli i vostri amministrati e non ho da lagnarmi di loro e poi perché dovrebbero diventare cattivi viviamo nell'abbondanza e nulla ci manca vi sono questi signori che desiderano visitare la vostra città rispondete della loro sicurezza perfettamente siano i benvenuti il governatore della colonia disse il capitano avvolgendosi verso Brandock Toby e Dulker seguitemi signori disse il caleotto con un amabile sorriso ah devo lasciarvi qui un espulso dall'Europa un suddito inglese che consegnerete più tardi a qualche nave della sua nazione disse il capitano a me è d'imbarazzo perché un ciclone mi ha guastato le ali e le eliche datemelo pure ci penserò io andiamo signori perché fra mezz'ora farà suonare il silenzio e allora si spegneranno tutte le lampade condusse i tre viaggiatori ed il capitano dinanzi ad una specie di pozzo che s'apriva nel mezzo della cupola dove si trovava pronto un ascensore li fece sedere sulle panchine e l'apparecchio scese rapidamente passando fra un cerchio di lampade a radium che versavano torrenti di luce in tutte le direzioni con visibile stupore di brando che di tobi i quali stentavano a credere ai loro occhi si trovarono su una vasta piazza rettangolare di cento metri di lunghezza su sessanta di larghezza tutta cinta da bellissime tettoie coi tetti di zinco divise in piccoli scompartimenti che formavano le cabine destinate ai galeotti dietro quelle se ne vedevano delle altre fornite di tubi di metallo sulla piazza un numero immenso di barili di pertiche di reti si trovavano ammucchiate alla rinfusa la mia città disse il governatore è tutta qui quanti abitanti conta chiese tobi mille duecento sessanta tettoie e venti opifici dove lavorano coloro che non si dedicano alla pesca dove posa la città chiese tobi sulla cima ad un isolotto sommerso a quindici metri di profondità non prova scosse la città quando al di fuori infuria la tempesta nessuna signore le pareti che sono formate da lastre d'acciaio collegate con armature solidissime e trattenute da enormi colonne di ferro piantate profondamente nella roccia possono sopportare qualsiasi urto e poi dovreste sapere che a otto o dieci metri sotto il livello dell'acqua le onde non si fanno sentire è la cupola che supporta tutto l'impeto dei cavalloni e può sfidarli impunemente non è meraviglioso tutto ciò signor Brandock chiese Holker questo è un nuovo mondo rispose l'americano mai mi sarei aspettato di vedere dopo soli cento anni tante straordinarie novità il capitano del centauro guardò Brandock con stupore cent'anni avete detto esclamò scherzavo rispose l'americano ditemi vi obbediscono sempre i vostri sudditi io non comando mai loro di fare questa o quella cosa rispose il capo della città sottomarina chi non lavora non mangia perciò sono costretti a fare tutti qualche cosa senza che io glielo imponga non sono mai successe rivoluzioni chiese Toby a quale scopo farne io non sono un re io non rappresento nessun potere se non sono contenti di me mi dicono di lasciare il posto ad un altro e tutto finisce lì in quel momento un cupo rimbombo si ripercosse entro la immensa cupola facendo vibrare le vetrate è un tuono questo disse il capitano del centauro la cui fronte si era oscurata che questa volta ci piombino addosso tutte le disgrazie siamo nella stagione del cambiamento degli alisei ed il tempo diventa brutto da un momento all'altro risaliamo signori la piccola comitiva prese posto nell'ascensore ed in pochi momenti si trovò sull'immensa cupola l'atlantico aveva assunto un brutto aspetto ed il cielo era più brutto ancora da ponente giungevano delle grosse ondate e delle fosche nuvole si avanzavano con velocità vertiginosa in lontananza il tuono rullava fragorosamente è un vero uragano che sta per scoppiare signori miei disse il capitano del centauro con una nave così avariata io non oserò riprendere la corsa verso l'Europa saremo dunque costretti a passare la notte qui chiese brandok preoccupato abbiamo dei letti comodi e posso offrirvi anche una buona cena a base di pesce si intende disse jiao i miei compagni non vi daranno alcun fastidio ve l'assicuro ho delle preoccupazioni però per la mia nave disse il capitano del centauro le onde con la loro forza possono scaraventarla addosso alla cupola il fondo è buono intorno a questo scoglio e le vostre ancore la terranno ferma vi è un'altra cosa però che m'inquieta i vostri compagni dormono sempre la notte perché mi fate questa domanda chiese jiao stupito rispondetemi prima quando infuria la tempesta e la luna manca preferiscono riposarsi perché getterebbero inutilmente le reti con questa brutta notte non lasceranno i loro letti me lo assicurate rispondo di loro l'ho chiesto perché porto un carico di alcol destinato non so a quali combinazioni chimiche nessuno lo sa quindi potrete dormire tranquilli rispose jiao e poi i miei sudditi come li chiamate voi a quest'ora devono aver perduta l'abitudine di bere poiché è severamente proibito vendere loro bevande spiritose la nave che ce ne fornisse verrebbe subito confiscata dai vigilanti chi sono chiese brandok che era sempre il più curioso di tutti navi speciali appartenenti a tutte le nazioni incaricate di vigilare su tutti gli oceani e di prestare aiuto ai naviganti signori volete accettare una cena nella mia modesta casetta ed un letto può essere pericoloso dormire sul centauro con quest'uragano che si avanza ed i miei uomini chiese il capitano quando avranno ben ancorata la nave scenderanno anche loro nella città sottomarina rispose jiao li farò ospitare presso alcuni forzati che godono buona stima una grande stima brontolò brandok andiamo signori disse jiao l'uragano scoppiava in quel momento con furia inaudita raffiche furiose spazzavano l'oceano sollevando gigantesche ondate le quali si frangevano con scrosci e con muggiti spaventevoli contro le pareti e la cupola della città sottomarina il centauro vivamente sballottato salzava come una palla di gomma quantunque avesse gettate le sue ancore cattiva notte disse il capitano scrollando la testa non so se la mia povera nave potrà resistere dopo aver avvertito l'equipaggio di abbandonarla più presto e di raggiungerli presero posto nell'ascensore e discesero nella piccola piazza che era ancora splendidamente illuminata e dove si trovavano parecchi forzati ancora intenti a rammendare le loro reti perché fossero pronte appena calmato si l'oceano jao condusse i suoi ospiti verso una bella casetta tutta costruita in lamine di ferro divisa in quattro minuscole stanze che sembravano più che altro delle cabine essendo lo spazio troppo prezioso in quella strana città per permettersi il lusso di averne di più ampie jao li introdusse nel suo gabinetto particolare che serviva nel medesimo tempo da sala da pranzo li fece sedere e servì loro egli stesso non avendo servi a sua disposizione poiché anche il governatore non poteva godere prerogative speciali degli eccellenti pesci cucinati al mattino e delle pagnotte la cena quantunque composta esclusivamente di prodotti di mare con contorni di piccole alghe sapientemente marinate ed una sola bottiglia di vino che jao aveva forse serbato per qualche grande occasione fu assai gustata dai naviganti del centauro ai quali l'appetito non faceva difetto essendo tutti stanchi il governatore li condusse nella stanza loro destinata a un'altra cabina appena capace di contenere Brandock Toby e Holker il capitano del centauro li aveva poi lasciati per vedere come si svolgeva l'uragano e mettere in salvo almeno il suo equipaggio ebbene Toby disse Brandock quando furono soli pare che il mondo sia cambiato ma che la natura non abbia perduto nulla della sua violenza brutale questi uomini moderni veramente meravigliosi non sono riusciti ad imbavagliarla chissà che un giorno non riescono a compiere anche quel miracolo rispose Toby come ai nostri tempi hanno saputo imprigionare il fulmine un giorno o l'altro questi esseri straordinariamente possenti finiranno per mettere a dovere anche i furori degli oceani e gli impeti dei venti io sono fermamente convinto che più nulla sarà impossibile agli scienziati del 2000 in attesa che vi riescano io dormo disse Brandock non so da cosa possa derivare ma da qualche tempo mi trovo spesso tutto spossato e provo anche degli strani perturbamenti al cervello quando la mattina mi sveglio i miei nervi vibrano tutti come se ricevessero delle scariche elettriche sapresti spiegarmi tu che sei stato cent'anni fa un dottore questi fenomeni che te lo confesso francamente talvolta mi spaventano io ormai non valgo assolutamente nulla di fronte ai medici moderni disse Toby con un sospiro tuttavia li attribuisco alla grande tensione elettrica che regna ormai su questo povero pianeta spero però che finirai con l'abituarti si gettarono sui lettucci spensero la lampadina a radium e chiusero gli occhi mentre in lontananza il tuono rumoreggiava così fortemente da far tremare i vetri della cupola dormivano da parecchie ore quando furono improvvisamente svegliati da un urlio spaventevole e da un fracasso indiavolato Toby pelprimo era balzato giù dal lettuccio riaccendendo la lampadina che cosa c'è chiese Brandock vestendosi rapidamente che la cupola abbia ceduto gridò Holker spaventato non lo so rispose Toby che non era meno impressionato qualche cosa di grave di certo però in quel momento la porta s'aprì ed il capitano del centauro si precipitò nella cabina tenendo in mano una grossa rivoltella elettrica i forzati sono diventati pazzi gridò seguitemi subito pazzi esclamarono Brandock Toby e Holker spiegatevi tacete più tardi fuggite prima che succeda un massacro i tre amici si slanciarono fuori della casetta senza fare altre domande Jao li aspettava il pover'uomo si strappava i capelli e bestemmiava in tutte le lingue le lampade erano state riaccese sulla piccola piazza e sotto quegli sprazzi di luce intensa si vedevano agitarsi forse annatamente gli abitanti della città sottomarina il capitano aveva avuto ragione a dire che erano divenuti tutti pazzi urlavano saltavano si picchiavano si gettavano a terra rotolandosi fra un frastuono orrendo prodotto da sbarre di ferro che picchiavano furiosamente le pareti metalliche che li difendevano dall'invasione delle acque dell'oceano ma che cosa è dunque avvenuto chiese Toby quello che temevo rispose il capitano del centauro non sentite questo odore sì la città è appestata dall'alcol il mio quello che dovevo trasportare ad Hamburgo e che questi miserabili hanno saccheggiato ed il centauro chiese Brandock che ne so io ignoro se galleggi ancora o se sia affondato e di vostri marinai non li ho più riveduti amici disse Toby non ci rimane che prendere il largo prima che tutti questi furfanti diventino pazzi furiosi finché avranno dell'alcol continueranno a bere e potrebbero diventare pericolosi salviamoci più in fretta che possiamo girarono dietro le case guidati dal vecchio Jao che piangeva di rabbia e si diressero verso l'ascensore mentre i forzati che non cessavano di vuotare barilotti di alcol si abbandonavano ad una danza scatenata fortunatamente l'ascensore si trovava piuttosto lontano dalla piazza e non era stato guastato salendo automaticamente senza bisogno di nessuno i cinque uomini vi balzarono dentro ed in pochi secondi si trovarono sulla cupola un uragano spaventevole imperversava sull'oceano atlantico ondate alte come montagne si rovesciavano con spaventevoli mugiti contro le balaustrate di ferro torcendole come se fossero di stagno e raffiche tremende passavano sopra la città sottomarina con fischi assordanti una nuvolaglia nera come la pece correva sbrigliatamente per il cielo scatenando lampi e tuoni i cinque uomini si erano avanzati verso la parte meridionale della cupola tenendosi bene stretti alle balaustrate per non farsi trascinar via dal vento che aveva acquistato una velocità incalcolabile quando un uomo sorse quasi sotto i loro piedi gridando indietro birbanti o vi uccido cotterson esclamò il comandante del centauro voi capitano esclamò quel uomo che non era altro che il pilota della nave aerea credevo che vi avessero già ucciso ora ancora dov'è il centauro resiste ancora è scomparso capitano rispose cotterson insieme al galeotto che avevamo sbarcato e ad una dozzina di forzati e i miei marinai sono stati sorpresi nel sonno fatti prigionieri e mi pare che abbiano fatto non so se volontariamente o per salvare la vita causa comune con gli abitanti di questa maledetta città poiché prima di fuggire quassù li ho veduti bere insieme a loro e la mia nave è scomparsa l'hanno portata via dopo aver scaricato tutti i barilli d'alcol a quanto ho potuto capire mentre noi dormivamo i galeotti hanno tramata una congiura per impadronirsi del carico e fare una spaventevole baldoria il nostro prigioniero più furbo degli altri si è invece imbarcato con dei suoi amici che ha trovato qui ed ha preso il largo e noi che cosa faremo ora chiese brandok il quale però non sembrava molto impressionato saremo costretti ad aspettare il passaggio di qualche nave rispose il capitano io non vi consiglierei di ridiscendere finché quei pazzi posseggono dell'alcol ne avevate molto a bordo chiese toby trenta tonnellate tanto da bere a crepapelle per una settimana disse brandok bello affare se una nave non verrà a toglierci d'impiccio è da vendicarvi disse il vecchio jiao i governi d'europa d'america come vi ho detto non sono troppo teneri verso gli abitanti delle città sottomarine come li puniranno chiese toby annegandoli tutti la giustizia è spiccia oggi di non potreste voi jiao cercare di calmare quei forsennati domandò il capitano una volta scatenati non si domano più e se mi presentassi a loro e cercassi di far loro intendere la ragione mi accopperebbero sull'istante già vi ho detto che i governatori di questi penitenziari non hanno che un'autorità molto problematica allora prima che salti loro il ticchio di prendersela anche con noi impediremo che possano giungere quassù disse brandok bastando l'ascensore non verranno più ad importunarci rispose jiao l'elevazione della cupola è troppo considerevole perché possono raggiungerci e le pareti metalliche sono perfettamente lisce ha disgraziato me non mi aspettavo una simile rivolta date la colpa alla tempesta che ci ha impedito di ripartire disse toby è dal carico della mia nave aggiunse il capitano orsù non ci occupiamo per ora che di resistere ai colpi dell'uragano quando il sole spunterà vedremo quello che si potrà fare per lasciare questa poco piacevole città sottomarina e di suoi pericolosissimi abitanti si ritirarono verso la parte più elevata della cupola bloccarono l'ascensore per essere più sicuri che i forzati non lo facessero ridiscendere e si misero a guardare giù attraverso la larga apertura l'orgia era al colmo e dalla città sottomarina saliva un tanfo così acuto da non poter quasi resistere i forzati che continuavano a bere ridevano come pazzi e pareva che non sapessero ormai più che cosa facessero mentre dei gruppi ballavano furiosamente sulla piazza saltando come capre urtandosi buttandosi a terra dozzine per volta altri presi da una improvvisa furia di distruzione abbattevano le case gettando in aria letti e tavolini laceravano le reti spezzavano ordigni da pesca urlando e ridendo frequenti risse scoppiavano di tratto in tratto fra danzatori e demolitori ed erano allora vere grandinate di pugni e di legnate che piovevano da tutte le parti le teste rotte non si contavano più se quei furibondi potessero salire sfonderebbero anche i vetri della cupola disse toby che riescano a fracassare le pareti di ferro della città chiese brandoco con ansietà non temete rispose jiao sono di uno spessore notevole e poi non posseggono né mazze né altri strumenti adatti io non ho mai veduto una simile orgia disse il capitano del centauro quegli uomini se continuano a bere a quel modo finiranno per tramutare questa città in un vero manicomio come finirà tutto ciò confesso che non sono affatto tranquillo non possiamo sperare che nella provvidenziale comparsa di qualche nave disgraziatamente ci troviamo fuori dalla rotta ordinaria che tengono le navi che dall'europa vanno in america bah non disperiamo si coricarono in mezzo alla piattaforma l'uno accanto all'altro aspettando pazientemente che l'aurora spuntasse l'uragano assumeva proporzioni spaventevoli era una furia d'acqua e di vento che si rovesciava sulla cupola con rabbia inaudita cavalloni giganteschi si infrangevano contro le pareti della città imprimendo a tutta la massa delle oscillazioni che inquietavano non poco il capitano del centauro ed il pilota che ne sapevano qualche cosa delle coldere dell'atlantico di quando in quando la città per quanto saldamente fissata allo scoglio sottomarino e trattenuta dai mani colonne d'acciaio subiva dei soprassalti come se fosse lì per essere strappata e portata via anche i tre americani non erano appunto tranquilli malgrado le assicurazioni di Zhao se si staccasse dallo scoglio chiese Brandok ad un certo momento che cosa succederebbe allora di tutti noi sarebbe finita per tutti disse il capitano niente affatto rispose Zhao che non dimostrava invece alcuna apprensione questa città è come un immenso cassone di ferro e galleggerebbe benissimo ora respiro un po' più liberamente disse Brandok l'idea di terminare il mio viaggio in fondo al mare non mi sorrideva affatto anche se una bestemmia del pilota gli interruppe la frase cosa hai Tom chiese il capitano io dico che se ci giunge addosso un'altra ondata come quella che ha passato Aurora la città non potrà resistere ho udito dei tonfi che le colonne d'acciaio abbiano ceduto tutti si erano messi in ascolto ma il fracasso che producevano i tuoni rombanti in mezzo alle densissime nuvole misto a quello che saliva dal pozzo dell'ascensore erano tali da non poter distinguere nessun altro rumore puoi esserti ingannato Tom disse il capitano può darsi rispose il pilota preferirei però accertarmene si può tentare di raggiungere la balaustrata se esisterà ancora le onde vi porteranno via signore disse Brandock io e Tom le conosciamo dal lungo tempo e non ci lasceremo sorprendere vieni pilota si gettarono bocconi e surdi ai consigli dei tre americani e di Zhao si allontanarono strisciando tenendosi ben stretti alle traverse d'acciaio che servivano di appoggio alle lastre di vetro il frastuono prodotto dall'incessante infrangersi dei cavalloni era diventato orrendo vi erano certi momenti in cui pareva che l'intera cupola dovesse sfasciarsi sotto quegli urti possenti l'assenza del capitano e del pilota fu brevissima furono visti ritornare velocemente fra i nembi di spuma che coprivano tutta la cupola dunque chiesero ansiosamente tutti insieme i tre americani e Zhao i pilastri d'acciaio crollano uno ad uno rispose il capitano allora verremo portati via disse Brandock sì se l'uregano non si calma avete speranza che le onde rallentino la loro furia indievolata temo invece che si vada formando uno spaventevole ciclone quei furfanti da a basso continuano a divertirsi disse Toby lasciateli crepare disse Brandock purché non veniamo inabissati anche noi vi ho detto che se anche la città dovesse venire strappata dallo scoglio non correremmo alcun pericolo almeno fino a quando non incontreremo un altro scoglio che le sfonde i fianchi in questa parte dell'oceano sono però rari è vero capitano non se ne trovano affatto fino alle azzorre rispose il comandante del centauro possiamo quindi di percorrere più di 300 miglia con la piena sicurezza di non urtare uno scroscio formidabile si fece udire in quel momento un cavallone colossale si era rovesciato sulla città sottomarina scuotendola così violentemente da far stramazzare l'uno sull'altro i tre americani che si erano alzati per vedere se l'orgia dei forzati era terminato o se continuava sempre mi pare che questo cassone d'acciaio si sia spostato disse il capitano quel rombo spaventevole pareva che fosse stato avvertito anche dagli ubriaconi poiché le loro grida erano improvvisamente cessate Jao aveva lanciato in turno una rapida occhiata sì disse poi la città si è spostata il palo d'acciaio che serviva d'appoggio principale non si vede più il cavallone l'ha portato via consolante notizia disse Holker che cosa succederà ora nessuno rispose tutti guardavano con angoscia i cavalloni i quali riflettendo la luce intensa proiettata dalle lampade a radium sembravano masse di bronzo fuso quantunque rassicurati dalle parole di Jao il quale doveva conoscere a fondo la resistenza che poteva offrire quello strano penitenziario una profonda inquietudine si era impadronita di tutti si sarebbe detto che non respiravano più e che i loro cuori non battevano più tanta era la loro ansietà quell'enorme cassa metallica avrebbe realmente galleggiato o sarebbe invece andata a fondo come una massa inerte il tuono rumoreggiava sempre nelle profondità del cielo gareggiando con lo spaventevole fragore delle onde e con le urla diaboliche del vento giù nella città il fracasso era cessato di quando in quando la cupola subiva come dei soprassalti i vetri malgrado il loro enorme spessore e la robustezza delle traverse d'acciaio stavano forse per cedere ad un tratto un nuovo e più formidabile cavallone piombò con furia irresistibile sul penitenziario sradicandolo completamente dallo scoglio e travolgendolo fra fitte cortine di spuma quasi nel medesimo istante si udì la voce del capitano tuonare fra le spaventevoli urla del ciclone galleggiamo tenetevi stretti capitolo capitolo sedicesimo delle meraviglie del duemila questa registrazione librivox è di pubblico dominio registrato da riccardo fasol le meraviglie del duemila di emilio salgari capitolo sedicesimo attraverso l'atlantico il vecchio jiao non si era ingannato se la nuova società del duemila aveva pensato di relegare in quelle strane città sottomarine gli individui pericolosi sopprimendo sui loro bilanci le spese di mantenimento per esseri ormai inutili aveva però procurato loro degli asili sicuri d'una solidità a tutta prova per non esporli ad una morte certa così la città sottomarina strappata dallo scoglio dall'impeto dei cavalloni non era diventata altro che una città galleggiante abbandonata è vero ai capricci delle correnti e dei venti ma che poteva aspettare benissimo l'incontro di qualche nave marino a volante purché qualche bufera non la scaraventasse contro qualche ostacolo tutto il pericolo stava lì l'acqua dolce non poteva mancare essendovi dei potenti distillatori elettrici che potevano fornirne in grande quantità i viveri nemmeno perché reti venerano in abbondanza e si sa che gli oceani sono ben più ricchi dei mari disgraziatamente l'uragano aveva ben poca intenzione di finire né le onde né il vento accennavano a calmarsi minacciando di trascinare la città galleggiante in mezzo all'atlantico poiché la bufera imperversava da levante la gigantesca cassa d'acciaio dopo essere sprofondata era subito risalita a galla rollando spaventosamente e girando su se stessa se i piloni d'acciaio avevano ceduto sotto gli urti possenti delle onde la cupola aveva meravigliosamente resistito al tuffo e meglio ancora avevano resistito i tre americani il capitano ed il pilota del centauro e jao aggrappati tenacemente alle traverse avevano aspettato che la città ritornasse a galla opponendo una resistenza disperata alle onde credevo che la nostra ultima ora fosse giunta disse brandok dopo aver respirato una gran boccata d'aria e tu toby io mi domando se sono ancora vivo o se navigo sotto l'atlantico rispose il dottore spero che sarei soddisfatto degli ingegneri che hanno fatto costruire questa colossale cassa gente meravigliosa mio caro ai nostri tempi non sarebbero stati capaci di fare altrettanto ne sono pienamente convinto capitano dove ci spinge la tempesta verso sud ovest rispose il comandante del centauro vi sono isole in questa direzione le azzorre andremo a sfracellarci contro di esse ciò dipende dalla durata della bufera signore non vi pare che si calmi niente affatto infuria sempre tremendamente e temo che ci faccia ballare per molto tempo soffrite il mal di mare niente affatto allora tutto va bene e se fra un paio di giorni questo cassone si schiaccerà contro qualche scoglio andrà anche allora tutto bene chiese holker ridendo non l'abbiamo ancora incontrato quello scoglio quindi finché non lo incontreremo non abbiamo alcun motivo per allarmarci rispose il capitano del centauro vi è però un'altra cosa che mi preoccupa assai quale la risposta dovete darmela voi jiao parlate capitano i vostri sudditi posseggono dei viveri per due o tre giorni non di più e noi prima che l'uragano scoppiasse vi erano molti pesci messi a seccare lungo le balaustrate ma credo che il mare abbia portato via tutto ne potremo avere dai forzati forse quando si saranno stancati di bere rispose jiao vi sono però delle reti in un ripostiglio della cupola ma nessun distillatore per procurarci l'acqua quassù no corriamo dunque il pericolo di morire se non di fame per lo meno di sete se i vostri sudditi si rifiuteranno di fornirci l'acqua ecco quello che temevo abbiamo l'ascensore capitano disse jiao che ci servirà ottimamente per farci accoppare da quei pazzi non sarò certamente io che scenderò nella città per chiedere dell'acqua a quei furfanti a proposito che cosa fanno che si siano accorti che la loro prigione cammina attraverso l'atlantico io scommetterei di no disse toby che dormano chiese brandok non ho da più le loro grida andiamo a vedere disse il capitano sono curioso di sapere se continuano a bere ed a ballare si spinsero verso il pozzo dell'ascensore le lampade a radium ardevano sempre ed un profondo silenzio regnava nell'interno della città galleggiante sulla piazza in mezzo ad un gran numero di barili ed ogni sorta di rottami dormivano dei gruppi di forzati fulminati di certo da quelle terribili bevute altri giacevano stesi al suolo entro le case semidistrutte prive dei tetti un orribile tanfo saliva sempre dormono come giri disse brandok sfido io dopo una simile orgia rispose toby un barile di ammoniaca non basterebbe a rimetterli in piedi e noi approfitteremo del loro sonno disse jao per fare che cosa chiese il capitano del centauro per fare la nostra provvista d'acqua signore voi siete un uomo meraviglioso chi scenderà io e se vi accoppano non vi è alcun pericolo disse toby quei furfanti non si sveglieranno prima di 24 ore ed i miei marinai chiese il capitano che siano stati uccisi ne vedo qualcuno steso sulla piazza disse il pilota essi non hanno potuto resistere alla tentazione di fare una colossale bevuta ed hanno fatto causa comune coi forzati non contate più su di loro miserabili sono tutti irlandesi voi sapete quanto me se quella gente beva quando si presenta l'occasione non perdiamo tempo disse jao aiutatemi signori l'ascensore fu sbloccato e l'ex governatore scese nella città accompagnato dal pilota la sua prima preoccupazione fu di sfondare tutti i barili pieni d'alcol che non erano stati ancora vuotati e così por fine a quell'orgia pericolosa poi si impadronì d'una cassa di pesce secco ed un caratello d'acqua dolce nessun forzato si era svegliato quei trecento e più furfanti non si erano mossi e russavano con un fragore tale da far tremare perfino i vetri della cupola l'ascensore risalì e fu subito bloccato perché non potessero servirsene quelli che stavano sotto ora disse jao possiamo aspettare l'incontro di una nave per quindici giorni almeno non correremo il pericolo di morire di fame e di sete ed i vostri sudditi ne avranno abbastanza per resistere tanto chiese brandok che crepino tutti sono dei miserabili che non destano alcuna compassione rispose jao con rabbia io non mi occuperò più di loro eppure io temo invece che noi saremo costretti ad occuparcene e molto disse brandok quando si risveglieranno e sentiranno la loro città ballare vorranno salire anche loro e ci daranno non pochi fastidi ed io condivido il vostro pensiero signore disse il capitano avremo la tempesta sopra le nostre teste e quei pazzi sotto di noi la nostra passeggiata attraverso l'atlantico prevedo che non sarà troppo divertente chissà aspettiamo che il sole si mostri per poter meglio giudicare la violenza e la durata di questo ciclone emergendo assai la città galleggiante dopo il suo distacco dalla roccia e non essendovi alcun pericolo che le onde giungessero fino al culmine della cupola i sei uomini si sdraiarono presso l'orifizio del pozzo per concedersi se era possibile qualche ora di sonno l'enorme massa metallica subiva però dei soprassalti così terribili e così bruschi da rendere impossibile una buona dormita le onde che si succedevano alle onde con furia sempre maggiore la scrollavano terribilmente e la facevano talvolta girare su se stessa essendo sprovvista di timoni di quando in quando sprofondava pesantemente negli avvallamenti come se dovesse scomparire per sempre nei baratri dell'atlantico poi si risollevava bruscamente con mille strani fragori che impressionavano specialmente brandok i cui nervi già da qualche tempo sembravano fortemente scossi talvolta salzava sulle creste dei cavalloni con un dondolio spaventoso quindi scendeva scendeva con rapidità vertiginosa roteando come una trottola e l'uragano intanto invece di calmarsi aumentava sempre lampi accecanti si succedevano senza tregua con un crescendo terrorizzante seguiti da tuoni formidabili che si ripercuotevano sinistramente perfino dentro la città facendo vibrare le pareti di metallo senza riuscire a svegliare gli ubriachi tutta la notte l'enorme massa oscillò e girò percossa incessantemente dai cavalloni i quali la spingevano verso il mar dei sargassi piuttosto che verso le azzorre come dapprima aveva creduto il capitano finalmente verso le quattro del mattino un barlume di luce apparve fra uno squarcio delle tempestose nubi l'atlantico offriva uno spettacolo impressionante masse d'acqua coperte di spuma si accavallavano rabbiosamente urtandosi e spingendosi nessuna nave né aerea né marittima appariva solamente dei grossi albatros volteggiavano fra la spuma e la caligine grugnendo come porci nessuna speranza di venire salvati è vero capitano chiese brandok per ora no rispose il comandante del centauro dove ci spinge il vento verso sud ovest lontano dalle rotte tenute dalle navi purtroppo signore dove andremo a finire dunque sarebbe impossibile dirlo poiché il vento potrebbe anche cambiare da un momento all'altro in quell'istante delle grida spaventevoli scoppiarono nell'interno della città galleggiante i tre americani il capitano il pilota e jao si affrettarono a raggiungere la bocca del pozzo i forzati si erano svegliati e presi chissà da quale furioso delirio si azzuffavano ferocemente fra di loro armati degli attrezzi da pesca e di coltelli i miserabili cadevano a dozzine immersi in veri laghi di sangue coi crani spaccati da colpi di rampone o coi petti squarciati da colpi di coltello disgraziati che cosa fate gridò jao inorridito la sua voce si perdette fra i clamori spaventevoli dei combattenti il capitano sparò alcuni colpi della sua rivoltella elettrica sperando che quelle detonazioni troppo deboli però attirassero l'attenzione di quei furfanti nessuno vi aveva fatto caso forse nemmeno un colpo di cannone sarebbe stato sufficiente ad impressionarli lasciate che si scannino disse brandok tanti pessimi soggetti di meno d'altronde noi nulla potremmo fare per calmarli disse il capitano del centauro se scendessimo ci farebbero a pezzi io vorrei sapere per quale ragione si scannano a quel modo disse holker sono ancora ubriachi non lo vedete disse il capitano vomitano sangue e alcol insieme finitela gridava intanto con quanta voce aveva in gola jao basta miserabili basta era fiato sprecato la strage orrenda continuava con maggior rabbia fra i due partiti formatisi chissà per quale motivo combattevano sulla piazza nelle viuzze perfino dentro le case fra urla e bestemmie di quando in quando dei gruppi si staccavano e correvano a rinforzarsi ai pochi barili che il pilota jao non avevano veduto e sfondato poi vie più eccitati si scagliavano con furore nella mischia quella battaglia spaventosa durò più di una mezz'ora con grande strage da una parte e dall'altra poi i superstiti un centinaio appena esausti si separarono rifugiandosi chi nelle baracche semisfondate chi negli angoli più oscuri della città lasciandosi cadere al suolo come corpi morti è finita disse brandok che ricomincino e tramutino la città galleggiante in una città di morti ecco un nuovo pericolo per noi disse il capitano del centauro chi getterà in mare quei tre o quattrocento morti col calore che regna qui si corromperanno presto e scoppierà fra i superstiti qualche malattia che finirà per distruggerli e che forse non rispargnerà nemmeno noi disse toby se non troveremo qualche mezzo per lasciare questa città di morti per ora rassegnatevi signori disse il capitano non vedo alcuna terra sorgere all'orizzonte il centauro deve essere stato costruito quando brillava una cattiva stella mio caro capitano disse brandok così pare non è stato che un continuo a succedersi di disgrazie chissà aspettiamo la fine di questo poco allegro viaggio la città per ora non minaccia di affondare quindi abbiamo diritto di sperare sembrava però che le speranze dovessero diventare ben magre poiché l'uragano continuava sempre ad infuriare sconvolgendo l'atlantico per un tratto certamente immenso non di meno la città galleggiava sempre benissimo ora sollevandosi ed ora sprofondandosi fino a metà della cupola talvolta i cavalloni giungevano quasi fino presso i sei uomini i quali si tenevano bene aggrappati all'orlo del pozzo per paura di venire portati via la spuma talvolta li avvolgeva così fittamente che non potevano distinguersi l'uno dall'altro quantunque si trovassero molto vicini il sole era sorto da qualche ora però i suoi raggi non riuscivano ad attraversare l'enorme massa di vapori sicché sull'oceano regnava una semi oscurità spaventosa a mezzodì i naufraghi mangiarono alla meglio qualche boccone poi dopo essersi assicurati con delle reti alle traverse dei vetri cercarono di dormire qualche ora sotto la guardia del pilota del centauro tutta la notte non avevano chiuso un solo istante gli occhi e specialmente brando che si sentivano estremamente stanchi ed in preda dei tremiti convulsi che li impressionavano non poco verso sera uno splendido raggio di sole ruppe finalmente le nubi illuminando di traverso le onde essendo l'astro prossimo al tramonto il capitano avvertito dal pilota si era affrettato ad alzarsi per cercare di conoscere almeno approssimativamente dove l'uragano aveva spinto la città galleggiante rimase subito colpito dalla presenza di enormi masse di alghe che fluttuavano in mezzo alle onde lo temevo disse aggrottando la fronte che cosa avete chiese brando con apprensione miei cari signori noi corriamo il pericolo di venir fermati per sempre nella nostra corsa ed imprigionati da chi chiesero ad una voce i tre americani dai sargassi se questo enorme cassone si caccia fra quegli ammassi di alghe non ne uscirà più ve lo assicuro io a meno che un'altra tempesta non scoppi soffiando in senso inverso ma voi capitano avete la iettatura disse brando si direbbe davvero purché invece non l'abbia già o la sua città ci spinge proprio sui sargassi il vento disse toby e le onde anzi lo aiutano rispose il capitano che diventava sempre più inquieto tempesta alghe morti e persone pericolose sotto i piedi mormorò brando non valeva proprio la pena di ritornare in vita dopo cent'anni per provare simili avventure ed i vostri amministrati che cosa fanno già chiese il capitano russano in mezzo ai morti ancora meglio per noi se non si svegliassero più sarei ben contento poiché sono certo che ci daranno non pochi fastidi quando finalmente apriranno gli occhi e non troveranno più alcol per continuare la loro indecente orgia attenzione l'urto sarà abbastanza forte per scaraventarvi in acqua se non vi terrete ben saldi l'atlantico che si trovava fermato nella sua corsa furibonda sferzato poderosamente dal vento che lo incalzava senza tregua raddoppiava la sua rabbia cercando di sfondare ma in vano quelle interminabili masse di alghe saldamente intrecciate le une con le altre per mezzo d'un numero infinito di radici le ondate non trovando sfogo si ritorcevano su loro stesse provocando dei contrassalti di una violenza indescrivibile immense cortine di spuma vagavano al di sopra dei sargassi abbattendosi di quando in quando e lacerandosi sotto i vigorosi soffi delle raffiche la città galleggiante rollava in modo inquietante tuffando i suoi fianchi nelle onde tutte le sue balaustrate erano state strappate però le traverse d'acciaio delle invetriate resistevano sempre guai se avessero ceduto sotto il peso in mane dei cavalloni nessuno dei forzati sarebbe di certo sfuggito all'invasione delle acque gli ultimi bagliori del crepuscolo stavano per scomparire quando la città galleggiante che continuava la sua corsa verso il sud ovest si trovò in mezzo alle prime alghe ci siamo gridò il capitano dominando per un istante con la sua voce tonante i mille fragori della tempesta tenetevi saldi una montagna liquida sollevò la città e la tenne un momento come sospesa in aria poi la scaraventò innanzi con forza inaudita si udì un rombo sonoro prodotto dalle pareti d'acciaio poi l'enorme massa rimase immobile mentre le onde attraversavano velocemente la cupola lasciando cadere entro il pozzo dei torrenti d'acqua i quali precipitarono sulle teste degli ubriachi come una gran doccia salutare fine del capitolo sedicesimo capitolo diciassettesimo delle meraviglie del duemila capitolo diciassettesimo fra i sargassi il mar dei sargassi come ognuno sa non è altro che un ammasso immenso di alghe radunate colà dal gioco diretto ed indiretto delle correnti marine e soprattutto dalla grande corrente del gulf stream ha una superficie di 260.000 miglia quadrate con una lunghezza di 1200 e una larghezza che varia dalle 50 alle 160 miglia quelle alghe della specie sargassum baciferum si presentano a ciuffi staccati che hanno una lunghezza da 30 a 80 centimetri e si vedono ora sparsi ed ora agglomerati formando ora delle strisce ed ora dei veri campi talvolta così fitti da arrestare i velieri che hanno la disgrazia di venire spinti là dentro si crede che là sotto esista quella famosa atlantide così misteriosamente scomparsa coi suoi milioni e milioni di abitanti e può darsi benissimo che quell'isola serva di fondo a quello sterminato ammasso di vegetali la città galleggiante spinta in mezzo alle alghe dal possente urto delle onde vi si era così ben incastrata da rimanere quasi di colpo immobile come se si fosse arenata sopra un banco di sabbia l'enorme massa d'acciaio investendo i sargassi con uno dei suoi lati vi si era incastrata come un immane cuneo dentro un tronco d'albero ancora più immane le onde che si rovesciavano al di sopra degli sterminati campi di alghe tentando invano di scompaginarli l'assalivano ancora investendo specialmente la cupola con poco divertimento dei sei uomini i quali correvano il pericolo di venire portati via però le onde non riuscivano più a scuoterla ha finito il nostro viaggio capitano disse brandok che si teneva aggrappato disperatamente al margine del pozzo purtroppo rispose il comandante del centauro siamo peggio che arenati e non saprei chi potrebbe trarre dal mezzo di queste alghe questo gigantesco cassone di metallo nemmeno una flotta intera vi riuscirebbe saremo dunque costretti a vivere eternamente qui o a morire di fame di fame no poiché il mar dei sargassi è ricco di pesci minuscoli sì però non meno eccellenti né meno nutritivi degli altri e che si possono prendere senza l'aiuto delle reti troveremo anzi anche dei voracissimi e grossi granchi che ci forniranno dei piatti squisiti preferirei però trovarmi lontano da qui ed io non meno di voi verrà qualche nave a levarci da questa imbarazzante situazione è possibile che qualche legno volante per accorciare il cammino passi sopra questo mare d'erbe ma quando un tumulto spaventevole scoppiò in quel momento nelle profondità della città galleggiante si sono risvegliati disse toby signor jao cercate di calmare quelle furie se potete e di spiegare loro quanto è avvenuto durante la loro sbornia fenomenale sarà un affare un po serio sarebbe meglio per noi che finissero di scannarsi tutti si curvarono tutti sull'orlo del pozzo e videro sotto di loro radunati sulla piazza che era in gombra di cadaveri cinquanta o sessanta uomini che guardavano per aria urlando come belve feroci ascensore calate l'ascensore vogliamo fuggire furfanti gridò jao che cosa avete fatto signor jao gridò un uomo di statura quasi gigantesca perdonateci eravamo diventati come pazzi e non sapevamo più quello che facevamo tutta la colpa è dell'alcol al quale non eravamo più abituati e vi siete scannati banditi se eravamo come pazzi e avete distrutte perfino le case e rovinati tutti gli attrezzi da pesca a colpa dell'alcol gridò un altro se quel maledetto capitano non l'avesse portato oggi non piangeremmo tanti camerati sì è lui il birbante urlarono trenta o quaranta voci e voi siete dei ladri gridò il capitano del centauro mostrandosi un immenso clamore scoppiò un clamore che parvi il ruggito di cento leoni riuniti miserabile canaglia ci hai avvelenati apposta qualche infame governo ti aveva mandato qui per farci diventare pazzi e per ammazzarci l'un l'altro a morte a morte toby esclamò brandok hanno ancora ragione loro va bene gridò jao ne riparleremo quando sarete diventati più ragionevoli ed i fumi dell'alco non vi guasteranno più il cervello a cane d'un governatore vociò il gigante non morrò contento se prima non avrò la tua pelle viene a prenderla rispose jao ti sfido non mi scapperai te lo giuro sì accoppiamoli tutti urlarono in coro gli altri lasciamoli gridare e occupiamoci dei nostri affari disse il capitano già non potranno mai salire fino a noi se non caliamo l'ascensore e per togliere loro ogni speranza l'oggetto in mare così dicendo il comandante prima che gli altri avessero il tempo di opporsi con una spinta formidabile lo rovesciò giù dalla cupola le alghe che in quel luogo non erano troppo fitte s'aprirono e lo inghiottirono avete condannato a una morte certa quegli sciagurati disse toby se domani una nave approdasse qui sapete che cosa farebbe chiese il capitano no farebbe senz'altro saltare questa città con una buona bomba d'aria liquida insieme a tutti quelli che contiene morti e vivi è vero jao così hanno decretato i governi dell'europa e dell'america per tenere a freno i rifiuti della società rispose il vecchio non sono ancora tre mesi che una nave aerea mandata dal governo americano ha colato a fondo la città sottomarina di fortawa perché i 500 forzati che l'abitavano si erano ribellati uccidendo il capitano di una nave e tutti i passeggeri per saccheggiare poi il carico queste sono leggi inumane disse brandok la società vuole vivere e lavorare tranquillamente rispose il capitano tanto peggio per i furfanti bah lasciamo questi poco interessanti discorsi e facciamo colazione giacché l'oceano ci lascia un po' di tregua io non potrò mangiare tranquillamente pensando che sotto di me vi sono forse cento persone che cominciano a soffrire la fame i viveri non mancheranno loro per parecchi giorni disse jiao se poi verranno a più miti consigli li sbarazzeremo dei cadaveri perché non scoppi qualche terribile epidemia che sarebbe indubbiamente fatale anche a noi col calore spaventevole che regna in questa regione e permetteremo loro di venire a respirare una boccata d'aria che cosa ne dite capitano io li lascerei crepare rispose il comandante del centauro no ciò sarebbe inumano dissero toby e holker io sono convinto che finiranno per calmarsi disse brandok quando i cadaveri cominceranno a corrompersi saranno costretti ad arrendersi cerchiamo la nostra colazione ripete il capitano non ci conviene consumare il nostro pesce secco che potremmo più tardi rimpiangere scendiamo sui sargassi signori i pesci i granchi grossi ed i granchi olini come vi ho detto abbondano fra queste alghe si lasciarono scivolare lungo le invetriate della cupola tenendosi con una mano alle traverse di metallo e si calarono sul campo di sargassi che era in quel luogo così folto da poter reggere benissimo un uomo il capitano aveva detto il vero assicurando che la colazione non sarebbe mancata in mezzo alle alghe formate da fronde brune molto ramificate con corti peduncoli forniti di foglie lanceolate guizzavano miriadi di piccoli pesci piatti deformi con una bocca molto larga lunghi appena un centimetro del genere degli antennarius di octopus purpurei e saltellavano dei piccoli cefalopodi e dei grossi granchi occupati a fare delle vere stragi dei loro sfortunati vicini che disgrazia non possedere una buona padella ed una bottiglia d'olio mormorava brandoc che non perdeva però il suo tempo che ottima frittura si potrebbe mangiare la caccia poiché si trattava d'una vera caccia anziché d'una pesca durò una buona mezz'ora e fu abbombantissima non potendo cucinare tutti quei piccoli pesci poiché i fornelli a radium si trovavano in fondo alla città galleggiante i tre americani ed i loro compagni furono costretti a mangiare quella squisita frittura viva l'uragano intanto a poco a poco si calmava le nuvole si erano finalmente spezzate il vento aveva terminato di lanciare i suoi poderosi soffi e l'atlantico come se si fosse stancato di quella gigantesca battaglia che durava da 48 ore si spianava rapidamente non accennava invece a calmarsi la rabbia dei forzati le troppo copiose libazioni dovevano aver sconvolto completamente quei cervelli che forse non erano mai stati equilibrati resi maggiormente furiosi dal rifiuto di jiao di calare l'ascensore avevano saccheggiato i magazzini gettando tutto sotto sopra poi avevano ripresa la demolizione delle casupole che ancora rimanevano tutto fracassando e tutto disperdendo salivano di quando in quando dal pozzo urla feroci che commuovevano non poco toby e brandok ma che lasciavano assolutamente indifferenti il capitano jiao il pilota e perfino holker i quattro uomini moderni ormai abituati a considerare i malviventi come belve pericolose per la società alla sera però tutto quel baccano cessò i forzati stanchi di distruggere e di urlare si erano finalmente decisi a riposarsi malgrado il tanfo insopportabile che cominciava ad espandersi al di sotto della immensa cupola i cadaveri cominciavano a decomporsi i tre americani ed i loro compagni seduti sull'orlo del pozzo un po' tristi guardavano il cielo che era tornato ad oscurarsi chiedendosi quale altro malanno stava per coglierli si sarebbe detto che un nuovo uragano stava per scatenarsi sull'irrequieto oceano un'afa pesante soffocante regnava negli alti e nei bassi strati satura di elettricità il sole qualche ora prima si era tuffato più rosso del solito dentro a una nuvolaccia nera che era apparsa verso ponente ancora cattivo tempo è vero capitano? chiese Brandoc sì, rispose il comandante del centauro che appariva più preoccupato del solito avremo una seconda burrasca signori miei che getterà completamente fuori di rotta le navi volanti che potrebbero trovarsi in questi paraggi ho però una speranza quale? chiese Toby che questo uragano che verrà da ponente ci tragga dai sargassi e ci spinga nuovamente a largo sarebbe una vera fortuna capitano adagio signore se il vento ci spingesse questa volta verso le Canarie ecco quello che temo vi rincrescerebbe a prodare a quelle isole chiese Brandoc con sorpresa il capitano del centauro guardò a sua volta l'americano con profonda sorpresa ma da dove venite voi? gli chiese dall'America signore un paese che non è poi molto lontano dalle Canarie non so che cosa vogliate dire con ciò capitano disse Brandoc sempre più stupito disgraziata la nave marina o daerea che cadesse su quelle isole rispose il capitano nessun uomo dell'equipaggio uscirebbe certamente vivo che cosa è successo dunque su quelle isole? chiese Toby che non era meno sorpreso di Brandoc diamine i governi dell'America, dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa hanno popolato quelle isole di tutti gli animali che un tempo esistevano su tutti i cinque continenti perché? chiese Brandoc per conservare le razze l'avi sono tigri, leoni, elefanti, pantere, giaguari, coguari, bisonti, serpenti e tante altre bestie delle quali io non conosco nemmeno il nome rispose il capitano come ben sapete ormai tutti i continenti sono fittamente popolati quindi quegli animali non avrebbero più trovato né rifugio né scampo gli zoologi di tutto il mondo prima della distruzione completa di tutte le belve hanno pensato di conservare almeno le ultime razze trasportandole alle canarie? sì signor Brandoc rispose il capitano e gli abitanti di quelle isole non vengono divorati? quali abitanti? non ve ne sono più scusate la mia ignoranza capitano ma noi veniamo dalle parti più remote del continente americano dove non giungono notizie di tutti gli avvenimenti del mondo disse toby che non desiderava affatto far conoscere la storia della loro risurrezione credevo che gli americani fossero più innanzi di noi europei disse il capitano dunque voi avete sempre ignorato la terribile catastrofe che ha colpito quelle disgraziate isole cinquant'anni or sono non ne abbiamo mai udito parlare rispose Brandoc già si sapeva che tutte quelle isole erano d'origine vulcanica rispose il capitano non erano altro che le punte estreme d'immense montagne o meglio di vulcani inghiottiti forse durante il gigantesco cataclisma che fece sprofondare l'antica Atlantide un brutto giorno il Tenerifa dopo chissà quante migliaia d'anni di sonno cominciò a svegliarsi vomitando l'ave in quantità prodigiosa e tanta cenere da coprire tutte le isole del gruppo ancora si fosse limitato a questo vomitò invece anche una tale massa di gas asfissiante da distruggere completamente la popolazione non ne scampò nemmeno uno chiese Brandoc appena quindici o venti i quali recarono in Europa la terribile notizia rispose il capitano quell'eruzione spaventevole durò vent'anni facendo scomparire parecchie isole poi cessò bruscamente i governi europei ed americani dopo aver in vano cercato di ripopolare quelle terre hanno allora pensato di relegarvi tutti gli animali feroci o no che ancora sussistevano sui cinque continenti per impedirne la totale distruzione sicché quelle isole sono diventati tanti serragli disse toby sì signore di quando in quando dei coraggiosi cacciatori si recano là a fare delle battute onde provvedere ai musei ed impedire che quegli animali diventino troppo numerosi quante cose hanno fatto questi uomini in cent'anni mormorò Brandoc che era diventato pensieroso se potessimo ripetere l'esperimento che cosa vedremmo fra un altro secolo forse noi uomini d'altri tempi non potremmo più vivere l'uragano che il capitano aveva annunciato si avanzava con un crescendo orribile di tuoni e di lampi così intensi che Brandoc e Toby si sentivano accecare pareva che la grande elettricità sviluppata dalle infinite macchine elettriche funzionanti sulla crosta terrestre avesse avuto una ripercussione anche negli alti strati aerei perché i due americani non avevano mai veduto ai loro tempi lampi così abbaglianti e di così lunga durata l'uragano questa volta veniva d'apponente era quindi probabile che il mare dei Sargassi scompaginato dai furiosi assalti dell'Atlantico allargasse le sue mille e mille braccia lasciando libera la città galleggiante alla mezzanotte l'oceano sollevato da un vento impetuosissimo diede i primi cozzi ai campi dei Sargassi i suoi cavalloni piombavano sulle masse erbose con furia estrema rodendo o sfondando qua e là i margini la città galleggiante investita per di sotto si agitava in tutti i sensi pareva che dei marosi d'una potenza incalcolabile la urtassero nella sua parte inferiore poiché di quando in quando subiva dei soprassalti violentissimi che mettevano a dura prova i muscoli dei tre americani e dei loro compagni i forzati svegliati dal rombare incessante dei tuoni dai bagliori intensissimi dei lampi e dal rumoreggiare delle onde avevano ricominciato a urlare mescolando le loro voci a quella possente della tempesta spaventati da tutto quel fracasso non sapendo che cosa succedeva all'esterno chiedevano che si calasse l'ascensore che ormai non c'era più minacciando di sfondare le pareti della città galleggiante di annegare tutti non ci mancherebbe altro esclamò il capitano un po' inquieto se mettono in esecuzione la loro minaccia buonasera a tutti non sarà il campo dei sargassi che ci salverà con questo indiavolato ondulamento caro Jao bisogna cercare di calmarli bisognerebbe farli salire e allora ci accopperanno tutti rispose il vecchio che cominciava a tremare cercate di rassicurarli non mi ascolteranno vogliono uscire da quella bolgia infernale dove soffocano non sentite che puzza orrenda comincia a sprigionarsi da tutti quei cadaveri non siamo stati noi a commettere la strage disse il capitano ne sopportino le conseguenze ora noi non possiamo in così piccolo numero e senza ascensore far salire fino a noi quattrocento e più cadaveri ci vorrebbe una settimana di lavoro e forse non basterebbe disse il pilota eppure bisogna fare qualche cosa per quei disgraziati disse toby che stupido sono esclamò in quel momento jao e più stupidi di me sono anche loro perché amico chiese il capitano noi possiamo tramutare la città galleggiante in una immensa ghiacciaia e nessuno prima ci aveva pensato tre volte bestia con cento corna in qual modo chiesero brando che toby abbiamo più di venti serbatoi pieni d'aria liquida per la conservazione del pesce dieci si trovano sotto la cupola e gli altri nei quattro angoli della città fra cinque minuti i cadaveri geleranno poco meno e la loro putrefazione sarà immediatamente arrestata e gelerete anche i vivi disse brandok hanno delle coperte che si coprano disse il capitano cercate almeno prima di calmarli ed avvertirli disse toby non udite come picchiano contro le pareti della città non dubito che siano robustissime però potrebbero cedere in qualche punto avete ragione rispose jao per essere meglio udito dai forzati si calò fino sulle traverse d'acciaio che avevano servito di sostegno all'ascensore comparendo fra i potenti fasci di luce proiettati dalle lampade a radium che non erano state più spente fu subito scorto dagli abitanti i quali non cessavano di guardare in alto sempre con la speranza di veder scendere l'ascensore ed un coro di invettive salì su per il pozzo con un frastuono indiavolato eccolo il brigante eccolo il traditore linciamo quell'avanzo di galera che ha giurato da sempre la nostra distruzione scendi cane scendi jao li lasciò sfogare ricevendo filosoficamente senza turbarsi quell'uragano di ingiuri e di minacce e quando vide che non avevano più fiato fece loro un gesto amichevole gridando ma finite la pazzi volete ascoltarmi sì o no se continuate risalgo e non mi rivedrete più mai sì sì lasciamolo parlare gridarono parecchie voci parla dunque vecchio disse una voce la nostra città si è staccata dallo scoglio e la tempesta ci ha portati fra i sergassi tu menti che uno di voi ma uno solo salga per accertarsi se io ho detto la verità cala l'ascensore il mare l'ha portato via manda giù una fune allora sì rispose jao vi avverto però che se sale più d'uno la taglieremo la cupola è avariata e crollerebbe sotto il vostro peso e vuoi che crepiamo qui fra tutti questi cadaveri che puzzano orrendamente gridò un altro aprite i serbatoi dell'aria liquida e geleranno presto aveva appena terminato di parlare che tutti quegli uomini si precipitavano verso i quattro angoli della città galleggiante dove si vedevano degli enormi tubi d'acciaio si udirono tosto dei fischi acutissimi poi una corrente d'aria gelida e ruppe dal pozzo mentre le lastre di vetro si coprivano per di sotto d'uno strato di ghiaccioli intanto brando che il capitano ed il pilota avevano attaccato le funi che una volta servivano per sospendere le reti e che le onde in parte avevano risparmiate e le avevano annodate caliamole nella ghiacciaia disse brandoc che respirava a pieni polmoni l'aria fredda che usciva sempre affolate dal pozzo siamo quasi sotto l'equatore e battiamo già i denti che cosa non hanno dunque inventato questi meravigliosi uomini del 2000 io finirò per impazzire davvero te lo assicuro i forzati aperte le valvole erano corsi a chiudersi nelle case che ancora si mantenevano bene o male in piedi impadronendosi di tutte le coperte che trovavano se sotto la cupola andava formandosi il ghiaccio quale freddo doveva regnare laggiù con quei quattro serbatoi che soffiavano fuori gradi e gradi di gelo la fune finalmente solidamente trattenuta dal capitano dal pilote da jao toccò il suolo ma allora un altro e più spaventevole tumulto scoppiò fra quei furibondi venti mani l'avevano afferrate non volevano più lasciarla quelli che non avevano potuto farsi innanzi a tempo si erano messi a percuotere spietatamente i compagni che per i primi l'avevano presa il capitano e di suoi compagni nauseati da quelle scene in vano si erano provati a ritirare la fune sarebbe stato necessario un argano già il primo stava per proporre di tagliarla quando un giovine galeotto più lesto degli altri con un salto degno di un clown balzò sopra le teste dei rissanti aggrappandovi sì e troncandola con un colpo di coltello sotto i propri piedi so so gridò il capitano il giovine montava rapidamente poiché anche gli americani prestavano manforte al capitano i forzati vedendo salire il compagno lo coprivano d'ingiurie minacciando di sventrarlo appena fosse disceso noi non potremo mai andare d'accordo con quelle canaglie mormorò brandok il galeotto di cent'anni fa mi pare che si sia mantenuto uguale la scienza tutto ha perfezionato fuorché la razza e l'uomo malvagio è rimasto malvagio passeranno secoli e secoli ma levato lo strato di vernice datogli dalla civiltà sotto si troverà sempre l'uomo primitivo dagli istinti sanguinari la fune vigorosamente tirata dal capitano e dai suoi compagni era giunta presso i margini del pozzo il galeotto che vi si era aggrappato un giovinotto quasi ancora in berbe biondo allampanato tutto braccia e gambe appena si vide a buon punto lasciò la fune balzando agilmente sulla cupola guarda dunque va a riferire ai tuoi compagni quello che hai veduto gli disse già o che siamo sul mare o all'inferno poco mi importa rispose il galeotto respirando a lungo sono uscito da quel macello e mi basta accoppatemi se volete ma io non ritornerò mai più laggiù mi farebbero a brani rimani adunque però t'avverto disse il capitano che se tenterai qualche cosa contro di noi avrai da aggiustare i conti con la mia rivoltella elettrica non vi darò alcun impiccio ve lo giuro signore sotto i forzati urlavano a squarciagola la gran voce della tempesta però non tardò a soffocare tutti quei clamori l'uregano sconvolgeva per la seconda volta l'atlantico dove andremo si chiese il capitano che guardava con inquietudine le onde che si rovesciavano con furia estrema sui campi dei sargassi ad un tratto la città galleggiante che si trovava un po' sbandata si raddrizzò di colpo emergendo bruscamente di parecchi metri aggrappatevi alle traverse aveva gridato jiao un'onda mostruosa passando attraverso il campo dei sargassi contro cui si appoggiava la città galleggiante avanzava con mille muggiti spingendo innanzi a sé delle fitte cortine d'acqua polverizzata che velavano perfino la luce dei lampi andiamo dunque chiese brandok che col robusto braccio destro teneva fermo toby affinché non venisse portato via del cavallone una tromba una vera tromba d'acqua passò su di loro coprendoli ed inzuppandoli dalla testa ai piedi poi la città galleggiante si spostò e fece un salto immenso era nuovamente libera capitolo diciottesimo delle meraviglie del duemila questa registrazione librivox è di pubblico dominio registrato da riccardo fasol le meraviglie del duemila di emilio salgari capitolo diciottesimo l'isola delle belve feroci per la seconda volta la città sottomarina si trovava in balia dell'oceano le forze brutali della natura avevano nuovamente vinto ma questa volta non in peggio perché avevano liberati i naufraghi si potevano chiamare così ormai da una prigionia che avrebbe potuto diventare fatale a tutti l'enorme massa aveva ripresa la sua danza disordinata dove andava? nessuno lo sapeva certo però il vento e le onde li spingevano verso nord est in direzione delle canarie i sette uomini essendo rimasto con loro il giovine forzato non si trovavano però in liete condizioni erano ben più fortunati i galeotti i quali almeno stavano al sicuro entro le pareti d'acciaio al sicuro dai colpi di mare e dai terribili colpi di vento sia pure alle prese col freddo intenso che si sprigionava incessantemente dai serbatoi d'aria liquida l'uragano infuriava con rabbia estrema pareva che ormai avesse decretata la perdita di quella disgraziata città galleggiante Toby disse Brandock mentre le onde continuavano a passare e ripassare sulla cupola con impeto spaventevole da buon americano le avventure non mi sono mai dispiaciute però comincio ad averne abbastanza di questa interminabile storia sai a che cosa penso io? pensi che le onde sono troppo violente e che l'Atlantico non è troppo clemente verso gli uomini di cento anni fa no che noi finiremo male e ti lamenti dopo aver vissuto quasi un secolo e mezzo e aver veduto tante meraviglie senza il mio liquore che cosa saresti tu a quest'ora? un pizzico di cenere senza nemmeno un pezzetto d'osso hai ragione Toby rispose Brandock sforzandosi di sorridere su centinaia e centinaia di milioni di persone scomparse nel gran baratro della morte noi soli siamo sopravvissuti ed ho il coraggio di lamentarmi contentati dunque di vivere un'ora o un mese e non pensare ad altro che che debba succedere nessun altro mortale avrà avuto tanta fortuna guardati invece dalle onde e insidiano la nostra vita e la insidiavano davvero mai l'Atlantico aveva avuto un simile scatto di collera in 50 anni o forse 100 Brandock che nella sua gioventù l'aveva attraversato già tante volte mai l'aveva visto così ma era soprattutto l'estrema tensione elettrica che colpiva i due americani i lampi avevano una durata straordinaria di 5 e perfino 10 minuti e le folgori cadevano a dozzine alla volta Brandock forse più nervoso di Toby sussultava come se ricevesse delle vere scariche elettriche e quando si passava una mano sulla testa i suoi capelli quantunque bagnati crepitavano e sprigionavano delle vere scintille la città galleggiante intanto continuava ad andare attraverso alle onde come un semplice guscio di noce non era già una nave si poteva considerare un immenso rottame in balia dei furori dell'oceano tutta la notte e anche il giorno seguente l'enorme massa incessantemente travolta dai cavalloni errò sull'Atlantico senza che i naufraghi nulla potessero tentare per darle una direzione durante tutto quel tempo i forzati probabilmente molto impressionati dai fragori delle onde dal rombare incessante dei tuoni e dai soprassalti disordinati della loro città si erano mantenuti tranquilli inoltre il freddo intenso che regnava laggiù doveva aver calmato i loro furori ma i ghiacciaia era stata così fredda di certo poiché i cristalli di ghiaccio avevano avvolto perfino i cadaveri arrestandone la putrefazione al mattino del secondo giorno il capitano che stava sempre di guardia col pilota resistendo tenacemente al sonno mandò un grido tenerife i tre americani jao ed il giovine galeotto che sonnecchiavano legati solidamente alle traverse d'acciaio per non venire portati via dai cavalloni che l'Atlantico scagliava senza tregua contro la cupola udendo quel grido si erano alzati a sedere cominciava ad albeggiare allora era però un'alba grigiastra di triste aspetto non permettendo le tempestose nubi che la luce si diffondesse liberamente verso levante ad una grande altezza una colonna di fuoco s'alzava oscillando in tutte le direzioni e forando il cielo erutta ancora la gigantesca montagna chiese Brandok sembra che si sia risvegliata rispose il capitano ci spinge verso quelle isole il vento purtroppo rispose il capitano che dopo i forzati dobbiamo avere a che fare con le belve feroci non tutte le isole sono popolate di leoni di tigri di pantere di giaguari di leopardi eccetera signore ve ne sono molte che servono d'asilo sicuro ad animali inoffensivi o quasi come i bisonti gli ultimi campioni del vostro paese struzzi giraffe gazzelle cervi daeni e tanti altri che non saprei nominarvi se le onde ci spingeranno verso una di queste ultime non avremo nulla da temere anzi avremo da guadagnare degli arrosti squisiti disgraziatamente mi pare che le onde ci caccino verso Tenerife mi fate venire la pelle d'oca capitano ci rifugieremo in fondo alla città e allora i forzati ci faranno a pezzi a diavolo non avevo pensato che abbiamo un vulcano anche sotto i nostri piedi disse il capitano del centauro non siamo però ancora a terra e non sappiamo ancora dove queste onde capricciose manderanno a sfracellarsi questa immensa cassa di metallo temete che si sfasci chiese Toby le spiagge di quelle isole sono quasi dovunque tagliate a picco e non vi saprei dire signore in quale stato noi potremmo approdare troppo buono no di certo troveremo là dei flutti di fondo che scaraventeranno la città galleggiante chissà mai dove qualunque cosa succeda vi consiglio di non abbandonare un solo istante le traverse della cupola chi si lascerà strappare dai cavalloni verrà indubbiamente sfracellato occhio a tutto e tenetevi bene stretti la città galleggiante infatti veniva spinta verso l'antico possedimento spagnolo che i furori dell'immensa montagna avevano ormai resi inabitabili l'enorme cono quasi volesse fare un degno accompagnamento alla rabbia dell'Atlantico eruttava con grande lena coprendosi tutto di fuoco lungo i suoi fianchi scoscesi veri fiumi di lava scendevano facendo avvampare le foreste bombe colossali uscivano dal suo cratere fiammeggiante e dopo aver attraversate le nubi ricadevano descrivendo delle arcate superbe lasciandosi dietro getti di fuoco e si spaccavano scoppiando boati spaventevoli che soffocavano talvolta il rombare dei tuoni uscivano dalla gola fiammeggiante del vulcano chi avrebbe detto che quel colosso si sarebbe un giorno ridestato e per due volte di seguito mormorò Toby ciò indica che la terra non ha ancora incominciato il suo raffreddamento la città galleggiante continuava intanto ad avanzare passando fra il vastissimo canale della grande canaria e l'isola di puerto ventura col grave pericolo di urtare contro le innumerevoli scogliere che erano sorte dopo l'ultima eruzione del tenerifa poiché le onde erano diventate meno tumultuose ponendo le due isole due barriere insormontabili ai furori dell'atlantico il capitano ed i suoi compagni si erano alzati una luce intensa rossa come quella dell'aurora boreale scendeva dall'immenso cono tingendo le acque di riflessi sanguigni lo spettacolo era sublime ed insieme spaventevole vortici di fumo pure rossastro ma che di quando in quando avevano dei bagliori sinistri lividi come se masse di zolfo ardessero entro il cratere si stendevano al di sotto delle tempestose nubi turbinando sulle ali del vento le bombe continuavano a grandinare con un fragore di tuono schiantando ed incendiando le antichissime selve mentre i torrenti di lava dilagavano come un mare di fuoco ho veduto una volta il vesuvio disse brandok quello però era un giocattolo in confronto a questo titano la città galleggiante sempre sospinta dalle onde era entrata nella zona illuminata pareva che navigasse su un mare incandescente i vetri della cupola riflettendo i bagliori del vulcano proiettavano fino in fondo alla città una luce così intensa da far impallidire quella delle lampade a radium i forzati che non potevano indovinare di che cosa si trattasse urlavano spaventosamente senza che nessuno si occupasse di spiegare loro da dove provenivano quei bagliori intensi era troppa l'ansia o meglio l'angoscia che si era impadronita del capitano e dei suoi compagni per pensare a quelli che gelavano entro la gigantesca massa d'acciaio l'urto stava per accadere tenerife non era che a poche gomene ed i cavalloni continuavano a sospingere la città galleggiante con grande impeto avrebbe resistito si sarebbe sfasciata era quella la domanda che tormentava tutti senza trovare una risposta erano allora le due del mattino il vulcano avvampava e tuonava sempre con crescente furore pareva che tutta l'isola ardesse i tre americani il capitano il pilota ed i due forzati si erano sdraiati sulla cupola tenendosi stretti alle traverse le onde che si rovesciavano attraverso il canale non cessavano di muovere all'assalto di quel colossale ostacolo che impediva loro di stendersi liberamente giungevano una dietro l'altra a brevissimi intervalli sollevando dei formidabili frutti di fondo d'improvviso la città galleggiante si sollevò per parecchi metri con un rombo assordante poi si rovesciò su un fianco adagiandosi verso la spiaggia che era improvvisamente comparsa dopo l'ultimo colpo di mare una parte della cupola si spezzò con immenso fragore rovinando nell'interno della città con jiao ed il giovine forzato che si trovavano disgraziatamente da quella parte i tre americani il capitano ed il pilota più fortunati erano riusciti a balzare a terra in tempo arrampicandosi velocemente su per la spiaggia dirupata prima che l'ondata di fondo ritornasse all'assalto il mare in quel luogo offriva uno spettacolo orribile i cavalloni arrestati bruscamente nella loro corsa impetuosissima montavano all'assalto dell'isola con un frastuono spaventevole in mani colonne di spuma si rovesciavano col fragore del tuono contro le rocce sgretolandole polverizzandole la città galleggiante urtata da tutte le parti cozzava e tornava a cozzare contro la costa l'enorme cassa di metallo che per lunghi anni sullo scoglio a cui era stata vinta aveva sfidato impunemente le rabbie dell'atlantico a poco a poco si sfasciava dall'interno salzavano urla orribili i forzati vedendo l'acqua rovesciarsi attraverso la cupola semi infranta scappavano da tutte le parti per non morire annegati dal formidabile assalto delle onde sono perduti disse il capitano che si teneva aggrappato ad una roccia a fianco di brandok lo credete chiese questi con voce commossa nessuna costruzione umana può resistere a simili cozzi fra mezz'ora e forse meno le pareti metalli che si apriranno e nessuno di quei disgraziati si salverà non possiamo tentare nulla per strapparli alla morte chiese toby che si trovava dall'altro lato del capitano che cosa vorreste fare se scendiamo le onde ci porteranno via senza che possiamo recare nessun aiuto agli abitanti della povera città mi si spezza il cuore nel vederli morire tutti in quel modo supponete di assistere al naufragio d'un bastimento l'oceano vuole di quando in quando le sue vittime ed a noi quale sorte sarà riservata chiese brandok non lieta di certo se non giunge in nostro soccorso qualche nave rispose il capitano domani ci troveremo fra i leoni le tigri leopardi i giaguari e non so come ce la caveremo signori miei perché è appunto su quest'isola che hanno radunate tutte le belve feroci capaci di difendersi da sole e quindi in grado di conservare la loro razza e non avete che la vostra rivoltella nient'altro signore corriamo dunque il pericolo di terminare il nostro viaggio nel ventre di questi ferocissimi e sanguinari abitanti purtroppo non avremo da rimpiangere la sorte toccata agli abitanti della città sottomarina potremmo forse invidiarla rispose il capitano intanto l'enorme cassa d'acciaio spinta e risospinta dalle onde che non cessavano di investirla continuava a urtare con un fragore infernale contro le rocce della costa e da piegarsi le grosse vetrate si spezzavano e l'acqua precipitava come una fiumana nell'interno le grida dei disgraziati che annegavano nel fondo senza potersi sottrarre in modo alcuno alla morte a poco a poco diventavano più rade e più fiocche mentre invece il vulcano rombava e tuonava formidabilmente gareggiando coi fragori della tempesta ad un tratto la città fu bruscamente sollevata da un cavallone mostruoso e completamente rovesciata il suo fondo coperto di alghe di incrostazioni marine apparve per un momento in aria poi la massa intera fu inghiottita e scomparve sotto le onde coi suoi morti ed i suoi vivi se venerano ancora è finita disse il capitano che per la prima volta apparve un po commosso d'altronde anche se fossero sfuggiti per ora alla morte non si sarebbero salvati più tardi dalle vendette della società una buona bomba di silurite lasciata cadere da qualche vascello aereo li avrebbe egualmente affondati per punirli della loro ribellione che cos'è questa silurite disse toby un esplosivo potentissimo inventato di recente che vi polverizza una casa di venti piani come se fosse un semplice castello di carta rispose il capitano signori vedo ergersi sopra di noi una roccia che mi pare sia tagliata quasi a picco volete un buon consiglio affrettiamoci a raggiungerla prima che sorga l'alba anche qui non corriamo alcun pericolo osservò brandok le onde non giungono fino a noi potrebbero però giungere le belve caro signore rispose il capitano la scalata a questo scoglio non sarà troppo difficile per una pantera o per un leopardo seguitemi o più tardi ve ne pentirete nessuno fuorché il capitano cui nulla sfuggiva aveva prima di allora notato che un po più indietro si innalzava un piccolo scoglio di forma piramidale che aveva i fianchi quasi tagliati a picco e che poteva diventare un ottimo rifugio contro gli assalti delle innumerevoli belve che popolavano la vasta isola i tre americani comprendendo che la loro salvezza stava lassù quantunque si reggessero appena in piedi dopo tante veglie alle quali non erano abituati seguirono il capitano ed il pilota la luce intensa proiettata dal fiammeggiante vulcano permetteva di scegliere la parte meno difficile per dare la scalata al piccolo cono le pareti però erano così lisce che il capitano cominciava a dubitare molto di poter raggiungere la cima quando scoperse una specie di canale piuttosto ristretto coi margini coperti di sterpi che saliva rapidissimo ma che tuttavia poteva servire coraggio signori disse vedendo che i tre americani non ne potevano proprio più un ultimo sforzo ancora quando sarete lassù potrete riposarvi tranquillamente aggrappandosi agli sterpi ed aiutandosi l'un l'altro dopo venti minuti riuscirono a raggiungere la cima del cono il quale era tronco la piattaforma superiore era piccolissima però poteva bastare per cinque uomini se avete sonno dormite disse il capitano ci incaricheremo noi di vegliare fino allo spuntare del sole non correremo nessun pericolo le belve sono troppo spaventate dall'eruzione per pensare ora a noi questa notte non lasceranno i loro covi ne ho bisogno disse brandok che era diventato pallidissimo come se quel supremo sforzo lo avesse completamente accasciato io non so che cosa mi prenda le mie membra tremano tutte ed i miei muscoli sussultano come se ricevessero delle continue scosse elettriche è la seconda volta che mi succede questo ed io provo i medesimi effetti disse toby lasciandosi cadere al suolo come corpo morto una buona dormita vi calmerà disse il capitano voi avete provate troppe emozioni in così pochi giorni il dottore scosse la testa e guardò brandok che sussultava come se avesse qualche pila dentro il corpo questa intensa elettricità che ormai ha saturato tutta l'aria del globo e alla quale noi non siamo abituati temo che ci sia fatale mormorò poi noi siamo uomini d'altri tempi nonostante i fragori del mare i ruggiti del vento ed i boati formidabili del vulcano i tre americani avevano chiusi gli occhi addormentandosi quasi di colpo erano già tre notti che non dormivano più e solo il capitano e il suo pilota abituati alle lunghe veglie potevano ancora resistere a quella lunga prova quel sonno benefico durò fino alle otto del mattino e forse chissà quanto sarebbe durato se il capitano non li avesse svegliati con delle vigorose e replicate scosse l'uragano era cessato ed il sole già alto lanciava i suoi ardenti raggi sulla verdeggiante isola che un tempo era stata una delle più splendide perle dell'atlantico in mezzo a quella terra ubertosa ricca delle più splendide piante dei tropici campeggiava immenso gigante il vulcano dal cui cratere uscivano ancora immense lingue di fuoco e nuvoloni fittissimi di fumo che oscuravano il cielo tutte le foreste della montagna ardevano contorcendosi sotto le strette delle lave che scendevano giù senza posa tutte le pianure che si estendevano fino sulle rive del mare con leggere ondulazioni erano coperte da superbe foreste di palme di cocchi e di banani nessuna casa però nessun pezzo di terra coltivato cittadelle e villaggi erano scomparsi sotto quella vigorosa vegetazione è questo l'impero delle belve feroci chiese brandok che si era un po' rimesso dai suoi sussulti nervosi sì signore rispose il capitano io non le vedo però quelle terribili bestie non desiderate di vederle signore o non tarderanno a giungere avete ragione capitano disse il pilota non tarderanno eccono laggiù alcuni che fanno capolino fra i cespugli che circondano la roccia ci hanno già fiutati e si preparano a riempirsi il ventre con le nostre carni là guardate il capitano e di tre americani seguirono con gli sguardi la direzione che il pilota indicava col braccio e non poterono trattenere un brivido di terrore trenta o quaranta animali dal pelame fulvo e dalle folte criniere nerastre s'aprivano il passo attraverso i cespugli avvicinandosi alla roccia che serviva da contraforte al cono è un branco di leoni esclamò il capitano ecco dei brutti vicini che ci faranno passare un terribile quarto d'ora potranno giungere fino a noi chiesero toby e holker che erano ben più spaventati di brandok potrebbero tentare l'assalto dalla parte della fenditura rispose il capitano fortunatamente il passaggio è stretto e non potranno presentarsi più d'uno per volta avete abbastanza palle per arrestarli chiese brandok per sei rispondo io in quanto agli altri fate raccolta di sassi di macigni di tutto ciò che può servire come proiettile ve ne sono nel canalone presto signori non vi è tempo da perdere i cinque uomini si erano lasciati scivolare attraverso la spaccatura dove vi erano non pochi macigni staccati dalle rocce dagli acquazzoni con uno sforzo supremo ne trassero parecchi sulla piccola piattaforma allineandoli di fronte all'imboccatura del crepaccio avevano appena terminata la raccolta quando i leoni già abbastanza stanchi di guardare i cinque uomini da lontano si mossero salendo la roccia ruggivano spaventosamente e mostravano i loro denti aguzzi mentre le loro criniere salzavano un grosso maschio di statura imponente dopo aver lanciato un ruggito formidabile che parve un colpo di tuono superato il contrafforte si cacciò nel canalone piantando le unghie nelle fenditure della roccia risparmiamo finché si può le munizioni disse il capitano aiutatemi a lanciare questa bomba signori incanalarono un masso del peso d'una quarantina di chilogrammi che poco prima avevano insato non senza fatica fino alla piattaforma e attesero il momento opportuno per scaraventarlo il leone insospettito da quella manovra si era fermato ma poi spinto dalla fame ed incoraggiato dai ruggiti dei suoi compagni ricominciò ad arrampicarsi il capitano che teneva pronta anche la rivoltella elettrica attese che si fosse spinto bene innanzi poi gridò gettate la pietra violentamente spinta innanzi rotolò giù per la spaccatura con rapidità fulminea e piombò addosso alla belva la quale in quel momento si trovava in una strettoia colpita alla testa da quel proiettile di nuovo genere stramazzò fulminata ostruendo col suo corpo il passaggio non era però un ostacolo sufficiente per quei saltatori che non s'arrestano nemmeno dinanzi ad una palizzata alta tre o quattro metri un altro leone che si era subito dopo gacciato nella spaccatura senza essere veduto dagli assediati troppo occupati a sorvegliare le mosse del primo annunciò la sua presenza con un formidabile ruggito balzare sopra il corpo del compagno e precipitarsi all'assalto fu cosa ad un sol momento mancava il tempo ai difensori della collinetta di scagliare un nuovo masso fortunatamente il capitano aveva la rivoltella si udì un leggero sibilo e anche la seconda fiera cadde con una palla nel cervello bravo capitano gridò brandok gli altri leoni resi più prudenti si erano fermati poi si erano messi a girare e rigirare intorno al cono empiendo l'aria di ruggiti intanto sul margine della foresta altri animali erano comparsi vi erano delle tigri dei leopardi e dei giaguari e cosa strana pareva che fossero in buone relazioni poiché non si assalivano reciprocamente come forse avrebbero fatto se si fossero trovati nelle loro selvenatie probabilmente il continuo contatto li aveva persuasi a rispettarsi reciprocamente conoscendosi quasi d'eguale forza è certo però che non dovevano rispettare quelli più deboli per non morire di fame la nostra situazione minaccia di diventare disperata disse il capitano quando anche riuscissimo a distruggere i leoni eccola altri animali non meno pericolosi pronti a surrogarli vi avevo detto signori che avremmo rimpianto la fine dei forzati era meglio morire annegati piuttosto che provare gli artigli ed i denti di queste belve l'oceano ci ha risparmiati per condannarci ad una fine più miseranda poteva inghiottirci che cosa ne dici tu pilota il marinaio non rispose con una mano tesa dinanzi agli occhi guardava in alto con una fissità intensa ebbene pilota sei diventato muto chiese il capitano un grido sfuggì in quello stesso momento dalle labbra del marinaio un punto nero nello spazio un vascello aereo chiese il capitano facendo un salto non so comandante se sia un grosso volatile o qualche soccorso che ci giunge in buon punto guardate bene mentre io tengo d'occhio i leoni brando che di suoi compagni si erano pure voltati guardando in aria un punto nero un po allungato che non si poteva confondere con un uccello aquilo condor e che si ingrossava con fantastica rapidità fendeva lo spazio ad un'altezza straordinaria come se volesse passare sopra l'immensa colonna di fuoco e di fumo che irrompeva dal cratere del pico d'eteide sì un vascello un vascello urlarono tutti ecco la salvezza che giunge in buon punto rispose il capitano sparando su un terzo leone che si era deciso a muovere all'attacco il vascello volante scomparve per qualche istante fra i turbini di fumo poi ricomparve abbassandosi rapidamente aveva puntata la prora verso il piccolo cono e si avanzava con l'impeto di un condor ci hanno scorti e si dirigono verso di noi gridò il pilota tenete duro alcuni istanti ancora comandante i leoni come se si fossero accorti che le prede umane stavano per sfuggire loro tornavano all'assalto mentre parecchie tigri e parecchi giaguari sbucavano attraverso i cespugli per prendere parte anch'essi al banchetto umano il capitano vedendo un'altra belva incanalarsi nella spaccatura non esitò a consumare un'altra palla ed essendo un valente tiratore anche questa volta non mancò il bersaglio e tre disse ve ne sono però ancora quindici o sedici senza contare tutte le altre bestie che pare siano ansiose di assaggiare un po di carne umana d'altronde non hanno torto sono molti anni di certo che non gustano di questi piatti un quarto leone dopo aver mandato un ruggito spaventevole si scagliò pure attraverso la spaccatura balzando sopra i cadaveri dei compagni ma non ebbe miglior fortuna i naufraghi della città sottomarina sicuri ormai di venire raccolti dal vascello volante il quale ingigantiva di momento in momento avevano cominciato a far rotolare i massi raccolti scagliandoli in tutte le direzioni per arrestare non solo lo slancio dei leoni bensì anche quello degli altri animali quella grandine di massi ebbe maggior successo che i colpi di rivoltella del capitano le belve spaventate avevano cominciato a indietreggiare spiccando salti giganteschi per non farsi fracassare le costole coraggio signore gridava il capitano il quale di quando in quando sparava qualche colpo di rivoltella ricacciamo queste canaglie affamate nella boscaglia e la tempesta di massi e di ciottoli continuava furiosa specialmente entro il canalone dove cercavano di insinuarsi le fiere essendo quello l'unico punto vulnerabile del piccolo cono quella lotta disperata continuava da parecchi minuti quando una voce sonora ed insieme imperiosa cadde dall'alto tutti a terra il capitano aveva alzati gli occhi il vascello aereo una bella nave tutta dipinta di grigio fornita di immense eliche stava quasi sopra di loro obbedite gridò tutti si erano affrettati a sdraiarsi senza chiedere nessuna spiegazione un momento dopo una palla rossastra non più grossa di un arancio cadeva all'estremità del canalone dove leoni tigri e giaguari in pieno accordo si erano radunati per tentare un ultimo e più formidabile assalto del cono si udì uno scoppio terribile che fece tremare le rupie che sollevò una immensa nuvola di polvere era una piccola bomba di quella terribile materia esplosiva che il capitano del centauro aveva chiamata silurite che era esplosa in mezzo alle belve alzatevi signori gridò la voce di prima ormai non vi sono più belve intorno a voi brandok fu il primo a balzare in piedi gli effetti prodotti da quella minuscola bomba erano spaventevoli metà della roccia che serviva di contraforte al cono era saltata e degli animali non si scorgeva più alcuna traccia il potente esplosivo aveva polverizzato tigri leoni e giaguari come sarebbe possibile una guerra con simili bombe mormorò l'americano dieci vascelli volanti basterebbero per distruggere in dieci minuti la più gigantesca città del mondo il vascello si abbassava dolcemente mentre il suo equipaggio lanciava una scala di corda il capitano del centauro fu il primo ad afferrarla e da spingersi in alto dove un uomo barbuto e molto tarchiato lo aspettava sorridendo con le braccia aperte thompson esclamò il capitano del centauro quand'ebbe scavelcata la murata pherson esclamò l'altro dandogli una buona stretta di mano all'inglese ti cercavo da una settimana tu la notizia che dei furfanti si erano impadroniti della tua nave è giunta in inghilterra ed in francia sai che avevano osato assalire delle navi marittime chi quelli che t'avevano preso il centauro e che cosa è successo di loro sono stati affondati da me con una mezza dozzina di bombette alla silurite a 200 miglia dallo stretto di gibilterra e la mia nave è saltata insieme a loro non volevano arrendersi bah il governo inglese mi ricompenserà disse il capitano del centauro alzando le spalle preferisco che ripose in fondo all'atlantico piuttosto che abbia a diventare una nave pirata chiedo ospitalità per me e per questi signori che mi accompagnano dove vai e in francia benissimo è sempre un bel paese quello brandoc toby holker ed il pilota erano pure saliti sulla nave il primo però appena messi i piedi sul ponte fu preso da un tremito così intenso che per poco non cadde addosso a holker che cosa avete signore chiese il capitano del centauro brandoc non rispose subito era trasfigurato e pallidissimo i suoi occhi assai dilatati pareva che gli schizzassero dalle orbite ed i muscoli del suo viso sussultavano in modo strano che cosa avete dunque signore ripete il capitano questo vascello va elettricamente è vero chiese finalmente l'americano con una voce così alterata da far stupire tutti sì signore ora comprendo toby il dottore non diede alcuna risposta egli era fermo in mezzo al ponte della nave e fissava una grossa lampada a radium con uno sguardo vitreo simile a quello che si scorge negli ipnotizzati anche egli era estremamente pallido e tremava come se subisse di quando in quando delle scosse elettriche che cosa hanno questi signori chiese thompson non lo so rispose il capitano del centauro che pareva vivamente impressionato è già la seconda o la terza volta che li vedo tremare così chi sono dei signori americani che fanno il giro del mondo in quel momento holker si avvicinò a loro i miei amici non sono abituati all'intenso sviluppo di elettricità che regna su queste navi disse ai due capitani fateli trasportare nelle loro cabine e cerchiamo di raggiungere la terraferma al più presto vi offro mille dollari se domani giungeremo a lisbona forzeremo le macchine rispose thompson e più che potrete disse holker che appariva assai preoccupato s'avvicinò a brandok che si era appoggiato alla murata di babordo come se fosse incapace di starsene ritto senza un sostegno che cosa vi sentite signor brandok gli chiese con accento premuroso non so balbettò il giovine provo un tremito strano ed un turbamento inesplicabile mi hanno colto appena ho messo i piedi su questo vascello si direbbe che il mio cervello riceva delle continue scosse quando ero sul cono invece provavo un benessere straordinario è la grande tensione elettrica che regna qui che vi produce quegli effetti signor brandok quando saremo a terra il vostro tremito passerà il giovine scosse il capo con un atto di scoramento poi disse con un soffio di voce io e toby siamo uomini d'altri tempi quattro robusti marinai presero il giovane americano e toby sotto le ascelle e li portarono nelle cabine di poppa adagiandoli su dei comodi lettucci temo che questi uomini siano perduti mormorò holker ai loro tempi l'elettricità non aveva ancora preso un così immenso sviluppo che cosa accadrà di loro io comincio ad aver paura il giorno dopo prima del mezzodì il vascello volante imboccava il tago ed entrava a tutta velocità nella capitale del portogallo brandok e toby si erano a poco a poco tranquillizzati però non parevano più i due allegri amici di prima sembrava che una profonda preoccupazione turbasse i loro cervelli e dalla più piccola emozione il tremito ed i sussulti dei muscoli li riprendevano il signor holker che cominciava a spaventarsi li fece condurre alla stazione dove aveva già noleggiato uno scompartimento speciale 25 minuti dopo i carrozzoni partivano entro il tubo della linea sotterranea con una velocità di 200 chilometri all'ora la traversata della spagna si compì in sei ore senza scendere in alcuna stazione holker che vedeva i suoi compagni aggravarsi sempre più aveva fretta di giungere nella capitale francese per consultare uno di quegli scienziati sulla malattia che li aveva colpiti e che poteva forse avere altra origine al mattino del giorno appresso scendevano alla stazione della capitale francese raddoppiata ormai per superficie per popolazione in quei cento anni e diventata una delle città più industriali del mondo l'aria della grande capitale satura di elettricità a causa del numero infinito delle sue macchine elettriche non fece che aggravare le condizioni di toby e brandok furono condotti in un albergo in preda al delirio il signor holker sempre più spaventato fece chiamare subito uno dei più noti medici a cui raccontò ciò che era toccato ai suoi disgraziati amici non dimenticando d'informarlo della loro miracolosa risurrezione la risposta che ne ebbe fu terribile quantunque gli ostenti a credere che questi uomini abbiano trovato il segreto di poter dormire un secolo intero disse il medico né io né altri potranno salvarli sia l'elettricità intensa a cui non erano abituati o l'emozione prodotta dalle nostre meravigliose opere il loro cervello ha subito una scossa tale da non guarire mai più conduceteli fra le montagne dell'alvernia nel sanatorio del mio amico bandin chi sa forse l'aria vivificante di quelle vette potrebbe operare un miracolo lo stesso giorno il signor holker con due infermieri e i due pazzi saliva su un vascello volante noleggiato appositamente e partiva per l'alvernia un mese più tardi egli riprendeva solo e triste la ferrovia di parigi per far ritorno in america ormai aveva perduta ogni speranza brando che toby erano stati dichiarati pazzi e per di più pazzi inguaribili tanto valeva che non si fossero risvegliati dal loro sonno secolare mormorò il signor holker con un lungo sospiro prendendo posto nello scompartimento del carrozzone io ora mi domando se aumentando la tensione elettrica l'umanità intera in un tempo più o meno lontano non finirà per impazzire ecco un grande problema che dovrebbe preoccupare le menti dei nostri scienziati fine del capitolo diciottesimo fine de le meraviglie del 2000 di emilio salgari grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti